Buongiorno a tutti, siamo qui perché le portate di attività preparano gli attività del futuro e gli attività del futuro non necessariamente saranno proprio uguali agli attività del passato avranno poca possibilità di stare seduti in studio all'aspettare la telefonata del committente ma dovranno integrarsi sempre più nei processi di costruzione dello spazio, della società ed anche nei mercati produttivi ed economici della società per questo ci siamo voluti interessare, ci interessiamo di molte questioni che sono intorno all'architettura che devono stimolare gli abitetti dal ciclo, l'energia, alle migrazioni, al territorio, all'apitare eccetera ma ci interessiamo anche di un tema che è più al centro di tutti i temi perché il tema della produzione è spostamento, lavorazione, smantimento, consumo, distribuzione del cibo il cibo è territorio per noi, il cibo è spazio, il cibo è città, il cibo è spazio pubblico il cibo è architettura, il design è pianificazione ma il paesaggio è proprio intrinsecamente quindi il risultato di tutto questo è la definizione dei nuovi paesaggi per questo abbiamo messo in piedi questa ricerca che è stato molto grazioso da finanziarci vi saluto a tutti e abbiamo pensato che da questo potrebbe nascere un programma di ricerca più ampio europeo per il corso dei pari padri che sono qui presenti con noi e molti anni fuori dall'Italia e per aprile giornata abbiamo invitato due rappresentanti importantissimi di quello che è l'anello di confluzione tra la scuola e il territorio la scena dove tutto questo succede il nostro direttore Ferozco e il presidente che era il CUP anche gli e i tuoi figli il CUP è il partner dell'università che vivono e lavorano nel dicembre quindi è la catena di conti di carta cioè quando abbiamo conti di carta la catena di trasmissione di trasmissione tra quello che si studia e quello che poi il mondo si aspetta da noi o che il mondo ci può dare certamente noi dal mondo dobbiamo più insegnare e dobbiamo imparare quindi io vi passo l'intera parola penso che sarà sempre da fare il benvenuto e poi noi andremo avanti Allora, buongiorno a tutti oggi sarà un'interessante giornata di lavoro e di studio sul tema che sta al centro di molte nostre attività di ricerca vi do in anticipo una notizia ed anche un appuntamento il 14 luglio per conto della regione Marche per conto della regione Marche qui ad Aspoli ci sarà una giornata di nuova Marche su questi temi e sul lancio dei bandi legati al settore agroalimentare con la società di servizi Assam praticamente della regione quindi ci saranno tutte le aziende del territorio si parla di 100-120 invitati selezionati e un pomeriggio di una giornata di lavoro su sei tavoli che riguarderanno di più risparati che però sta al centro il tema dell'innovazione cioè come l'agricoltura e tutto quello che ne consegue nel mondo intorno all'agricoltura praticamente può sfruttare tutti i temi legati all'innovazione tecnologica e digitale e quindi come dire saranno presentati anche i bandi di ricerca regionale ed europei cui partecipare la regione questo sarà il terzo appuntamento a livello regionale che il primo si è tenuto a Pone il secondo a Pesero e il terzo siamo riusciti a farlo avere qui presso la nostra scuola quindi sarà il terzo di adesso proprio ieri abbiamo fatto l'ok chiaramente ve lo faccio personalmente l'invito su queste cose detto questo questo tema appunto del cibo e del paesaggio ormai è un tema come dire che influenzerà tantissimo non soltanto la qualità della vita delle persone ma anche la qualità dell'ambiente in cui noi viviamo c'è un problema per preservare tutte le questioni legate alla biodiversità perché il cibo è legato anche alla capacità come dire di non mangiare cibi OGM oppure non locali ma che vengono come dire dall'altra parte del mondo è inutile richiamare la polemica di Petrini il fondatore quando dice che uno deve avere le fracole in ogni momento dell'anno o non venire dall'altra parte del mondo e quindi con tutto quello che c'è di consumo per il trasporto e per appunto la produzione e l'altra cosa fondamentale praticamente è questa questione del chilometro zero il chilometro zero vuol dire è uno dei mantra di queste problematiche cioè produrre raccogliere distribuire vendere e poi anche scarti dei prodotti che vengono appunto dal cibo a chilometro zero significa che non essere delle filiere corte che è un po' cosa che può dire che è la cosa più semplice ma la cosa più complicata possibile perché poi alla fine questa distribuzione di questi beni in questo circolo che deve entrare all'interno di queste cose e avere i suoi ritorni economici e qui si aveva tutto lo spazio che noi come scuola di architettura potremmo aprire che va dall'attrezzare spazi pubblici e privati su queste questioni dalla modalità di distribuzione della mobilità con cui avvengono i suoi ritorni io in questo cosa parlo molto dal punto di vista dei corsi di design perché ci interessiamo tantissimo su queste cose ad iniziare a progettare oggetti dispositivi strumenti per la mobilità strumenti per la distribuzione in nuovi supermercati cioè oggi di pensare il supermercato pop non come così com'è ma un supermercato a chilometro zero ha una concezione della distribuzione degli spazi delle modalità e delle apprezzature che stanno dentro che è completamente diverso da quello che ci sono prima telefonare da casa con un atto con il telefonino ordinare al supermercato e andare al supermercato e prendere questi oggetti presuppone proprio una logica completamente diversa dell'uso della distribuzione degli spazi e delle attrezzature l'ultima cosa che vorrei fare e lo faccio anche in relazione visto che c'è i nostri colleghi del scienza e tecnologia e del corso di scienza della nutrizione o che mi rinforzo adesso non ho detto bene il titolo del corso di studio che è estremamente importante perché loro si interessano appunto della qualità anche attraverso la nostra scuola di scienza e di scienza vecinaia e la qualità dei cibi degli aspetti non tradizionali anche questo ha un ruolo fondamentale non soltanto dal loro punto di vista come dire di biologi non solo come chiamare di nanodisti di esperti dell'alimentazione ma anche qui come dire c'entra moltissimo tutto il problema legato alla produzione tra virgolette animale c'è stato due o tre anni fa un numero molto interessante e più archetico che forse non posso consigliare se non ve lo ricordate dove c'era un fascicolo dedicato all'edilizia legata appunto all'agricoltura e anche qui non posso non sottolineare tutto anche dal capo di vista dell'agricoltura sui farm building cioè sugli edifici che a loro interno producono anche cibo che alimentazione io personalmente ho fatto un bel concorso in Inghilterra che è stato segnalato e premiato proprio provato in Lombra c'è un'area libera a fianco che è stato pubblicato come mi ha meraviglia il list non lo sarei mai immaginato dove c'è un'area abbastanza grande vicino al tower building dell'edificio del comune di Londra dove c'è appunto il ponte London Bridge anche che è il libro che presupponeva che quell'area fosse destinata ad edifici che producessero alimenti cibo a chilometro a zero e quindi è un tema trasversale io sono contento che questa iniziativa sotto appunto la direzione del professor che facevo animato da Lundis e di Gigocia venga fatto perché è un tema molto interessante è un tema che di solito gli artidenti lo prendono molto trasversalmente e non come dire in piena come dire frontale perché poi appunto si parla di paesaggio di biodiversità eccetera però poi i risultati non è che si vedano sempre insomma a questo punto di vista quindi sono anche molto curioso sui risultati di questa di questa ricerca e spero che l'auspicio come ho detto a questo giorno questo possa essere l'inizio di un percorso che ci permette di presentare un progetto a livello prego grazie grazie perfetto allora che sono uno spazio ideale dove l'acricoltura si mischia con il turismo con la produttore con la produzione con la manifattura in questo momento in questo momento sono esposti dei materiali divizi infatti con un riciclo di materiali alimenti ci sono anche mangiabili i materiali divizi in questo tema quindi tra noi e il territorio c'è il gruppo quindi sentiamo come viene risalmente io spero come ostacolo ma come soggetto di cerca di svolgere questa funzione di collegamento una volta siamo salvi una volta siamo famigli e poi cucinare il pane un petto non a noi una grande grazie grazie all'università grazie a tutti voi di averci coinvolto al professor Danutis che mi ha voluto coinvolgere cercare di fare il possibile per quello che ci comprete io sono particolarmente contento perché credo che senza tema di esagerare che questo sia tema centrale del futuro della nostra territoria della nostra economia della nostra qualità della vita il paesaggio e il cibo in una società in un territorio nel quale l'agricoltura svolge una funzione importante pensare di vendere un prodotto agricolo senza andare in paesaggio è una teoria anche perché infatti i prodotti agricoli è strettamente legato al paesaggio e il turismo esperienziale che è il canale di torno è legato alla qualità del territorio quindi sono cose che giustamente certo che sto ciò sono strettamente legate incidibili da questo punto di vista quindi affrontare queste cose con rigore scientifico e qualità di sapere e capacità di discernere i problemi per poi riaggregarli in strategie coerenti è un contributo importantissimo che l'università può dare al territorio ricevendo esperienze in un territorio nel quale per quello che a mia conoscenza i decisori politici sono molto sensibili a questo argomento in realtà io vi porto la mia esperienza concreta come consigliere provinciale abbiamo due o tre anni fa abbiamo fatto di tutto quello che era possibile fare per bloccare lo scempio dei banchi solari che si andavano diffondendo abbiamo ricevuto diffide di risarcimento da un improprio per le rite che abbiamo assunto il consiglio provinciale siamo stati diffidati personalmente voi ci impedite di fare questa cosa noi ci riserviamo di fare di causa personalmente per risarcire i dati ma noi l'abbiamo fatto perché avevamo confinito in questo fatto come si fa a mettere nel distretto del vino i parchi sopari è ovvio che chi non riesce a vendere un territorio se non lo devi quello è uno scempio e quello ha una funzione c'è una legislazione europea tutto si può tutto cammina in tutto tutto si può fare ma ci deve essere la tutela del territorio come base di una vita di questo e quindi questa cosa è stata affermata quando ancora non c'era la normativa che poi è diventata che ha spostato sui detti il posizionamento dei bandelli solari e questo quindi da questo punto di vista c'è un territorio che è molto sensibile da questo punto di vista considerando un aspetto un altro piccolo episodio personale ma è molto significativo nel 2011 subito dopo il 2001 no 2001 che era il Torri Gemelle 2001 tanti anni fa ero di allora l'assessore l'assessore a Piafotri del Comune di Ascoli andai un convegno in vecchianti sugli effetti un tema per noi esoterico ma per me fu un'illuminazione gli effetti dell'11 settembre sul turismo e lo gastronomico era sfizioso il tema e c'era il presidente dell'Eno che noi diciamo che abbiamo un altissimo livello e ci spiegavano quello che in Toscana avevano subito un danno terribile perché? perché chiaramente i turisti non ci spostavano ma fu l'occasione per capire qual è la strategia di marketing del Chianti per la vendita dei prodotti e dei prodotti che erano gastronomici in generale all'americano che compra una bottiglia di Chianti e a Boston la paga 100 dollari 200 dollari 300 dollari non vendevano un vino non serviva vendere un vino e quindi vendevano un'esperienza vendevano un pezzo di Toscana e gli dicevano guardate che il vino che tu paghi 300 dollari 200 dollari lo ha racconto Achille Bonfigli sulla vigna del foggio vieni a conoscere Achille Bonfigli alla vigna del foggio e in vero perché se tu vieni come un turista parte dal posto e mi va nel Chianti trova la vigna del foggio e trova la vigna del foggio che lo aspetta e gli racconta tutto quello che ha fatto perché la racconto come la racconto come la coltivata e quindi ecco accanto alle grandi cantine dei Chianti i grandi biebbi a 5 stelle cioè il turismo che diventa quindi è fondamentale cioè è decisivo per il futuro di un territorio quello che noi stiamo discutendo in un territorio 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 nel quale la più grossa catena catena di alberbi non ha un dipendente anche qui la più grossa società di trasporti non ha non ha assoluto un solo conducente Uber nella quale in una società nella quale la più grossa società di comunicazione non ha un solo dipendente Whatsapp è quello la strada adesso la collocazione la notizia di due giorni fa Microsoft ha raccontrato LinkedIn che significa che tutta la collocazione del personale quindi la capacità di stare sul mercato non sarà più gestita dai centri paghi ma sarà prete che gestirà questo quindi la più grossa società di collocazione del personale non avrà una sede locale è questa la strada sulla quale stiamo camminando quindi anche noi che la gestione soprattutto spingi dalla necessità della scassiare risorse credo che questi processi dovranno avere un approccio di condivisione di trasparenza delle informazioni e delle risorse quindi buon lavoro grazie grazie davvero di questa cosa di questa possibilità di stare qui e soprattutto le curiosità di sapere come va a finire questa storia grazie grazie se non c'è una cosa solo se non lo so no ma anche ve lo chiedo io se è possibile come così attore così come l'ottimo lavoro del cycle sulle attività produttive non utilizzate eccetera io volevo ricordare che il territorio del vicene in particolare è un territorio di una grande evoluzione agroalimentare che purtroppo sta in crisi non dispiacerebbe che ci fosse anche un riferimento una mappatura infatti è stato fatto un convegno bello buono e ben fatto dove praticamente c'è stata questa cosa appunto dal punto di vista del territorio agroalimentare una prima pazzura secondo me quello è molto importante e l'ultima cosa adesso vi manderò questo link per i 14 potremmo anche organizzare un tavolo di lavoro specifico su queste cose perché la regione va a trovare proposte concrete grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti che si chiama Bicetro di University Press, nella quale può essere il repository di quello che la ricerca, i convegni, la ricerca universitaria fa per fare in modo che questa ricerca possa camminare anche su veicoli quadricicenti tradizionali. Se voi ritenete di voler utilizzare, un volume di Bicetro di University Press potrebbe essere dedicato a questo studio se voi lo ritenete utile. Se ritenete invece di utilizzare altre forme, nessuna gelosità, ma sappiate che c'è questa possibilità e la vostra disposizione. Grazie. Allora, io potrei gritarvi i cabassizi da lungo, ma non lo farò per lasciare chi viene fuori da solo. Volevo dirvi che adesso entriamo in fase operativa della mattinata. Questa mattina parleranno, mi pare che comincia Luca per preparare gli interventisti, gli interventi. Luca Chietti che ci parlerà di la news, dal punto di vista dell'attivazione e dell'impatto dell'attivatura. Arianna Domona parlerà di allevamenti sostenibili per la riattivazione delle aree agricole abbandonate. Alberto Felici di Unica parlerà di sostenibilità delle produzioni primarie e costiere. Marco D'Annunfis di Unica parlerà di Designing Land and Sea Farms, perché la sua lingua tra è l'impresa. Luca D'Annunfis di Roma 3 parlerà di una nuova crime, corti urbani e agricole, per la definizione del campo urbano. Il campo urbano è una delle più importanti esperienze artistiche degli anni Sessanta, per chi se lo ricorda. E' fatta da un ruolo di Eri, insieme a Pistole Ettore e un sacco di altre cose. Poi abbiamo i nostri, come dire, invited speakers, come Mladen Kiosic, che è dell'Università di Zagartia, che è un insieme a Luca Corolae. Benvenuti. I would ask you, eventually, to do some social touch, some stuff for them. Scambi il posto con il tuo posto, potresti dire come dire. Poi c'è Sara Cipollini, sempre del nostro Dium Unica, che parla di agricolture urbani e di area di costa area. Cioè, quindi capiamo che in quest'area di margine, la margine a cruz si parla inglese. Alle 12, chiudiamo la mattinata con un invito che abbiamo porto a fare a un gruppo di artitecchi che negli ultimi anni ha lavorato in maniera, come dire, interessante e diversiva su questo tempo. Su molti temi, tra cui quello del Cipollini, guardiamo un simpatico ristorante che era forse l'unica presenza vitale nella mostra al Biennale di Cipollini, di tutto sommato, c'è il World Bank in Tank. E il World Bank in Tank sono qui la presentata da Gianluca Sorci, che ha una doppia qualità, cioè quella di rappresentare un World Bank in Tank, ma di essere partigiano, se non sbaglio. Quindi, diciamo, è dei nostri, in qualche modo, e ci racconterà i lavori che hanno fatto con gli studenti nell'ultimo anno all'EPH, all'Università di Cipollini 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 di Cipollini. E poi, la mattinata, ci si chiuderebbe così e passeremo la mano a Marco, che credo, Francesco, come dì. Se tutte le questioni di attività che ci sono, io non vorrei aggiungere molto. Noi abbiamo fatto una mostra al Maxi, contemporanea all'Expo, e come dire, che mi ha detto che mi sta molto diversa, quello dell'Expo, che si chiamava Food dal Bucchiaio al Mondo. Cioè, abbiamo chiarito che con la questione di Cipollini volevamo prendere il carico di tutte le scale del nostro lavoro. Un po' come, è lo stesso dispositivo che ci faceva molto in Insight, perché il reciclo è un tema che attraversa tutte le scale del progetto. Allo stesso modo, il Cipollini è una questione che attraversa tutte le scale del progetto e tutti gli aspetti della nostra vita. Quindi, fornisce enormi quantità di spazio comune tra gli architetti e il mondo. Per questo, ci piace molto il Cipollini, ovviamente, a me fa venire in mente anche, appunto, dall'iconografia religiosa, fino ai lavori degli artisti contemporanei. Quindi si espande in ampiezza, ma si espande anche in profondità questo tema del Cipollini. E quindi sono molto contento che siamo riusciti a farlo di Italia centrale, come in fondo era stato per il Cipollini, anche del lavoro della facoltà, che forse aveva cominciato a lavorare sul riciclo prima, molto prima, della mostra del Maxi. Però, diciamo, e in fondo siamo qui anche a testimoniare la vicinanza anche del lavoro. Facciamo un museo, sicuramente il museo potrebbe essere un partner se facciamo questa domanda di ricerca europea, che è stato un partner per la ricerca sul riciclo, che adesso lo scopro tutti, perfino non ci sia tozzi, come dire, per le scienze di quello. Va bene. Allora, io inviterei Luca, chiederei ai nostri due questioni di ex di questo posto. Io credo che abbiamo un nuovo camera, perché non mi volevo essere un partner. Volevo, diciamo, mentre tu mi fai partire, vi ricordo la composizione del gruppo di ricerca che il direttore prima, sommariamente, il suo apologo sul Cipollini, ha sommariamente elucato e la ricerca è composta oltre a realizzare il sottoscritto che è il visore. Poi ci sono Luigi Coccia, Marco Annunti, Sparieta Stritti, Massimo Berriccioli, Valeria Pozzonetti, Luca Bracchetti, Sara Cipolletti, senza l'albine di niente, Luca Cicciolovetti, Giulia Menzietti, Caterina Migucci, e anche per paio sono Scarlo Fischi, Alberto Felici, Fra Calofano, Alberto Mosconi e Laurello. Quindi è un errore, un ricerca interdisciplinare all'interno dell'Ateneo, ma speriamo, a partire da queste basi che mettiamo su oggi, di far espandere la crosta di vostro. Buongiorno a tutti, sono l'attore del Cipolletti, Luca Cicciolovetti, Luca Cicciolovetti, in questo centro di ricerca di architettura, non riferisco alla scuola di architettura, bensì sono un ospite, questo è il pregio in più, ovviamente, ovviamente, in questo punto di vista, infatti l'intrazione non è collegata, è l'architettura, bensì è la biologo naturalista. In questo intervento, quindi, cercherò, sembrasmettere, come il biologo naturalista percepisce e valda un paesato. Non lo percepiamo noi, noi essenzialmente lo percepiamo come un paesaggio vegetale e, per valutarlo, andiamo a misurare essenzialmente quella che è la distanza che c'è tra il paesaggio che osserviamo in un determinato momento, in un determinato territorio, con il paesaggio che, invece, avremmo dovuto osservare, quando nel caso di un momento non ci fossero state determinate comunicazioni, nel tempo e nello spazio. Anzi, con poca luce, lo sforzo che ho fatto per rendere la mia presentazione in un'architettura possibile. Com'è strutturato il mio intervento? Inizieremo con i bisogni storici per inquadrare un po' la tematica che sarà realizzata in un intervento. Quindi andremo a considerare degli elementi di lettura lettuale, di lettura lettuale, di lettura lettuale, di lettura lettuale, che ci danno la possibilità di leggere le ragioni e le comunicazioni, e quindi presenterò qualche dato di lavoro che abbiamo fatto in un'area della comitettaria Stripiceno, che abbiamo pubblicato di recente, e quindi presenterò anche il lavoro fatto di questo primo step del progetto Stripiceno. Quindi presenterò una carta della naturalità territoriale e, come diciamo, affiancata anche a un'elaborazione di un'indice firmetto di naturalità territoriale. Quindi prendiamo in considerazione una veloce portazione della qualità dell'agricoltura e quindi definiremo anche quelli che sono gli obiettivi che andranno a caratterizzare il lavoro della seconda parte dell'agricoltura. Quindi, ho detto prima che io ho una naturalità che è un paesaggio, essenzialmente che è un paesaggio vegetale, e lo vede come un sistema, diciamo, dinamica complessa. Questo vuol dire che la composizione, la struttura, il funzionamento di questo paesaggio vegetale, sono influenzati dai processi dinamici, molto complessi, che prendono l'indice essenzialmente dalla natura e dall'uomo. Quindi, di origine naturale e di origine antropica. E questi processi si concretizzano in differenti scale. Scale sia spaziali che temporali. Per quanto riguarda l'aspetto temporale, diciamo, per le modificazioni del paesaggio vegetale, che sono attenuto un po', due sono i momenti luciati, in particolar modo in Europa. Due sono i momenti luciati. Uno è un quadrato neolitico, ovvero quando è stata scoperta l'agricoltura e quindi si è passata anche all'agricoltura. l'altro alla fine della seconda guerra mondiale. Nell'intervento tra questi due momenti c'è stato il massimo volume tra l'uomo e l'uomo, ovvero in questo momento si è creato quello che è definito, in livello europeo, un paesaggio culturale. Perché? Perché c'è stata comunque una graduale interazione tra l'uomo e la natura. Successivamente, invece, alla seconda guerra mondiale, le dinamiche sono cambiate, sia da un punto di vista della velocità con cui queste dinamiche andavano evocemente, sia proprio della velocità. Infatti, dopo la seconda guerra mondiale, con l'obiettivo di industrializzazione, con l'urbanizzazione, quindi la meccanizzazione dell'agricoltura, praticamente si è assistito anche a uno spopolamento, almeno nella nostra zona, delle aree più marginali, quindi dei comparti, delle aree più marginali e di montane. Il popolamento ha visto la popolazione spostarsi da queste aree, ordinarie e montane, alle aree più anorati e di costa. Cosa ha comportato? Ha comportato che il comparti montano si è innescato un processo di libera e conduzione del paesaggio vegetale, che non in gergo tecnico la chiamiamo successione secondaria. La successione secondaria non sarebbe nient'altro che è un processo dinamico delle comunità vegetali che si instaurano, in cui viene ad essere interrotta una determinata pressione su un'area del territorio. E quindi viene l'evoluzione da delle comunità erbace a delle comunità arbustive e, se la potenzialità lo permette, a dei sistemi. Nelle aree invece di pianura si è assistito all'incremento dell'urbanizzazione, quindi all'urbanizzazione del paesaggio vegetale e, nel contempo, anche il desistemente. Quindi poi vedremo meglio nei dettagli. Per quanto riguarda il comparto montano, per quanto riguarda i elementi che possiamo utilizzare per la lettura di questo comparto, anche se il produttore non ha dato possibilità proprio benissimo riederevo, però questa è una montagna una montagna di Piove, del San Gesù, dove, diciamo, le elementi più scure rappresentano la copertura di Bosco. Questa copertura di Bosco noi la vediamo estendosi fino a un certo punto di questa montagna, però sappiamo anche che questa montagna non va oltre circa 1.800 metri in quota. E, da quelle che sono le nostre conoscenze, per un comparto, diciamo, appenninico, fino a 1.800 metri in quota, teoricamente avendo la potenzialità per il Bosco. Quindi, se non ci fosse stata qualsiasi modificazione, noi avremmo dovuto vedere, sino alla porta, diciamo, del 1.800 metri, sino al mare, praticamente una copertura completa di Bosco. E quindi ci rendiamo conto anche, andando in giro con la macchina, di quanto distante possa essere la realtà che noi stiamo osservando, dovendo modificare, rispetto a quella che, invece, naturalmente, sarebbe stata la potenzialità. Poi, la modificazione, se andiamo un po' più nel dettaglio, la possiamo, in realtà, condurre a quello che è l'allevamento di, essenzialmente, nell'area di Olini, e le testimonianze del territorio sono, appunto, queste costruzioni tipiche che vengono definite caciare, dove, appunto, i pastori si ricordavano e trovavano l'ipopero e erano alibili anche la posizione del suo marchio. Questa è un'altra cosa che va a essere premata che vedrà la posizione del torrente castellano proprio sotto alle Ascoli ed è in corrispondenza della quale partenza di Orcella. Questa è una foto dei primi anni del centro e dove possiamo vedere il punto finale della flutazione dei legname. cioè, il legname che veniva tagliato per la produzione, ovviamente, di materiale di unioso per la reazione di nuovi spazi per l'alliamento, praticamente, questo legname veniva attraverso la corrente del torrente castellano portato fino ad Ascoli e quindi, in mezzo, vediamo che ci sono, dopo, queste x che erano dei tronchi messi ad hoc per restare tutti gli altri tronchi che venivano portati fin qui, appunto, dalla corrente del torrente castellano. e questo, poi, ci dà l'idea di come venivano utilizzati in questi territori. Per quanto riguarda il dato studio, facendo il riferimento a un impatto interno ordinario a passo lontano, riporta, appunto, dei grafici che sono abbastanza emblematici che fanno riferimento appunto da una pubblicazione fatta nel 2012 relativa alle modificazioni del paesato vegetale avvenute nella seconda metà del secolo scorso nell'avvenimento perduto, ovvero, una porzione del territorio di Ascoli Viceno, per esempio, di torni comuni di Abbasanta, Acqualtra, Montegal, Montego, Montego, dove a sinistra vediamo il trend demografico che ha distinto questi comuni, decisamente con la tendenza o con quello che è il trend demografico con questa linea che riporta, appunto, la popolazione del comune di Ascoli Viceno. Nel comune interno, quindi, in corrispondenza della fine della seconda vera mondiale, che ha sentito un pechettino decremento della popolazione, popolazione che si è spostata, appunto, verso l'area e quindi anche nel comune di Ascoli Viceno. Cosa ha comportato questo spopolamento? Ha comportato, per quanto riguarda il passaggio digitale, un'istanza a una consistente e aumento di lavoratura a bosco. A discargo di cosa? A discargo essenzialmente dei coltivi, ovviamente con lo spopolamento dei coltivi della mamma di Marbandoro, anche, quindi, dei bascoli e degli angoschi. E questi sono i vermenti che rimangono ad oggi visibili su questo territorio. Infatti, un elemento sono i cedili rurali che, in tempo, erano caratterizzati essenzialmente da una malvicoltura di sussistenza, questo è qualcosa di bocchetta, come in Pasanta Terme, ad oggi completamente abbandonato, e altri elementi sono alcune delle altre costruzioni come questa nella grotta del Pedrieno, sempre in pressiva alla gamma in Pasanta Terme, che, in tempo, vengono utilizzate come rivolgo dei pastori e dei bustaioli e anche dei vestiame e delle risorse che vengano lavorate in locale. Cambiando con la scala di osservazione si riesce a vedere qualcosina, possiamo vedere che a sinistra è stata, diciamo, si parla più meno, comparata con lo stesso territorio, cioè, il territorio che ha inizio circolto ad una quadra di 320 metri, con la stessa quadra che ha inizio di una quadra che ha inizio quindi, e 955 da questa comparazione vediamo come la cultura costata in questa foto tutta la parte più scura abbia praticamente di meno 50 anni quasi più sotto da quest'area da quest'area era indita prima a Pasquero dei Corini quindi, ad oggi con l'abbandono visto la stabilità è cessare quindi il bosco ha voluto prendere diciamo una nuova nuova espansione. Nell'altra foto scendendo di cuota nel prezzo che era un capiglione circa 200 metri di cuota vediamo come questa comparazione evidenzia una un aumento ovviamente del bosco ma anche un'ogenizzazione dei coltivi perché qui vediamo una forte facilizzazione dei coltivi lì qua i coltivi sono diventati molto più omogenei e essenzialmente sono trasformati quasi tutti gli insegnanti all'eccezione capo per l'impianto di capo di capo per quanto riguarda le immaginazioni che hanno caratterizzato il nostro territorio nel comparto basso ordinario costiero si fa riferimento all'abbandono dell'allevamento estensivo ovviamente a favore dell'allevamento portensivo in capannone dedicato e quindi all'avvento della continente urbana e della superficie occupata dall'inserimento dell'industria e dal punto di vista dell'agricoltura si è assistito a una trasformazione di quelle che erano piccole aziende agricole essenzialmente a produzione familiare verso aziende a produzione industriale e quindi si è assistito spesso e volentieri alla trasformazione di culture puri specifiche e culture monospecifiche questa da una parte ovviamente ha portato a cosa ad un implemento molto consistente di tutte quelle sostanze che sono necessarie per rendere possibile un attivo culturale ma quello appunto intensivo per quanto riguarda la valutazione come dicevo prima la valutazione è stata fatta attraverso dell'adorazione di una carta e attraverso dell'adorazione di un indigeno questa carta di naturalità è stata elaborata a partire da cosa? a partire dallo shapefile dell'elaborazione del 2012 questa scelta è stata effettuata in funzione del fatto che questo dato è un dato essenzialmente accessibile per gli ambienti e risulta un dato omogeneo a livello europeo quindi anche nell'occhio del comparato dei territori di paesi di terra è una risorsa abbastanza importante per quanto riguarda invece l'elaborazione abbiamo riclassificato le classi di copertura del orientico in funzione della distanza che queste classi hanno rispetto a una situazione impotenziale e quindi sono state individuate sei classi di copertura per quanto riguarda la valutazione del valore di naturalità per quindi la definizione di un di cese è fatta di sempre da questo e della donazione è stata segnata ad ogni classe del corin un valore di naturalità che ha assunto valori dati poco più di 0 al 1 e ovviamente al 1 è stato assegnato per le protetture naturali che i valori prossimi a 0 come nel caso della classe 1.1.1 è stato assegnato appunto un indici di naturalità pari a 0.0 quindi si è proceduto al capo delle aree delle classi di copertura e per standardizzare il dato in un confronto tra territori differenti si è fatto riferimento alle percentuali rispetto all'area del territorio in mercato facendo poi la sommatoria di tutti i prodotti tra la percentuale di copertura e l'indice assegnato si ottiene il valore di naturalità questo valore può assumere diciamo questo indice può assumere valori che vanno a poco più di 0 a 100 ovviamente il valore prossimo a 0 il territorio è decisamente antropizzato e i valori prossimi a 100 invece il risultato è praticamente inizio naturale questo è il risultato della operazione cartografica che diciamo ricordiamo ad esempio la carta della naturalità per quanto riguarda la produzione di ascoli diciamo e qui vediamo queste sei classi di naturalità e queste sono invece dei classi di copertura per il polimento potremmo stare da occupare in queste sei classi a fianco di questo dato ci abbiamo riportato anche il valore numerico di naturalità quindi per quanto riguarda questo valore si attesta a 51.19 unità contro il 41.62 dell'intera del mare avendo il controllo strato del territorio inferente prendendo per esempio considerazione della provincia di Alcuna vediamo il valore di naturalità calcolato nel stato di ben ma di sotto il territorio della provincia di Ascoli dicemica abbiamo ottenuto il 49.2 contro il 41.62 e vediamo essenzialmente come anche la comparazione grafica utilizza una indicazione di quanto possa essere dominante il giallo rispetto a tutti dei coltivi in entrambi i casi comunque il colore illuminante quindi diciamo subito che la main force che agita su questi territori in questi anni è ovviamente l'agricoltura però l'agricoltura agita in maniera differente e sui territori differenti coltivi si difende coltivari e anche coltivi coltivi è tutto quello che fa riferimento all'agricoltura quindi frutte i miei se non è attivo se non è attivo non so se non è attivo viene definito come il prato pascolo quindi il prato pascolo viene assegnato indice di naturalità molto maggiore molto maggiore perché comunque sono delle aree aperte che svolgono un importante ruolo sia per quanto riguarda la diversità vegetale perché la vigna ha fatto un lavoro che ha coltivato non ricoltivato campo di grano non ricoltivato se è un po' di tempo che non è coltivato e è stato spassificato in maniera differente ovvero non più seminativo in maniera che è stato spassificato dal prato pascolo che è stato spassificato quindi per quanto riguarda poi invece la valutazione della qualità agricola qualche difficoltà in più c'è stata perché la qualità della ricoltura essenzialmente almeno nella mia idea volevo fare riferimento a in primis un supporto che potesse mettere in evidenza quelle che potevano essere ad esempio le produtture biologiche presenti sulle minori questo non è disponibile almeno in maniera dettagliata quello che può essere disponibile invece che ho trovato sono i dati relativi all'accentimento della ricoltura del 2010 nel Ministrat dove praticamente devono portare le superfici per esempio in biologico per comune di appartenenza per comune in quel principio ma anche per regione in quest'ottica è stata fatta una prima valutazione di questi territori quindi della regione Marche in termini di superficie di territorio condurto biologico rispetto al totale cultivato non biologico e quindi questo è un po' il risultato riassunto di questo per quanto riguarda i biologici della provincia vediamo subito che la provincia riasco di vicenda è una differenza di differenza in maniera significativa rispetto all'altra provincia che è in quanto la percentuale di biologico su la SAC per la SAC per la SAC si intende la superficie di ricola utilizzata si attesta intorno per quanto riguarda la SAC per la SAC per quanto riguarda la SAC invece al 1274 ben di sopra la SAC si attesta invece al 9% del territorio cultivato e condotto a biologico per quanto riguarda invece un approfondimento siamo andati a prendere in considerazione le varie biologiche culturali quindi tenendo in considerazione la produzione di cereali di fatale di fatale per quanto riguarda la produzione di olio biologico e di olio biologico si è andati a vedere quella che è la percentuale per esempio della vite nella provincia di Ascoli Piceno condotta a biologico e vediamo subito che la provincia di Ascoli Piceno si differenzia e si caratterizza per un imperimo forte nel biologico per quanto riguarda la produzione della vite e dell'odio biologico quindi produzione di olio biologico per quanto riguarda invece la provincia di Fermo di Macerata ma anche un po' in generale quello che succede in tutta la regione di Marche l'asse portante per quanto riguarda il biologico è quello della produzione di linee secchi unitamente anche agli ortile e alla vite e all'odio relativamente a questa carenza di un supporto cartografico che ci possa dare la possibilità di valutare appunto l'agricoltura in maniera più dettagliata quindi appunto sul territorio l'obiettivo della seconda parte del progetto sarà quello di andare ad inserire i dati che sono presenti appunto in questo censimento dell'agricoltura in specifici Reels in ambiente CIS in quest'ottica faremo poi una sovrapposizione tra questi Reels e la carta che abbiamo generato quindi la carta della naturalità e otterremo una carta che rispetto alla carta della naturalità a questo punto sarà una carta più complessa per quanto riguarda le zone attuali perché queste zone appunto saranno caratterizzate da dei valori degli indici numerici fanno riferimento appunto al tipo di cultura al grado di evoluzione a biologico e anche all'ingegneria della mente quindi alla quantità di carne per punta di territorio il dato di parte ulteriore obiettivo sarà poi quello di andare a mappare le aree che sono abbandonate ad oggi nell'agricoltura che potenzialmente potranno essere sfruttate per la diciamo l'incoraggiamento dell'allenamento estensivo per fare questo il dato di partenza che non sarà più quello del forino perché la scala dell'indagine per fare lo studio di lavoro è troppo diciamo grossolata e andremo a utilizzare invece l'uso del suolo regionale che è una scala più dettaglia che è una vicina e per fare questo sarà necessario isolare tutte le zone di prato del pascolo e quindi anche foto interpretare queste aree e quindi potremmo fare delle interrogazioni nell'ambiente GIS per andare a selezionare quelle che possono essere migliori da un punto di vista sia morfologico sia consigliare il sanitario quindi io ho concluso vi ringrazio grazie 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 allora io scusate comunque passerei alla seconda grazie grazie buone con l'ospitalità io sono un ingegnere tecnico argentino che è vivuta in Italia da 5 anni il mestruge è il uso efficiente e sostenibile delle risorse naturali cercando di utilizzarle al meglio per l'allevamento dei bestiame lavoro che ho fatto e faccio alcun altro sono stata invocata anche perché ho partecipato a un bando per concessione delle repubbliche della regione del Lazio per i giovani agricoltori io ho vinto uno dei dieci terreni che sono stati dati in bando sono messi in bandi per il novembre del Giovanile e vi racconto un po' come se questo qua era un uomino da razza perdinano, una razza perdinese che si alleva in Argentina che è una vacca mia, che si questo è il posto dove stanno questi animali e producono un 300 kg di carne a estero su questo terreno che non ha nessuna aggiunta e poi mi riscontro con i chiedi e iniziano tutte le discussioni allora, rispetto al bando le concessioni delle repubbliche i criteri di selezione era condizione essere giovane e si doveva presentare un piano di variazione aziendale ed erano tenuti conto anche il curriculum professionale il genere, l'impatto sociale l'impatto ambientale questo è più o meno il modo in cui loro ci hanno valutato come progetti e poi il punteggio, l'approvazione finale veniva fatta da un tavolo d'esperti che valutavano più precisamente il progetto delle valutazioni aziendale sono stati scelti dei progetti molto interessanti tutti con un tocco di innovazione e molti disciplinari tutti in agricoltura biologica e tra alcuni come vi raccomando c'era un progetto di cultura biologica collegato con la produzione zafferano e l'allevamento di umane allevamento biologico a domini di mare e mani in una zona del parco naturale azienda agricola multifunzionale con ventilazione biologica e turismo produzione di materie biologiche per Mense e Casino Unito allevamento della statunità con un po' scelamento razionale un altro progetto un parco agricolo che è un'azienda multifunzionale sempre biologica aperta alla comunità che può lavorare con la comunità e far diventare quel posto dei tutti e allora noi siamo tutti tutti noi i vincitori molto felici molto contenti di questo successo e pensiamo che sia la strada da continuare perché c'è tanto terreno da insediare ma solo dopo la concessione dei terreni abbiamo trovato che non si tratta di un terreno agricolo cioè quello che partecipa al nano non può pensare solo di essere un agricoltore deve pensare a repristinare un terreno agricolo è molto diverso di un terreno agricolo noi abbiamo trovato diversi problemi io parlo io parlo di alcuni dei problemi che abbiamo riscontrato in tutte le terreni che abbiamo preso c'è una mancata avvicinamento non un controllo ma un avvicinamento delle culture agricole che non ho messo il suolo senza nessun controllo in genere queste terre non sono veramente avardonate sono gestive nella illegalità e questo comporta una gestione totalmente pericolosa per il terreno la risolta suolo in genere è molto devastata perché non interessa nessuno controlla le continuazioni allevamenti non sono controllate perché sempre la tendenza è illegale ci sono diversi tassi di risa studi idrogeologica perché non ci sono delle opere e non c'è un progetto una pianificazione dell'uso della terra abbiamo riscontrato le parti archeologici senza valorizzazione e un punto molto grave diventano luoghi di aggregazione di attività illegali di scariche abusive con gravissime conseguenze sociali ed ambientali allora noi chiediamo consideriamo e vogliamo comunicare questo che le terre pubbliche abbandonate sono una risorsa sì ma hanno bisogno di un traccamento particolare di una considerazione particolare e qua mi permetto di fare un appello e consiglio una polemica che vuole essere non altro che costruttiva per le amministrazioni pubbliche orienti che spingeranno questi nuovi bando che dovranno uscire che mi augura tantissimo che tutte le regioni cominciano su questa strada abbiamo bisogno di un sopra luogo molto curato sul terreno che si mette in bando e deve essere pubblicato sul bando le condizioni del terreno che uno andrà a prendere non può essere sorpresa adesso adesso arrivare dentro del mio terreno e vedrete che sono delle cose che mi bastava fare una camminata nel terreno per sapere che a un certo punto non potete più camminare e insieme a questo bisogna stanchere i fondi destinati a ripristinare il fondo ci sono diverse problematiche bisogno di un pazzo carabili bisogno di un conte bisogno di bonifiche specifiche nelle discariche e tutto questo dovrebbe essere stato pensato un po' prima e poi come ultimo punto creare un gruppo multidisciplinare che pensasse direttamente a collaborare a lavorare in sinergia con i giovani agricoltori che vogliono fare agricoltura e per me è una cosa bellissima il fatto di avere l'ispirare un terreno avandonato perché sono ambientalista perché sono naturalista perché mi piacciono gli spazi naturali ma voi non so quanto potete sapere quanto sia difficile comunicare con l'amministrazione pubblica che non è solo la comunale ma la regionale ma la provinciale avere dei permessi non possiamo neanche prendere decisioni perché non so iniziamo proprietari il proprietario non è pubblico ma per tutto quello che si fa si deve fare tra le gara pubblica d'appalto non posso io contattare un'azienda per questo proponiamo un'assistenza sia tecnica legale che amministrativa e qualcuno che ci aiuta a comunicare con tutti questi enti bene il mio terreno questa è un passo pessimista e poi passo al progetto più più ottimista il mio terreno vi avevo detto sono 60 su esteri nel nord di Roma posizionato su una strada stradale bellissimo però al momento della concessione era occupato musivamente da una persona che lo tieneva da 50 anni che questa persona non lo utilizzava per l'agricoltura lo affittava a un agricoltore per cui questo signore preso un terreno nostro di tutti noi e lo affittava ad un agricoltore e prendeva i soldi di quei agricoltori per gestire così un'altra prima che ho trovato che qua è un sopralluogo c'è un fosso dopo 2 km di camminata c'è un fosso di 10 metri di profondità e 8 metri di larghezza non si può passare dall'altra parte e non c'è una strada che comunica con l'altra parte per cui ho un fondo intercluso a 35 e sto vedendo adesso come riesco ad arrivarci non esiste in fase corrente di norma perché l'accesso al terreno è tramite il terreno del vicino che fortunatamente non ha deciso di chiudere il trancello spero che non l'ho decita perché se no rimanga senza acceso proprio ai 62 detali e non esiste uno storico delle culture fatte e come sono state vicendate questo è importante perché quando si comincia un processo di rivalizzazione del terreno agricolo sarebbe buonissimo poter avere conoscere lo storico come è stato trattato per cercare di rispinare nel meglio nella miglior maniera per poter partire nel meglio di una comunità del nuovo e ecco il mio terreno non si vedete molto bella foto è bellissimo il colinare 82% di area seminativa pascolarberato e bosco questo sarebbe riscogliere il terreno molto strano è una grande serpente fino all'assù qua a questo punto c'è il fosso che mi impedisce di accedere tutto più l'altro che penso intanto inizio a lavorare inizio a lavorare con la parte della sezione del terreno alla quale ho accesso di quella che sta tutta quadrificata dal rosso poi vi racconterò che sono quei quadratini allora per raccontarvi che cosa voglio fare nel terreno faccio una piccola introduzione io allevavo in Argentina facevo consulenza di allevamenti in Argentina arrivato in Italia cinque anni fa arrivavo allo Stato Prado estensivo arrivato in Italia cinque anni fa prima ho pensato che non esisteva allo Stato Prado perché si vede poco poi infilando ne ho trovato che ci sono diversi ma nelle zone nelle zone a volte le parole in italiano ne scappano marginali e ho notato che questo tipo di allevamento si faceva con un pascalamento continuo che vuol dire lasciare i capi in una porzione del terreno per tanto tempo al massimo si ruotano due o tre volte all'anno per evitare tanto il calcestino però non si guarda agli effetti che questo tipo di allevamento provoca sull'ecosistema allora ho trovato da una parte passate tutti i danni di allevamenti e da un'altra parte problemi legati al tipo di pascalamento il tipo di pascalamento estensivo permette ai uomini di brucare sempre le stesse specie le specie più apacitivi alla fine di tante volte di essere brucare la specie si agota e muore lasciando spazio se lasciando spazio vuoto entra in un processore di desertificazione altrimenti la cosa che succede è che vengono le specie spontanee rinfestanti che non sono scelte tra i bovini per cui non brugate e guadagnano spazio riducendo sia la desertificazione che la evoluzione secondaria ecologica riduce l'aria utile del pascalamento tutto questo è nella situazione che io come mamma sono sempre a ricerca di eventi più sani più rispettosi dell'ambiente che abbiano un impatto minore sull'ambiente e ho trovato questo tra le altre mamme tra gli altri amici tra l'altro cioè tra dei consumatori una grave preoccupazione su quello che comprano e come viene fatto attualmente c'è un calo importante nel consumo di latte e nel consumo di carne parte di questo grande calo è dovuto anche a questa preoccupazione di che cosa mi stiamo mangiando la qualità l'effetto sociale l'effetto ambientale e il buono perché anche l'alentica non cambia non allora con tutte queste premesse ho pensato a un sistema di trasportamento che ho lavorato nell'argentina che si chiama trasportamento razionale è una tecnologia rivoluzionaria da quanto sia semplice che poi diventa molto complicata però in essenza è molto semplice è un tipo di tecnologia che utilizza al 90% cioè il 90% dell'energia utilizzata è quella culturita quella più sostenibile quella più economica e quella solare se cerca di diventare al minimo l'energia fossile approfittare sì l'energia solare tramite queste macchine che sono i ruminanti che riescono a trasformare materiali verdi che per noi non hanno nessun valore nutritivo in alimenti con un alto valore nutritivo le quattro caratteristiche importantissime di questo tipo di pascolamento sono che permette agli allevatori aumentare la quantità di capi a ettaro per cui nella stessa superficie aumentare la recettività aumenta la continuità dell'attività dell'allevamento migliora la qualità dell'ambiente tutelando il paesaggio la biodiversità e il benessere di animale e permette di offrire prodotti sani e di qualità a più consumatori diciamo che riesce a tutelare con tutta mente il guadagno dell'allevatore l'ambiente e la salute del consumatore come lo fa? lo fa praticamente suddividendo il terreno vascolabile ruotando gli animali in un modo particolare ma lo fa in un modo multidisciplinare puntando la funzione sui tre punti principali del pascolo che è la vita del suolo il cortico alboso e gli animali rispetto al suolo restituisce il materiale organico per la salute di azione di dolina che vengono distribuite in un modo diverso rispetto al passolamento continuo per cui l'effetto è molto evidente e aumenta la decenosi del suolo aumenta la vita del suolo non prevede fertilizzazioni non prevede riservo e non prevede toccare fisicamente il suolo per cui tutte le lavorazioni che si fanno in partenza perché poi non si lavora più si fanno a sodo o con la granza minima per quanto riguarda il cortico al posto si facilita l'evoluzione ecologica ma l'evoluzione primaria per cui le specie spontaniche che possono comparire diventano specie foragene perché vengono brucane quando ancora stanno in un estario vegetativo per cui appetibili per gli animali il fatto di concentrarli e di fare una realtà carne istantanea li obbliga loro a mangiare anche le specie spontanee e non diventano maledere perché poi toglie quello spazio del pascolo e l'animale rumiante è la fonte di vita dell'ecostruzione dell'ecosistema degradato adesso lo vediamo un po' e questo sistema si basa sulla perfezza che c'è bisogno dell'animale al vivolo perché è la fonte di vita e della ricostruzione degli ecosistemi degradati ricostituisce la fertilità con le deiezioni controlla le specie intestanti e il processo che vi ho spiegato prima toglie il materiale secco rimanente che fa più luce e migliora la vita delle piante il caldo pestio ha una funzione molto importante nella moltiplicazione che la saliva ha un effetto importante sul riccaccio dei vegetali ha una ispirazione antica il sistema la tecnologia ed è l'osservazione delle grandi mandrie dei vivori che stanno liberi che anche se hanno un grande carico animale un carico vestiano e per cui tanti animali a ettaro mantengono in equilibrio degli ecosistemi molto fragili come possono essere questionatica è un ecosistema molto fragile con un carico vestiano altissimo però non ha sofferto processi di desertificazione come mai perché nella natura questi animali tendono a stare tutti congregati per difendersi dei predatori e si spostano seguendo la produzione di foraggio loro in questo moro tutelano il suolo e tutelano dell'ecosistema quando noi invece abbiamo passato all'allevamento all'allevamento estensivo praticamente li lascia liberi ma non ci sono più i predatori per cui gli animali pascolano in un modo più aperto e l'effetto è totalmente contrario questo è un esempio sempre in Africa un sistema gestito con pascolamento razionale e un pascolamento estensivo e adesso vi saluto sono molto contenta perché pensavo che il mio intervento essendo vengo con un'altra rama poteva essere un po' scordinato con i vostri ho trovato che Luca e io parliamo più o meno di cose simili e ascoltando Achille Borfidi stamattina che diceva produrre più cibo in un modo sostenibile era la fine della mia presentazione casualità sono convinta che il pascolamento nazionale sarà una delle strategie per affrontare la sfida più grande la sfida tecnologica più grande del nostro settore che quella produrre più cibo nel rispetto dell'ambiente grazie grazie mille io penso che passiamo da Alberto Felici grazie benvenuto grazie allora mi avevano detto dieci minuti parlando di male ho attraversato il braccio ragazzi c'è stata tutta vedete allora noi allora innanzitutto mi spiro che devo scusare perché ieri sera avevano fatto il tempo a venire e per oggi che insomma sono presenti un po' a sprazza quelli che si chiamano i temi istruzionali del punto di vista sono i tassi del ordine che cambiano pregato il collo e che mi chiede è capitata tutta la materia e quindi devo un po' abbarcare l'arco quindi escluso di questa mia presenza così a spot allora io sono Alberto Felici sono della scuola di scienza di medicina di tecnica del nostro Ateneo seguo un po' più da vicino il mare la fascia costiera la traduzione costiera io per esempio c'era il professor Rosco da un punto di vista della qualità ma anche da un punto di vista essendo delle due cose non dico semplicemente legate ma con un'unicum del rapporto tra cibo qualità e amico noi non parliamo di un'idea non parliamo della foresta amazzonica parliamo di un'idea di un'idea antropizzata con un po' antropico quantitativo qualitativo beh dell'unico ma è determinato e parleremo delle soluzioni primarie costiere però una riflessione così ancora la voglio fare e per rendersi ben conto di ciò che è il mare dobbiamo un attimo capire quello che abbiamo qui sulla terraferra perché parlare di queste cose oggi qui nel Piceno in questa serie perché è un'idea che siamo più bravi non ci mancherebbe ma vedete le fonti documentali bianciche dicono che quella che tutti chiamano di età mediterranea si le dica poi non è quello che mangi economaggi che che stanno mangi quello di età mediterranea non è solo produzione e produzione e il rapporto della produzione produttiva da fungio documentali di cartiglia e da capo e secondo il geografo grande stravolo il primo secolo sarmato in questo qualcosa del genere i romani avevano l'anno imparato a mangiare il topo di scocci dove stavano vicendo perché qui fin da allora c'erano tutti quegli elementi in parte di testi dalla gallega che mi ha chiamato ceduto su come coltivare la raffazione in interazione con il territorio non a caso non a caso i romani pensate a questo tutte le strade consolarie hanno un nuovo consolo nel mondo la sabbia il nome di un prodotto che si mangia perché da questo che i romani chiamavano mare superum non andava solo sale in mezzo al sale con la salamoglia salamoglia ci andava a punere cosa ci andava anche con il cuore il nostro pesce eccetera eccetera e tutto questo perché questo è il legno rispetto ad altri posti da piccolo io dico di sì la sabbia mezza cucina perché perché allora l'uomo e ha saputo anche mantenere nel corso di secoli ha saputo istorare dei rapporti con il territorio tali da poter garantire non solo la sostenibilità ma la qualità dei colori che l'ha saputo di mantenere questo è quello che noi abbiamo parlato si dice le marche l'Italia è una regione le marche già non lo patrino è vero come dissi racconti il maggior dalla scorsa la tua missione sugli anni ma anche non più economico se andiamo a prendere i prodotti di nicchia per i locali per i buoni le marche in Italia non ragione e se andiamo a vedere dentro le marche vediamo che se ci prendiamo sulla parte sud del marche senza fare la dieta nuova se è per chiaro non siamo possibili e questo è quello che abbiamo intorno che abbiamo saputo per costruire pari pari andiamo a sostenibilità e produzione primaria di costruire io riprendo quello che è il messaggio che cercare di far passare passò credo all'annabore del progresso dell'inno dell'anno scorso l'evoluzione del mare di costruire sono delle attività fatte da piccoli imprenditori piccoli pescatori piccoli allevatori che sono situate nelle miglia che ci sono pensate ai nostri 8000 chilometri di costruire pensate a tutti questi piccoli caratteristiche caratteristici centri costrieri che sono il nostro maignite e mi rifaccio a quello che parte da posto per andare nel vigneto di Montigli indene a mare se vedete i bus turistici in un capite che laggiù è una mattina che si può giocare in un c'è l'unico consideriamo anche oltre che queste attività non solo sono le uniche consentite nelle aree marine protette eccetera eccetera il problema di parecchio eccetera sui bambi si impara si tramanda c'è una conoscenza del territorio che se non si lo conosce poi non riesce a farci la pietra sostenibile pari a quello che vi ho detto prima della terapia che sono cose che mantenere la sostenibilità che adesso ne parleremo di queste attività produttive primarie costiere non la pietra natural un'altra cosa significa mantenere in vita questi molti piccoli molti che hanno solo questi per questo attuometri non le coste di so parecchi so tanti e che noi abbiamo una nella quasi per cui le interna tutte queste piangere come si fa bene la sostenibilità significa due cose che la sanità c'è la sostenibilità ambientale e anche l'ottima della serie quanto peschi come peschi con cosa peschi cosa peschi ora non vi sto a fare l'elenco del fermo pesca delle taglie della moglie eccetera eccetera che di voi insomma ne avete sentito parlare insomma potete sapere di tutto e di più diciamo forse di meno un po' di meno facendo un quarto cinque messe di meno peschi non è assoluto ma il punto concorre un legno cosa legno quanto legno eccetera eccetera non è assoluto il punto è che comunque si c'è anche una sostenibilità economica perché se questo arriva a fine mese c'ho l'attività e mantengo la cultura eccetera 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 e sono i due nei quali in europea quando riesca è molto attenta nel prossimo ferro molto attenta perché lì si gioca questa attività si gestisce ci si gioca la riproduzione delle maggiori specie deve essere commerciali poi ci sono anche quelli che interessano commerciali che non per nessuno però fanno parte del sistema secondo me sarebbe importante di un e questo cosa lo questo comporta che se io sostanzialmente queste persone che ho 30 mesi devo dare al loro prodotto e qui voglio spendere due o tre mani scusate cosa lo posso almeno lei e a chi chiede per esempio proprio questa interazione cioè cosa possiamo fare perché questi qui o si pesano con l'idiusa allevando 22 eccetera 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 e solitamente sovraffolliamo questo piccolo tratto di mare che noi di subito non è andiamo a considerare con tutte le problematiche che ci sono il corso di master sulla gestione della fascia costiera andiamo avanti si occupano di questo di cercare di formare degli amministratori di condominio che non è un condominio che va gestito e che va anche pianificato da questo punto di vista come attività e come interazione delle varie attività ma se noi vogliamo dare un valore aggiunto occorre far sì che in questa filiera si parlava della filiera corta in questa filiera il o noi abbiamo qualche prodotto un uomo un indice e allora ci possiamo giocare a delle fatte se tutti dicono scrivono certificano e pubblicano guardiamo di quali prodotti e lo straduto paghiamo di recato di contagione ci vogliamo noi ma è chiaro che se parliamo di filiera di filiera corta occorre comunque che un valore aggiunto vale il più possibile verso la condizione e qui salto di biancazzi e come dire io ho della roba griffata delle borse griffate delle cinture griffate tutto il bello griffato e decido di venderlo sopra prima asciugamano sulla specie non che non succeda è chiaro che se noi dobbiamo dare un valore aggiunto al prodotto è importante anche il contesto in cui noi proponiamo questo valore aggiunto al prodotto è chiaro che se noi diciamo abbiamo prodotto da bufitte tra virgolette poi anche quando lo proponiamo dobbiamo fare in modo di avere qualcosa e qui gli accrediti hanno capito il volo che corrisponda alla qualità del prodotto che noi abbiamo perché altrimenti se lo continuiamo come se vendessimo qualcosa all'alto di strada posso fare una grande anche se non vorremmo chiedere di più è un contesto e questo contesto sia pubblico che pubblico deve fare in modo di organizzare spazi per magari magari di altri fare come è successo qualche parte che hanno allenato progettato e costruito sotto una strada che si sbaglia da leggere la scala degli ambienti di scala che non ci ha successo anche in vicino a noi ma anche in privato le singole socezioni che chiaramente non possono andare a l'antico come sim ma comunque consorzziarsi unirsi ma poi c'è bisogno perché c'è anche questa necessità e ti dicono ma poi che facciamo dove no questo qui è un luogo e quindi cercare di far sì che produttore e consumatore parli con la stessa lingua e una di queste lingue d'attività cultura ma perché parli di un buono perché non è determinato questo ma c'è un altro sveglio che magari c'entra un po' l'uomo diciamo come spazi con quello che abbiamo parlato che detto in ora ma la sostenibilità come facevano i miei contagi di no faccio un po' di tutto prendo un po' un po' coltano un po' dolore un po' un po' formaggio un po' di un po' dolore eccetera 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 un po' di tutto e arrivo a fine mese a fine anno a fine stagione a fine racconto a fine del primo domani questo è quello che si sta cercando di fare e promuovere sponsorizzare e finanziare un po' della mese ossia cercare di far sì che quello che tu fai non lo fai solo per bene ma che lo interfacci lo colleghi al turista che cerchi di diciamo di catturare questo che vengo se io vado nel vigneto di Bompini e mi trovo davanti al posto di dieci metri di una brava cosa Bompini lo saluto prende per il giorno al posto prendete la prima giornata idem e quindi tutta questa apertura che significa anche imparazioni di essere adattate eccetera 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 quindi e questa c'è ci sono altre cose che magari qui dentro girano più di più di più meno meno sono importanti io un po' di tempo riuscire a fare attività di pescatorismo e poi insomma si aveva un problema e questo pescatore era talmente entusiasta di questa cosa che gli poteva fare vedere proprio cioè com'era la vita dura il mario sa che quando il turismo si lavava le vigno la bacola era un bacola c'è che la gente da dove poi si si mangia allora si guarda io voglio far vedere la realtà è vero ma gliela voglio fare in un altro modo c'è tutto il sistema di raccoglienza non so dove farmi mettere a sedere perché la bacca non è quindi con questi due aspetti uno è la pianificazione e dei collegamenti che io posso farlo in due parti ma io non sarei come non è il lavoro se non non le fanno in forma che sono per farlo bisogna collaborare insieme due se il futuro è un valore aggiunto spostato verso la oppure in questo si è fatto in una casa il più idonea possibile e questo è quello che c'è dentro posso fare in se se deve fare questo di stato e stato siccome non è che ne fa dentro in casa ma ne fa su un mezzo oppure questo qui sia anche il futuro adattato oggettato ma non il futuro non c'è dito a fin di questo tempo e non perché negli ultimi tre anni un decine del sottocento di pesca hanno chiuso 6.7 erano in questa vita e quando si si e tu e ce la fare io questo tuo e questo la mia disabilità e come tempistica che succeda la prima ciao grazie grazie di portare avanti questo progetto di ricerca perché appunto non spero a ricadere tanti concetti ma sostanzialmente il paesaggio dentro cui ci muoviamo ci muoviamo e svolgiamo le nostre esperienze è profondamente diceva prima qualcuno è profondamente antropizzato di fatto è totalmente antropizzato potremmo quasi dire e questa antropizzazione ovviamente ha assunto forme anche radicalmente diverse da un modo di essere costruito un ambiente che ha saputo armonizzarsi con la monocologia del territorio ma anche valorizzare determinati aspetti ha invece dei modi delle modalità che hanno devastato per certi versi territori come le grandi deforestazioni per far posto alle produzioni agricole intensive agricole queste sono immagini che in qualche modo mi danno l'idea di che cosa significa qual è l'impatto della produzione degli alimenti sul pianeta sono le grandi deforestazioni che si hanno in Colombia e in Brasile per far posto appunto alle produzioni alimentari dall'altra parte invece oggi c'è una mutata sensibilità rispetto alle produzioni ambientali quindi di fatto la produzione del cibo la trasformazione del territorio viene sempre più vista come la possibilità di creare un nuovo paradiso per l'uomo cioè di conciliare le proprie attività per l'uomo ma di conciliare le proprie attività come le trasformazioni territoriali all'interno di questo paesaggio vuol dire ritrovare riconnetti recuperare un rapporto per certi versi idillia che è una cosa che viene evidentemente molto enfatizzata da chi questo mestiere la commercializzazione della vendita dei territori delle produzioni dei territori lo fa di mestiere e quindi il tema della nostra ricerca è il tema in un luogo della valorizzazione del cibo qual è il luogo logico dentro cui le trasformazioni i processi di trasformazione che l'uomo mette in atto per costruzione del territorio che l'uomo mette in atto per vivere meglio assume delle forme specifiche sta assumendo sempre più delle forme specifiche e soprattutto sta tornando in qualche modo da ricoinvolgere i territori locali in quel processo quella filiera che per lungo periodo si è allungata che va dalla produzione del bene alimentare fino attraverso la distribuzione fino al consumo e al decidio degli scarpi in questa filiera evidentemente noi che abbiamo riconosciuto tre momenti specifici almeno nella filiera così come la conoscevamo prima nella specializzazione che ha caratterizzato la globalizzazione della filiera alimentare ci sono degli spazi della produzione ci sono degli spazi della distribuzione poi ce ne sono altri invece deputati al consumo di cibo e questi tre per lungo tempo via lì sono andati man mano radicalizzandosi diventando sempre più specializzati diventando sempre più anche poco collegati tra di loro ecco in tempi recenti questo fenomeno ovviamente lo spazio in particolare il nostro gruppo di ricerca sta lavorando sugli spazi della produzione alimentare ovviamente è anche una delle attività più connaturate all'esistenza dell'uomo ha avuto le sue rappresentazioni le sue costruzioni hanno rappresentato in maniera anche utopica la dimensione la forma degli spazi della produzione fino alle più avanzate che sono appunto le biofarm o le stampanti 3D di cibo quindi vediamo che questo processo è un processo che ha seguito per certi versi l'evoluzione tecnologica e tutto questo però poi ha trovato anche un modo soprattutto se lo rapportiamo alla dimensione che ha assunto il fenomeno della viticoltura dei territori soprattutto ormai globali perché poi è partito pure in California o poi in Argentina c'è una zona dell'Argentina che ormai è una grande wine farm e per quanto riguarda questo tema le esperienze che si sono evolute hanno di fatto dimettinato all'interno degli spazi della produzione la presenza del progetto di architettura come se in qualche modo il progetto architettonico per lo più molto spesso l'architettura di Granistà ma non necessariamente perché poi vediamo questa condizione diffusa anche nei nostri territori fatte da architetti altrettanto vigniosi che in qualche modo lavorano hanno lavorato e lavorano su questo tema il tema delle cantine delle cantine con spazi la questione che si pone a mio avviso e in me coniamo a mio avviso a mio avviso è quella di quali altri spazi oltre a quelle delle cantine che ormai conosciamo e che ormai abbiamo imparato in qualche modo a riconoscere come oggetto di una proposta progettuale di una recolazione progettuale da parte del pensiero architettonico quali altri spazi ci sono in questo mondo che sempre più si va allargando che si è diventato sempre più determinante nella configurazione e nella qualità dell'ambiente di cui oggi le società e le comunità vivono e poi gli altri spazi possono essere oggetto di un progetto architettonico questo lo dico per due ragioni da un lato perché bisogna recuperare uno spazio del progetto architettonico che interessa le trasformazioni che ha a che fare con le trasformazioni dell'ambiente dall'altra parte è anche perché dobbiamo imparare come diceva una vettura pippo dobbiamo imparare anche a capire quali sono le questioni che oggi la società pone e oggi la società a mio avviso non pone pure la questione la pone in maniera sbagliata secondo me la questione dell'alloggio sappiamo che ci sono milioni di appartamenti utilizzati se si vuole risolvere la questione dell'alloggio basta ci vuole solo una volontà politica per farlo cioè prendere questi alloggi e darli a chi l'abitazione non c'è quindi riproporre e comunque anche su questo termine sono i temi che la cultura architettonica ha imparato ha elaborato degli strumenti ha riflettuto e quindi appunto manca esclusivamente una volontà di risolvere questi dettagli in questo caso invece ci troviamo di fronte a nuove questioni che la comunità e la società pone che è proprio quella di cui parla la prima Alberto cioè ci sono nuove forme di produzione nuove attività che stanno sostituendo in maniera in maniera sempre più frequente le attività produttive che eravamo abituati a conoscere non secondare no? la produzione di beni così come avevamo in qualche modo usi a considerare fino a qualche decennio fa fino allo scorso decennio e anche di questo sappiamo perfettamente che fino a anno fatto gli spazi della produzione intesa in senso tradizionale no? i capatoni i centri commerciali dall'altra parte ci sono si aprono invece tutta una serie di possibilità per il nostro lavoro per il lavoro vostro ragazzi che è in Italia da nuove forme di attività produttive che anche loro hanno bisogno di spazi l'importante è conoscere sapere che esistono capire quali sono gli strumenti quali sono le esigenze che queste nuove attività in qualche modo ottenono e allora in una prima fase ovviamente abbiamo visto prima il genoscopo di Jean Nouvel in Francia siamo andati a ritrovare un po' di queste architetture di questi architetti di queste architetture che hanno lavorato su programmi funzionali in un certo senso inusuali nel dibattito elettronico ad esempio questo 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 allevamento che si che si che è stato realizzato in Danimarca dal gruppo Lumo Architector che in qualche modo affronta la questione di un allevamento non banalizzato ma cercato di qualche modo di elaborare una rappresentazione architettonica di un programma funzionale e di un rapporto di relazioni con un contesto quindi certi versi ricordano molto le architetture di Asfund e comunque conferendo una dignità profonda una dignità assoluta a qualsiasi elemento di carattere anche banalmente funzionale che è un allevamento determina e quindi le piante sono delle piante di architettura non sono quei quattro fili che attualmente si vedono per quando ci si imbatte in dei progetti per le stalle che non so se vi è capitato mai infatti sono attualmente tre fabbricati che si inseriscono nel paesaggio devastandolo perché sono molto spesso sempre di più di capalloni che non vengono più messe nelle zone produttive che vengono sputate all'interno di un contesto paesaggistico spesso di grande e invece in questo paese vedete come le piante il progetto architettorico segue come dire ha una dignità conferisce una dignità a questo dispositivo spaziale e allora noi con alcuni cautaggi abbiamo provato molte le tessi fatte da ragazzi dall'automai un laureato un laureato che hanno voluto divertirsi che hanno cercato di divertirsi insieme a noi su questi temi abbiamo cercato dalle stelle alle stalle abbiamo cercato di approfondire un po' questo tema e capire in che modo in che modo c'era potevamo recuperare l'artitura poteva recuperare uno spazio poteva recuperare a sé degli spazi che oggi si aprono alla trasformazione in questo caso e qui secondo me questi due lavori in qualche modo mettono un po' in fila le cose che abbiamo ascoltato fino ad oggi da un lato questi sono i terreni abbandonati lungo la valle del tronto di proprietà della curia vescovile oppure vescovile è una dei più grandi proprietari che sono poche ma non continuano a mangiare più di terreni e quindi a partire da quest'idea cioè da un lato del riciclo non perché siamo partiti dall'idea del riciclo del riciclo dei territori in realtà ci siamo incontri della presenza di questo soggetto unico che controlla dei territori immensi nella valle del tronto e che la maggior parte di questi territori sono di fatto abbandonati non utilizzati oppure come ci spiegava Marina Mariana molto spesso utilizzati in maniera non razionale ecco e l'idea è stata quella di capire o comunque di elaborare di capire come l'architettura o un progetto un progetto unico potesse entrare in questi meccanismi allora ci siamo chiesti ad esempio quali potevano essere le esigenze per l'utilizzo di alcuni di questi territori e in particolare in questo caso Stefano ha lavorato su questa idea di individuare un ambito che bene si prestava per rimpiantare un allevamento di bovini su questa ovviamente abbiamo fondato una serie di indagini per capire sia da un punto di vista diciamo geomorfologico ma anche da un punto di vista di integrazioni con il paesaggio circostante per rendere in qualche modo più appetibile all'interpreazione di funzioni in questo luogo fino poi ad arrivare alla definizione di un progetto un progetto di un allevamento che è in qualche modo un progetto architettonico che lavora con determinati elementi stabilisce determinati rapporti con l'ambiente e sicuramente determina anche al nostro avviso delle qualità per certe versi non banali come abitualmente accade in queste occasioni ma di profonda innovazione nel modo di vivere ma dall'altra parte di offrire territorio e produzione ai fruitori queste sono ovviamente una serie di immagini e il fatto stesso che la produzione di vivere in qualche modo potesse diventare un po' l'icona di questo progetto e rappresentare un po' l'idea dell'innovazione ma anche in un ambito così dalle radici così profonde potrebbe essere innestata dall'altra parte sempre ragionando sul tema della produzione alimentare è emesso questa questione dello sviluppo blu che sempre più sta diventando un tema importante a livello europeo molte delle pillar della comunità europea lavorano su questo tema dal punto di vista energetico dal punto di vista alimentare dal punto di vista dei trasporti quindi c'è come dire un insieme un territorio molto vasto e interessante di possibilità di ricerca anche per quanto riguarda il risposto interettorico e quindi un entro da un lato la questione della produzione alimentare dall'altro quella dello sviluppo che abbiamo iniziato a ragionare su un altro di questi carotaggi su quali sono le forme produttive che oggi possiamo individuare a livello sia globale ma anche a livello locale che poi in qualche modo le nostre esperienze si praticano nel territorio medioadriatico italiano e in questo caso vedete in questa mappa sono riportate tutte le seafarms le fattorie del mare presenti nel mare adriatico e mentre vedete nelle altre immagini due tipologie diverse di fattorie blu cioè l'incanto di allevamento di terra e quello di mare la di cortuccia ecco diciamo forse potremmo dire ma alla fine cioè in questo caso dov'è lo spasso per il progetto e il progetto beh innanzitutto diciamo che queste sono due condizioni che ci riguardano in maniera molto diretta perché ormai la quasi totalità del pesce che noi mangiamo proviene dall'allevamento no? il pescado si è risolto al 20% se non sbaglio rispetto al resto e tutto questo tenderà ad aumentare ancora di più proprio perché come attività produttiva proprio perché gli spazi e le possibilità della produzione etica sono infiniti in qualche modo e potrebbero effettivamente molti ritengono che potrebbero effettivamente essere gli spazi per la soluzione al problema dell'alimentazione mondiale dall'altra parte ve lo sappiamo anche che ciò che noi mangiamo non proviene dall'Italia a gran parte in queste questa è un'altra tesi con Andrea Gandelli che siamo portati avanti che dovrebbe terminare tra poco che ha provato a visualizzare quali sono come dire a livello globale gli ambiti di maggior produttività no? di maggior interesse per questo tipo di produzione vedete immediatamente quali sono la Cina la Russia l'India ecco c'è da dire che su queste questioni non siamo in merito alla qualità degli alimenti perché ci sarebbe da dire tantissimo sul modo con cui lavorano che fanno voglio dire che danno ad esempio gli antibiotici preventivi quindi arriva un alimento di cui sappiamo ben poco e che è molto bene evidentemente meglio ciuscola meglio ciuscola o meglio è meglio il pesce ciuscola no? perché ciuscola 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 e quindi anche con queste altre immagini con Andrea abbiamo provato a visualizzare sia qual è come dire la capacità di esportazione del nostro pesce e qual è la capacità di imposto e qual è invece l'esigenza di importazione nell'altra mappa e questi sono i pesi della produzione all'India e perché vediamo immediatamente che la Costume investe in una dimensione globale l'Italia non è fuori da questa dimensione ci sono queste andate e ritorno rispetto alle filiere del pesce dall'altra parte vediamo poi di che cosa sono fatte perché fino a quando non riusciamo un po' a descriverle questi spazi non riusciremo nemmeno mai a capire in che modo possiamo non riuscire la cultura non riuscire ma spero e quindi c'è da capire di che cosa sono fatte per poi capire quali sono gli spazi del progetto per intervenire in questi tempi queste sono vedete nel mondo in Cina o in Colombia diversi tipi di arrivamenti di terra e di mare ma queste sono in Italia il gargano la malicoltura di gargano oppure la malicoltura a perora quindi questi grandi segni immensi segni nel territorio che solo apparentemente o meglio solo con uno sguardo disattento possiamo ricondurre all'interno dell'ordinarietà mentre invece si tratta di segni che trasformano profondamente i territori trasformano profondamente i paesaggi e alcune volte come dicevo prima in senso negativo altre volte in senso anche molto interessante potenzialmente interessante sono nuove insediamenti produttivi cioè dall'alto questi impianti ricattano in certi versi le placche produttive industriali che si sono via via insediate negli ultimi 40 anni in tutto la nostra nelle nostre valli nei nostri fondovalli è possibile approfondendo capire quali sono gli elementi dall'altra parte come in questo caso appaiono quindi dei segni di l'endarte nel mare addirittura mobili 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 di salmoni di questi levamenti che si muovono per far sì che i salmoni o altri tipi di otomini ad esempio possano ora anche qui scusate le risposte che abitualmente spaziali che abitualmente vengono date a questo tipo di problematiche sono le risposte più immediate no? più potremmo dire spontanee no? una piccola casa potremmo dire comunque sono sempre delle strutture delle infrastrutture che uccidono nelle trasformazioni dei passaggi grandi sistemi produttivi a cui poi sono collegati la piccola abitazione proletaria con il piccolo ristorantino e con l'energia in questo caso addirittura troviamo un insediamento di Sipax no? una serie di piccoli elementi piccole architetture che controllano un sistema produttivo e che addirittura perseguisce proprio insediamento nell'acqua questa è un'arma no? riuscire a capire questa è un esempio dove addirittura no? come dire la questione no? della 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 scusa mi parla perché arrivava al piano delle marche un'aigra che ho fatto un minuto un minuto dove in questo caso ad esempio la risposta è una risposta tutta tecnologica della necessità spaziale legata ad un'architettura nel mare che diventa una sorta di piattaforma petrolifera che viene in questo caso ad esempio un'altra tesi sta lavorando sul riuso delle piattaforme petrolifere per fare delle Sipax questa è fantastica quella piccola casetta in canadà oppure in scolzese no? mi portata galleggiando e portata sull'acqua ecco diciamo prima delle risposte che abitualmente vengono date a queste attività sono le risposte più disparate tra cui no? la 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 l'insediamento produttivo che viene venduto come forma di investimento no? una volta si investimenti per comprare l'appartamento non so no? un periodo non potete comprare invece gli uffici o le le attività produttive in questo caso questa è una pubblicità per investire nelle produzioni produzioni vittiche l'altra invece addirittura è un centro un centro per la promozione della quindi anche in questo caso è chiaro che le risposte sono risposte per certi versi inadeguate se guardate una ventura una ventura delle cinquantane una ventura più ecco e qui arriviamo alla questione quindi lo come noi dal nostro punto di vista possiamo entrare all'interno di questi meccanismi che già sono in atto che già in qualche modo trovano delle soluzioni al di fuori dell'idea dello spazio di vettore ecco questa è la situazione in Italia qui ci sono presentate visualizzate la presenza di delle si fa sia per quanto riguarda la produzione dei muri scissi per quanto riguarda la produzione dei pesci all'allenamento dei pesci e la cosa che ci veniva in mente era che per lungo tempo noi abbiamo parlato della linea di costa che è stata calcificata dal turismo e che diventava un'immensa operazione in questo caso diventante che tutto sommato però si fermava ad una dimensione con uno spessore che erano dai 200 o dai 800 metri lungo la linea di costa guardando invece il piano di coltivazione delle il piano regionale di coltivazione della destra e dell'albottura ci accorgiamo immediatamente che dei 150 chilometri di costa della regione Marche praticamente ha fino a 3 metri a 3 miglia dalla costa tutto sommato secondo questo piano dovrebbe di fatto artificializzarsi uno spessore che non è più soltanto quello di stretta pertinenza del bagnante con le scogliere con i contigli ma il peso diventa uno spessore molto uno spessore che per 150 chilometri fino alle 3 miglia di fatto diventa un grande potrebbe diventare o sta diventando un grande insediamento produttivo allora in che modo questo insediamento produttivo che ha i suoi impatti necessariamente nella qualità del paesaggio quantomeno oltre che ovviamente nella qualità degli alimenti può essere oggetto di un interesse tra l'altro delle nostre allora anche qui bisogna iniziare a ragionare su quali sono gli elementi vincoli che in qualche modo determinano quella fascia di territorio che va dalla costa fino al limite massimo per l'insediamento di questo tipo di attività produttive di nuove attività produttive e ci si accorge attraverso poi che Andrea è particolarmente ferrato su questo tema si si accorge che c'è una fascia di sovrapposizione tra i vincoli e le possibilità tra i vincoli di norma e le possibilità di allevamento che in qualche modo individua una fascia ben precisa nella cui possono essere realizzate questo tipo di attività ma di fatto l'avere spostato dall'avere in qualche modo gettato una parte degli insediamenti al di là della tre miglia di fatto genera un territorio che è costantemente attraversato costantemente diventa un paesaggio produttivo questo spazio questo vetrino e allora l'idea che siamo portati avanti con Andrea è quella di per dire come questo spessore può diventare un territorio un paesaggio vissuto oltre che da chi lo produce anche dai turisti anche da chi vive questa produzione allora le tre miglia che separano in questo caso è un frammento della costa che riguarda tra l'altro un edificio appadonato che si trova dismesso che si trova sulla costa che era una vecchia discoteca quindi quindi lo spazio che fa questo edificio a questo complesso dove c'è un lago alla linea diciamo delle produzioni che diventa un grande patto acquario sostanzialmente dove gli elementi che sono all'interno che vanno dalla costa fino alle tre miglia che sono a un lato ancora elementi per la produzione dell'energia poi ci sono tutta una serie di possibilità legate alla produzione di energia altra che di alimenti viene da dire però che così diventa una miniera di possibilità ma soprattutto costituisce un vero e proprio spazio da progettare da ridefinire da inventare lo spazio molto importante perché voi adesso si è adepoca che noi stiamo portando avanti con questa tesi per cercare poi di capire come la produzione può essere venduta nell'edificio dismesso che può diventare a sua volta il testo di ponte per i flussi turistici ecco dicevo è importante capire questa cosa perché immediatamente è ovvio capire quali sono gli elementi che vengono in gioco lo spazio dell'acqua che diventa spazio di progetto gli elementi che si appoggiano sull'acqua che diventano possono diventare architetture ci porta anche a qualche modo a ricercare quali sono le forme possibili di questa di questi elementi e quindi vengono in mente alcuni progetti di Elias Zengedis come questo del parco in Grecia acquatico ma quando poi si osservano i passaggi che vengono generati da questi insediamenti non si può poi non fare riferimento ad altri paesaggi analoghi che poi possono concorrere a ridefinire un possibile paesaggio blu ma ecco in questo caso per esempio la grande impianto di prodicoltura di Trento guardate il riferimento quindi se vogliamo la banalizzazione ma è pure l'unica vera realizzazione la concretizzazione di un'utopia per certi versi quantomeno dal punto di vista formale oppure appunto il nuovo paesaggio temporane transitorica che vedere con altre opere di land art di ambientale oppure appunto questi grandi sistemi qui vediamo se il riferimento con l'evocazione quale può essere in questo caso alla la 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 il progetto il piano che avrà baiari l'occhio di genzo tangue no oppure in questo caso altro no assonanza di questa mega si fa con ovviamente l'exodus di di coas no oppure di nuovo questo lavoro no questa questo lavoro di questa ricerca di una nuova dimensione spaziale legata alla superficie blu che viene in qualche modo incisa da questi segni non può che rimandare ovviamente no all'esperienza formale di concetti spaziali di fontana oppure ad esempio no in questo caso è ovvio questo l'impianto di piscicoltura di termoli che utilizza determinati materiali che dovremmo prima o poi imparare ad utilizzare no per esempio anche sopra qualcuno lo ha fatto perché quello di sopra in realtà non è altro che il grande vento dell'anno che è la sistemazione del ponte votante di Cristo sul lago Trasimeno che utilizza esattamente gli stessi elementi allora se là in qualche modo ci permette di sublimare alcuni elementi ci permette da un altro lato ci permette di capire quali possono essere le potenzialità di segni di certi segni che di fatto ci troviamo possiamo utilizzare e se proprio questo poi non se poi proprio l'arte non ci dovesse salvare sicuramente salverà gli migranti che trovano su questi spazi su questi nuovi elementi dell'acqua un modo per salvare le proprie vite grazie va bene siamo molto in Italia bisogna avere luci spiegando 10 10 minuti 10 Grazie. 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 Un po' il paracosso che Londra che è stata la città, la metropologia aveva si è centrato e l'Albania negli ultimi tempi sta concentrando e compattando. In questo un tema interessante è che si sta costituendo una cintura interna in re al tradizionale costituita d'are agricole di piccole dimensioni. Ai singoli munici di Londra è stato chiesto di scavare per ritrovare queste aree agricole di piccole dimensioni e i munici che hanno scoperto che queste aree di piccole dimensioni potevano contribuire a disegnare un argene urbano. due, sempre sul verde, questo verde locale può sia diventare una componente del sistema verde più generale che ha un ruolo economico molto importante. c'è tutto un ruolo ovviamente sociale, questo anche gli interventi che non hanno creduto lo hanno detto. Badalmente, semplificando molto, dietro alcune delle posizioni di inglese c'è l'idea che la città medievale con pasta circondata dalle agricole sia un modello di città più sostenibile con la cittura delle aree agricole che nutrono la città. c'è tutta la coltivazione della frutta e degli ortaci freschi coltivati localmente. Nel caso inglese, questo vi posso vedere un disegno, la reti verde inglese oltre a quello che è l'agrimbetta tradizionale e il mall che sono questi ingegni più esterni, soprattutto un radicolo che sono queste grandi agricole che costituiscono una cittura interna che è stata chiamata, è stata definita il triage. Il tutto poi viene messo al sistema dal corridoi delle acque e dalle catene dei grincendi, dei piccoli spazi verdi. Queste sono alcune delle immagini che effettivamente ci sono questi spazi che io ne sono molto a vedere. Gli allocchi e degli occhi urbani, ci sono anche le farmie dentro la città e anche dei giardini temporanei che si cerca di produrre cibo. Mi sembra interessante il fatto che si scavi dentro il borro che è il municipio locale, ha scavato dentro traverne e interne e ha cercato di riconsegnare queste aree a agricoltura, non le abbandonate. È stato fatto un censimento, è stato visto quanti sono i lotti, il taglio minimo, la disposizione, la capacità, la modalità di funzionamento di questi lotti. È anche fatto un censimento sulle funzioni in termini funzionali e gestionali, cioè chi sono questi agricoltori urbani, le tattiche che le persone hanno, e anche un censimento delle modalità con le quali si coltiva. Dietro a tutti questi esempi c'è una volontà sembrerebbe di ritorno alla lentezza e ai tempi della natura e questa cosa a Londra è cresciuta in modo abbastanza rivelato in pochi anni. Le ragioni che hanno individuato le persone intervistate sono prevalentemente mangiare prodotti sani, di cui si conosce la storia dell'origine, praticare il giardinaggio con attività fisica e una riconciliazione con la natura ed educare i giovani alla sana alimentazione, cioè da su questo il governo ha fatto delle politiche, c'è questa genia e geniole che fanno le scuole, spiega come si deve mangiare, le scuole fanno quanto urbano e mangiano quello che hanno coltivato, tutta una serie di riflessioni. E anche questo ha avuto delle conseguenze poi di una riorganizzazione delle unità di quartiere, c'è una distribuzione delle catene alimentari di Tesco e Selfridge sta cambiando, Tesco, le grandi supermercate, è diventato il local shop che ti vende la carotina come se fosse coltivata in prossimità e anche c'è un rinnovato, come è stato rifatto il piano dei mercati e i nuovi mercati sono stati trovati a varia petta in corrispondenza delle high street, cioè riproponendo un disegno un po' tradizionale però rinforzando quello che è il disegno tradizionale della città inglese. Tra le cose anche interessanti si sperimentano alcuni percorsi innovativi di gestione, si affidano le cooperative sulla monetizzazione dell'uso agricolo, ci sono finanziamenti percorsi di fermazione sull'uso e recupero dei nostri abbandonati e anche si fanno corsi di giardinaggio ed educazione alimentare nella scuola. Qui sarò rapidissimo, vi racconto che l'allocumen è interessante perché c'è una dietro il banale orto urbano c'è in realtà la tradizione dell'impero britannico Si parla di questo periodo, eh? Esatto, però spiega molto di quello che si è in legge. Sono piccole parcelle, in genere hanno 250 metri quadri, possono essere di proprietà o ad uso temporaneo. Qui la differenza è, il problema che sta dietro è se si può o meno aspettare un cambio di destinazione d'uso. Per fortuna, diciamo, i cambi effettivi di queste destinazioni d'uso sono stati molto poco rilevanti. Il posto medio degli allocumen è del tanta serena l'anno, quindi non è rilassissimo. E la storia di queste allocumen è legata alle bonifiche dei terreni paludosi voluti dai sassoni. e poi c'è dietro la progressiva ripocrisia con la quale questi terreni sono stati confiscati, diciamo, a chi li coltivava, dai lord e dalla chiesa inglese. Un po' dimenticando anche, c'è pure la storia, c'è stato un tentativo in tempi di crisi di affidare dei lotti a persone più povere, ma, diciamo, nel tempo, in parte questi racconti li stanno riprendendo, però con una certa ipocrisia dietro. L'altra immagine è stata evocata da alcuni, in quanto la guerra gli allocumen erano il modo per essere indipendenti, quindi B for victory era la banca per la vittoria, esattare di evitare il pubblico, produrre il proprio chip e risparmiare per investire negli armamenti. Questo tipo di messaggio adesso sta riemergendo e vedremo che succederà con l'uscita. Certo cambia completamente la giornata, secondo me, della distribuzione del cibo. Attualmente i allocumen sono due destini, o vengono edificati o vengono tutelati. L'edificazione avviene dicendo che sono abbandonati, quindi sono considerati un brownfield, quindi li possiamo utilizzare facendo un facile cambio di destinazione giusto, oppure un'altra strada è quella di tutelarli, affidandoli alle comunità e facendo in modo che le comunità li adottino, li continuino e li rendano parte del loro stile di vita. Poi ci sono tutta una serie di filazioni per come educare i giovani all'attività dell'impresa all'ocumen, per frazionare l'otto in base al numero dei figli per responsabilizzare qualcuno di essi, dotarli di attenzione per la coltivazione economica, quindi c'è delle questioni. di attenzione. Però mi sembra, diciamo, alla fine di questa corsa che ho fatto, trovo che ci sia un interesse a mantenere un'attenzione a queste aree agricole e piccole dimensioni, perché possono, diciamo, possono costituire una base dalla quale costruire una comunità e tante questioni, diciamo, che non vengono molto, cioè che si nascondano dietro l'ipocrisia. Perché ogni tanto, nel preparare questo po' del conto, ma è un po' un dubbio del... Vabbè, adesso usiamo un nome nuovo per cercare di affrontare una questione che c'è sempre stata, che ha delle difficoltà. quindi affitto con... che la ricerca possa montare, diciamo, rendimenti di soluzione per questo problema. Basta. rovita con il conto, che siamo in un altro anno da dire che ci siano in inglese. Noi, sai ancora. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 tra questi due posti e utilizzando per molto efficiente produrazione di produrazione. Questo è un'ottima fotografia per quanto riguarda questo glint. è stato fatto in questi due posti molto precisamente e molto effettivamente, perché la valia, la plana, è in giù d'occhio. Il nostro giù d'occhio da l'occhio e il nostro giù d'occhio in giù d'occhio. Il nostro giù d'occhio è stato fatto con il nostro giù che è stato fatto in questo giù di più. per la musica, per la produzione. Questo è la nuova. E questo è l'ultimo di questa pittura. L'esterno parte, il Gelsa, e questo è l'ultimo di pittura. Questo è l'ultimo della pittura. Questo è l'ultimo di pittura. E un altro progetto. In questo progetto, in questo studi, vogliamo avere qualche parte nella nostra ricerca. E ho scritto qui. Voglio solo un po' di più. Un po' di più. Un po' di più. Un po' di più. Non vogliamo ricerca solo per l'academia. Vogliamo mettere qualche valore per la località. E quindi vogliamo applicare con qualcosa che può essere usato in realtà. che non si tratta. E il prossimo. E il prossimo. Il prossimo progetto è che ho iniziato a fare eccomerine. Eccomerine è un tecnologico che posso dire sui primi parole da l'instituto del futuro. dell'academia. Cosa è eccomerine? Ovviamente nell'introduzione ho scritto anche queste parole. E come ho già detto che vogliamo migliorare l'academia dell'academia dell'academia dell'academia. Ma anche migliorare l'academia dell'academia dell'academia che è molto separato tra molti piccoli flotti. Molte di non funzioni. E molte di sono abitudini. Quindi cosa possiamo fare per mettere l'academia in sviluppare l'academia? Perché molte di loro non hanno l'academia e come migliorare l'academia dell'academia dell'academia perché l'academia dell'academia dell'academia è molto difficile e molto effettivo e non effettivo. Vogliamo avere l'academia sull'academia non è importante perché un paese un paese come Croazia per fare nuove pipi dell'academia in Croazia abbiamo molti l'academia molto piccoli paese pieni di porti ma voglio parlare di nuovo un prodotto da l'academia che in base e lavorare in l'academia in l'academia perché non spettare l'academia per l'academia in l'academia che vogliamo usare l'academia per l'academia come usare l'academia in l'academia per produrare per l'academia per l'academia per l'academia per l'academia per l'academia per l'academia l'academia e per l'academia per l'academia che veni come questo o qualcosa di che come mostrate a questo è questo è che piccine macchine che fatte da ferite da l'academia in l'academia hanno tutte rinnovabili energetiche sono completamente indipendenti non connessi direttamente con qualcosa ma potremmo con potremmo 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 perché vogliamo usare durante l'anno dopo l'academia per l'academia per potremmo 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 per l'academia per l'academia per potremmo per l'academia per 24 ore per l'academia perché infrastruttura in l'academia funziona per 8 ore per l'academia vogliamo usare 24 ore per l'academia per l'academia per l'academia per varie ad strada per prodotti per specifiche prodotti l'academia l'academia per l'academia l'academia per attivare l'academia l'academia l'energia che non possiamo usare per l'impianto e per avere un buon economico valore per il progetto e per l'impianto. Quindi questo dispositivo potrebbe sembrare come questo. Questo è l'area dove per l'impianto. Per l'impianto, l'impianto, l'impianto. Potrebbe essere fermato durante l'interno per l'impianto, ma potrebbe essere sempre più freddo durante l'interno. E qualche caso di studiare sono diversi, che anche in questo risultato, per l'impianto. E ovviamente stiamo collegati con l'organizzazione locale per l'impianto. L'impianto, 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 blozzare Anni e l'impianto, l'impianto, in agricoltura e in complementarico per i sui i sui e sui quindi vogliamo che questo progetto sviluppo non solo tripple health ma anche con clad health tra l'academia tra politica tra l'usinessi e la società social tra le organizzazioni non non-governamenti e questo è la principale grazie grazie credo che abbiamo finito l'intervento ah scusa Sara grazie 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 su mappa e lunghe aziende presenti nel territorio italiano o anche la prevalenza di produzione con che regione comunque presenta. I territori del Medio Adriatico si contraddistingono rispetto alla mappa italiana come territori comunque con una produzione media. La rappresentazione un po' anche dei prodotti che vengono prevalentemente comunque o continuati o prodotti all'interno del territorio italiano e collega in qualche modo la produzione appunto di prodotti tipici a quelli che sono le geografie e i territori. Questo ovviamente rimanda a quelle che sono le mutazioni enogastronomiche dei territori italiani e che legano indissolubilmente la produzione del cibo rispetto appunto alle geografie e ai territori. Questo è un tema che è molto forte ad esempio nelle regioni del Nord Italia che presentano più di 500 prodotti tipici come ad esempio la Toscana o l'Emilia Romagna. Il sistema comunque anche dei prodotti tipici ci sono circa in Italia 5.000 prodotti tipici comporta anche quella che è una sorta di infrastruttura del territorio e una frizione turistica. Come è successo nel caso del vino anche il prodotto tipico quindi la produzione sia di materiale ma anche di prodotto lavorato si traduce spesso nella costruzione di sapori, delle strade del cibo e dei percorsi. Nelle Marche per esempio ne è formalizzato soltanto uno che è quella della provinciale 26 di Pesaro-Urbino. Come anche questo sul territorio del vino comunque i sistemi dei percorsi e delle strade spesso non sono fisicamente progettati ma sono soltanto degli enti amministrativi e dei consorsi però ancora appunto non trovano una progettazione. Lo stesso accade per quello che sono chiamati musei del cibo, forse la città di Parma è quella più consolidata perché mette proprio in rete nella città e nella provincia una serie di musei dedicati ai prodotti tipici. Anche questi sono i prodotti tipici, sono comunque dei punti rispetto ai tracciati dei percorsi, sono dei sistemi, dei nodi che comunque messo il sistema costituiscono il sistema turistico dei prodotti tipici. Il settore agricolo ovviamente oggi è in forte crescita quindi c'era anche uno studio in questa parte introduttiva legato a quello che è il cambiamento del settore agricolo attuale anche banalmente all'escrizione alle scuole superiori e all'università per appunto settori legato all'agraria e quindi a un incremento anche per l'unità del lavoro. È un settore agricolo che necessita ovviamente di innovazione e è caratterizzato anche dalla difesa del territorio, sul risparmio energetico, la biodiversità e quello che è un collegamento molto forte con la cultura locale e il contesto locale. Il primo progetto che cerca di lavorare su questa dimensione è l'unità urbana della città, gli altri, che quindi mette un po' a sistema quella che è sia il sistema produttivo ma anche appunto la dimensione turistica dello spazio pubblico e quello appunto di un sistema produttivo che viene fatto sul primo caso che è a Coridonia, è un caso forse più consueto per la città adriatica perché è il recupero di un'area sia agricola che di un progetto, di un edificio incompiuto. Anche qui le mappature che erano state fatte a scala nazionale vengono poi anche studiate su una scala più locale, in questo caso venivano messi proprio in relazione quelle che sono le strutture industriali e le aziende agricole presenti lungo la valle vecchietti che è una delle valli del sistema adriatico. Questo proprio a sottolineare come questo carattere di buon presenza che possiamo chiamare appunto un urbano è forte, il carattere principale e un carattere principale della città adriatica. Lo stesso avveniva per le aziende agricole che ovviamente rispetto a quelli industriali che insistono sul fascio infrastrutturale della valle sono ovviamente molto più diffuse nei territori. Il progetto lavora, questo qui è del carattere di buon urbano, entrambi i progetti lavorano su alcuni aspetti, l'attività produttiva agricola diventa strategia rigenerativa e diventa anche un nuovo tipo di spazio che viene definito appunto come un urbano. In questo caso viene presa in considerazione un tratto trasversale della fascia che viene appunto rigenerato attraverso quello che è l'attività produttiva del chilometro zero. Ecco viene identificato uno spessore in cui insiste un edificio che non è mai entrato in funzione da un vecchio centro commerciale, eccolo qui. Tutta la fascia, lo spessore dello spazio aperto diventa un grande parco agricolo in cui viene un po' messo a sistema anche tutta la resistenza e legato alle attività produttive agricole presenti nel territorio. L'innovazione che un po' lavora nel progetto è sul carattere appunto di un urbano che diventa non solo un nuovo spazio ma diventa anche un proprio materiale di progetto e struttura dello spazio aperto. Quindi vengono recuperati alcuni tracciati che diventano poi percorsi peronari, riciclabili e il sistema vicentale che viene introdotto, ecco questo diventa invece un consumo sull'edificio che appunto diventa un nuovo centro e anche più una testa di ponte rispetto a quella che è il sistema infrastrutturale e quindi anche appunto un punto di discesa rispetto al sistema infrastrutturale. E queste sono un po' delle liste che sono state lavorate. Un secondo progetto che lavora su un strutturante urbano spinge invece un po' la sfida un po' più oltre allo stapolo perché viene rigenerato quello che è un sistema di lungomare, che è un rural part water front a Martinsicuro. Dopo un'analisi e uno studio fatto su tutti i lungomari e sugli spazi della costa adriatica, Martinsicuro è un caso che si è dimostrato particolarmente interessante perché presenta ancora una presenza, a parte l'assenza di un lungomare progettato e quindi la necessità di una rigenerazione di questo waterfront, ma presenta ancora degli spazi a carattere agricolo e produttivo molto forti e quindi che sono un po' restituiti qua in queste fotografie. Ecco, lo stesso analisi che sono state fatte su Scala Urbana vengono anche un po' studiate all'interno della regione Muzzo proprio per collocare e contestualizzare il nuovo sistema produttivo all'interno della regione. Un insieme di tracce vengono identificate, vengono recuperate, queste tracce che in qualche modo seguono un po' quello che era il vecchio utilizzo del sistema agricolo che in un ICM del 1954 si vedeva perfettamente, ecco vengono recuperate e diventano appunto quello che è il nuovo sistema del lungomare, dello spazio aperto del lungomare. Queste poi sono un po' delle discese progettuali che raccontano appunto quanto il carattere del sistema produttivo agricolo diventa appunto struttura dello spazio aperto. Queste sono un po' le liste, anche qui c'è un studio proprio del sistema del ciclo educativo, del sistema produttivo e quindi per tutta una serie di spazi che diventano appunto degli spazi in cui c'è questa forte compresenza sia di un carattere di produzione amicola ma sia di un carattere collegato al turismo e quindi aiutare. Perfetto, grazie. Direi Gian Maria, come inizio ci racconterà, passando sull'esperienza didattica che avete fatto, ma proprio proprio le gangbola a tutti voi. Sì, parlando di cibo immagino che siamo tutti molto affamati quindi... Ma no, che problema, non abbiamo problemi. Non abbiamo problemi. Guarda. Grazie a tutti. Grazie a tutti per l'invito, ringrazio la facoltà e tutto l'Ateneo perché è molto bello per me essere qua nella mia terra a mostrare quello che invece ho fatto all'estero. Sono un artigiano, infatti ho studiato a Ferrara in Svezia e in Svizzera, poi ho lavorato diversi anni in Svizzera nel teatro di Zurigo, quindi un bel Politecnico, un istituto federale, presso la Cateda di Architettura e Urbanistica dell'Urba Pink Tank. Il Politecnico è emerso un po' in Europa nel binario di sei anni fa quando hanno presentato i loro progetti del cerchio istruttore David, il cosiddetto sport privato del mondo. e hanno avuto una situazione geniale di portare, di invitare a Venezia alcuni residenti, in particolare quelli che gestivano un piccolo ristorante di quartiere. Questo che vedete nella nostra aula di laboratorio è il neon di quel ristorante di Caracas. Quindi questo lunghissimo viaggio, basato sul cibo, partito da Caracas, affrontato a Venezia e finito a Zurigo. Il nostro laboratorio di progettazione è il Design Studio, lo svolgiamo ogni semestre, questo non è quello di questo semestre, Sudafrica. Viene svolto secondo un calendario molto preciso che prevede degli esercizi iniziali per fare in merito immediatamente gli studenti nella materia, senza considerare troppo il contesto. Una pausa intermedia è quella della Seminar Week, la verde, il viaggio studio, in cui abbiamo molto piacere di visitare il vino, tra l'altro con Pippo. E poi la fase finale è quella dello sviluppo proprio del progetto. L'esperienza che dimostrerò è stato un po' un esperimento anche per noi, perché venivamo da un periodo precedente in cui stavamo collaborando con la comunità di San Paternano, che, se sapete, è la più grande comunità in Europa per il recupero di ragazzi con problemi di dipendenza. Il modo in cui abbiamo voluto approcciare questa nostra collaborazione in essere attraverso gli studenti è stato quello di sviluppare possibili punti vendita esterni alla comunità. Questo perché? Perché apriva tutta una serie di prodotti che secondo me è molto interessante dal punto di vista per quanto riguarda la tipologia. Quindi la tipologia del punto vendita, quello che noi abbiamo chiamato supermercato, non tanto supermarket, ma qualcosa che va oltre il mercato. Quindi una tipologia che può essere dalla più formale possibile, qua vi mostro delle immagini del nostro viaggio studio. Qui siamo a Bologna, se siete presenti, nel quadrilatero, l'intervento di riqualificazione del mercato verbo. Quindi molto formale e anche un po' impostata come situazione. Fino alle situazioni più informali e vitali, qua siamo a Torino, invece, in Porto Palazzo. L'altro aspetto molto interessante era quello del contesto, anche qui abbiamo deciso di lavorare a Bologna, un po' vi spiegherò il perché. Una città, chiaramente, con una struttura urbana molto definita, che era interessante per i nostri studenti internazionali, ma anche una struttura urbana definita nei secoli in tali commercio, una città commerciale per eccellenza, con però degli spazi suburbani molto problematici e anche molto spinacciati dal punto di vista della trama urbana. E l'altro elemento interessante della ricetta è quello del cliente. Una comunità che mischia aspetti formali e aspetti informali e ci ha costretto un po' a sporcarci le mani. Quindi siamo andati là a conoscere i ragazzi residenti e a capire come funziona il processo terapeutico ma anche il processo produttivo. Qua vediamo che i nostri ragazzi sono presi con la distruzione di una barrica di vino. Allora, mi dicevo del cliente... Perché? Per capire il nostro interesse riguardo a... la comunità del patrimonio voglio andare un attimo oltre quella che è la retorica della beneficenza, la retorica della compassione, sicuramente loro spingono molto per questioni economiche di visibilità. Sant'Antoniale è nato nel 1978 ospitando in una fattoria sulle Corrienti Rimini un primo nucleo di quattro ragazzi tossicodipendenti. Questi ragazzi poi si sono messi ad aiutare in campagna il fondatore Muccioli e piano piano questo modus operandi si è espanso e sono arrivati sempre due ragazzi tanto che a un certo punto questa situazione si è formalizzata, istituzionalizzata e ad oggi ospita 1300 ragazzi più vari centinaia di volontari e gestori che di solito sono ex residenti che hanno deciso di rimanere. La cosa interessante è che l'aspetto terapeutico del recupero di questi ragazzi avviene attraverso il lavoro. Loro risiedono lì una media tra 3 e 4 anni e vengono divisi in vari secoli produttivi che come stiamo vedendo, molti di questi sono nell'agricoltura, quindi coltivazioni, produzione di vino, otaggi, floricoltura, macelleria, levamento e altri invece nell'artigianato, quindi producono mobili piuttosto che conceria e altri elementi decorativi. Dicevo, l'aspetto interessante di questo recupero attraverso il lavoro è che di fatto la comunità di San Patrimiano ad oggi è una specie di piccolo paese completamente astratto dal contesto circostante e in qualche modo autosufficiente. Quindi quello che ci viene fornito come opportunità di ricerca per noi come istituzione di architettura e di urbanistica è quello di una condizione che è quasi impossibile da trovare in altri contesti urbani. Quindi la comunità isolata che cerca per quanto possibile di autoconcure tutto quello che consuma. e la produzione in molti settori è superiore al consumo interno per cui scatta la logica del commercio e della vendita del surplus della produzione. San Patrimiano ad oggi ha già un punto vendita esterno ad un'unità che svolge pizzeria e ristorante più vente per con i loro prodotti, però volevamo esplorare altre possibilità. Questa è una foto da Piero che fa vedere come sono partiti quindi con pochissimi ragazzi occupando diciamo quelli che erano i capannoni agricoli esistenti fino invece alla situazione odierna in cui si capisce che è un numero tale di persone che fa parlare veramente di paesi dell'angelo. Vedete un po' la scala delle attrezzature a diritto può far parlare di una piccola impresa quindi se noi mettiamo assieme tutte queste piccole imprese abbiamo una condizione di impresa molto disciplinare cosa che in una logica di mercato ed economica è abbastanza assurda e non comune. SSR, quindi questa scala è inusuale. Con i ragazzi noi siamo partiti da capire quello che succedeva dentro la comunità vediamo un territorio molto esteso, circa 300 ettari la maggior parte di quali sono coltivate a vite e solo una piccola parte di quali invece sono scurbanizzate vedete qua nella parte esternale, in cui c'è una polizola a polina. Abbiamo quindi selezionato nel range dei prodotti che vengono realizzati di opportunità quelli che secondo noi hanno più interessanti per poter entrare all'esterno. quindi vediamo che abbiamo selezionato chiaramente i prodotti da forno, la batteria e la pagnaia i prodotti derivati dal latte, le decorazioni, gli ortaggi, la macerieria, la pizza, la fronceria e la produzione di pino. Con questi dieci prodotti selezionati all'interno di San Patrignano abbiamo formato dieci bucchi di studenti a cui abbiamo distribuito i vari prodotti. il primo esercizio quindi chiedeva a questi bucchi di entrare nello specifico della produzione dell'oggetto e immaginare un modo di dimostrarlo. Prima era molto interessante l'esempio dei Chianti dentro dei Chianti il cui prezzo non è determinato tanto dal costo di produzione ma dall'esperienza. Altro esempio è quello del peschiareggio. Stiamo parlando fondamentalmente della stessa cosa. Lo che ci interessava qui era capire come è dato tra l'altro l'aspetto sociale di chi produce, come fare in modo che il consumatore nel momento dell'acquisto sia consapevole di tutto quello che c'è dietro la produzione e quindi delle mani che hanno effettivamente realizzato questo prodotto. Questo è solo un esempio che vi propongo perché lo abbiamo di tutti i prodotti. Questa era una ragazza che studiava l'acconceria quindi è andata dall'analizzare come fa un tessuto di pelle di un bovino fino poi ai vari trattamenti di lavoro con le mani dell'artigiano e vari testi per i vari colori. Poi abbiamo chiesto di ipotizzare, quindi qui altri studi riguardo alla lavorazione manuale, abbiamo chiesto di ipotizzare un modo di mostrare e diventare questo prodotto e in questo caso c'è l'idea di utilizzare questi lacci anche loro in cuoio che facessero in qualche modo, chiedessero una sensazione tattile del processo della rinvernatura. Questo quindi era il primo esercizio che riguardava il contenuto, il prodotto, il secondo esercizio invece saltando completamente di scala riguardava il contenitore. Abbiamo quindi distribuito ai nostri 10 gruppi degli esempi, dei casi studio precedenti completamente diversi tra loro e gli abbiamo chiesto di analizzarli dal punto di vista funzionale e strutturale. Questa è una magia che si è stata fatta sul Grand Bazaar di Istanbul, e quindi sia sui percorsi, la distribuzione dei vari negozi all'interno della pianta, il figure ground, ma anche a livello di materiali, anche a livello strutturale, come funzionava la cupola e come entrava la luce dentro. E poi c'era un ricco esercizio di provare a trasformare l'idea essenziale del loro caso studio in una visualizzazione architettonica di Venza, chiaramente molto veloce come lavoro. E finita quindi questa fase preparatoria, c'è invece il grande salto. Quindi una volta che gli studenti hanno capito qual è il prodotto da vendere, hanno capito come sono fatte le settore di vendita, li caliamo nel contesto. Contesto che abbiamo scelto a Bologna, come vi dicevo prima, per delle caratteristiche morfologiche uniche in Italia, ovviamente nel mondo, la conformazione dei portici, la tradizione commerciale, e poi anche perché, per essere più o meno realistici, è la città con volume di vendita sufficiente che si trova più vicina alla comunità di San Padre Miano. All'interno di Bologna abbiamo quindi selezionato cinque siti diversi, questo con l'aiuto di alcuni partner locali, un'associazione, si chiamate Dieti di Strada, e il nostro amico, il professor Marzotti. Questi cinque siti all'interno dell'articolo abbiamo scelto completamente diversi tra loro. Quindi, ancora nella logica di offrire un più ampio e un ventaglio di possibilità possibili, siamo andati da alcuni piccoli lotti, con una sorta di carenza funzionale, un centro storico, fino a delle grandi aree suburbane. Gli studenti quindi hanno loro scelto il loro sito di interpreto, in base anche ai loro studi pregressi, e hanno poi fornito delle risposte. L'idea era che attraverso la tipologia del mercato, che poi vediamo come andare a qualsiasi scala, e un range di prodotti molto preciso da vendere, l'obiettivo finale era quello di riqualificare le aree urbane. Per cui questi siti che siamo andati a pescare li abbiamo scelti in base a delle problematiche che ci avevano state suggerite, come ad esempio in questo piccolo spazio, tutto il mio intervento, che sta abbastanza vicino a vedere l'indipendenza. Il problema era che quest'area centrale, in cui c'è un recato archeologico, era stata chiusa da una recensione, e il giardino proprio diventava nient'altro che un'area di possesso per i cani. e questo progetto invece per alcuni studenti propone di aprire completamente l'area e piazzare degli oggetti all'interno dello spazio ad una scala completamente diversa da quella del contesto. Partendo tra l'altro da un'ispirazione locale, perché se avete presente in alcune parti di Bologna sono stati installati degli stand progettati da alberossi che si alzano con un contrapeso. E' stato forse tutto lo studio, forse un po' in ritardo. E' anche riproposto quindi questa tipologia di stand vendita, distribuito in maniera omogenea, differenziando poi i vari stand in base a quelli che erano i prodotti di San Paternano. Per cui si vede bene in sezione, la forma del tetto diventa il contenitore del prodotto. Per esempio vediamo lo stand del vino, è fatto in maniera tale da poter contenere anche le botti, ma anche i mobili per fare l'assaggio, mentre magari lo stand dei prodotti dei latticini ha una diversa finitura superficiale e un isolamento termico che permette il mantenimento dei prodotti. quindi il cappello dello stand, diciamo, diventa l'espressione di quello che ci viene venduto dentro. Vediamo le visualizzazioni. L'altro tema chiaramente era quello della dichotomia tra mercato aperto e mercato chiuso, spazio urbano. quindi l'idea di utilizzare questi pannelli scorrevoli e rotanti per fare in modo che anche una volta che il mercato fosse chiuso lo spazio urbano presente fosse a disposizione per la comunità. Il secondo lotto di intervento invece è Piazzetta San Giuseppe e questa è veramente dietro l'area del sole, praticamente su via indipendenza. qui i ragazzi hanno scolto un'analisi di quelle che hanno attività commerciali nei venditori, in particolare si sono preoccupati della vicinanza del mercato della montagnola e hanno evidenziato secondo me una cosa interessante, una proprietà interessante dei mercati ovvero il fatto di potersi espandere nello spazio. hanno quindi immaginato queste strutture mobili ed espandibili che all'un tempo forniscono il supporto per la vendita ma dall'altro lato quando il mercato è chiuso invece diventano delle sedute degli arei urbani. quindi qua vediamo nell'esplosio, vediamo l'utilizzo dello spazio nelle varie urbani al giorno. e quindi questa struttura porta con elementi molto minimali dei supporti e delle partizioni che non fa altro che andare ad espandere il mercato della montagnola e quindi in un certo senso anche adatturare alla famiglia. la matrice degli elementi utilizzati e uno su una delle strisce funzionali quindi si vede il mercato del nuovo appartenente con queste coperture il terzo sito del progetto invece sortiamo completamente in piena periferia qua siamo alla biblioteca di Gispina quindi nella zona del pilastro zona che chiaramente ha visto una fortissima immigrazione oltre che una profologia prettamente suburbana in altri spazi deserti e qua invece i ragazzi hanno deciso di adottare una strategia molto differente da quelle precedenti hanno colto una cosa importante nella nostra operazione per cui il mercato diventava semplicemente un ponte per unire da una parte la comunità chiusa e isolata di San Patrignano e dall'altra parte la comunità dei potenziali consumatori tra virgolette del mondo esterno e hanno deciso di farlo attraverso un elemento mobile quindi un fordoncino che letteralmente potesse portare i ragazzi laddove il prodotto andava venuto e poi l'idea era che questi fordoncini diversificati in base al prodotto che vendono possono unirsi e formare delle costellazioni più ampie e quindi creare proprio un mercato temporale qua vediamo alcuni di questi fordoncini quindi dalla carne ai mobili al cinema poi chiaramente una cosa che molti ragazzi hanno provato di fare è stato quello di unire alla vendita vera e propria delle attività sociali quindi attirare i consumatori non solo con il prodotto stesso ma anche con una sorta di indotto quindi in questo esempio il cinema, lo schermo quindi ogni frugoncino condivide una stessa struttura stessa struttura tecnica che si espande per creare questo spazio coperto però poi all'interno sono attrezzato in maniera diversa in base appunto all'attività dove va prodotto e queste poi sono diverse possibili configurazioni in base allo spazio a disposizione quindi vediamo dalla cartella circolare nella linea area con una molto ridotta e alcune visualizzazioni il quarto sito di progetto è un quartiere problematico che questa è in periferia vicino a San Vitale case sociali, case popolari in cui viene percepita una forte pericolosità una mancanza di sicurezza da parte degli abitanti quindi quello che gli studenti hanno fatto è stato fare dei campioni in territorio e capire morfologicamente questo spazio come era costituito quindi un'estrema varietà di elementi dalla strada provinciale caratterizzata dai distributori di benzina fino invece a parte molto più dense ma anche queste prive di veri qualità spaziali e urbane hanno fatto anche un'analisi per quanto riguarda invece la composizione demografica delle attività economiche hanno visto il moltissimo percentuale di immigrati una grande diversità di popolazione che quindi mischia giovani famiglie immigrati a e residenti storici però più anziani per cui anche le problematiche sociali e hanno proposto una strategia qua invece prettamente urbana nel particolare hanno deciso di piazzare degli attrattori quello che loro chiamano attrattori quindi di avere le loro strutture con un loro peso acitettonico all'inizio, al centro e alla fine di queste steppe di case popolari intervallate poi allo spazio pubblico invece in cui ci possono vedere dei servizi più distribuiti e più a scala di vicinato quindi qua vediamo quello che è lo spazio centrale che si risolve fondamentalmente con il disegno degli spazi aperti e invece gli attrattori che diventano veri e propri elementi tettonici con un loro peso e marcano i confini di questo vicinato traendo ovviamente anche per l'interno delle ricerche iniziali per quanto riguarda la materialità e la facilità di esecuzione di queste strutture ispirate al mercato L'ultimo sito di progetto invece apre ancora un'altra possibilità spaziale per il mercato che abbiamo visto tra l'altro nell'ultima presentazione ovvero quello del riutilizzo di edifici dismessi Questa era una vecchia scuola a quartiere Sabra inizia ormai da decine di anni che gli studenti hanno deciso di mantenere a livello strutturale e rifunzionalizzare al mercato il proprio outpost di San Patriniano quindi qua dato che c'era già una struttura consolidata l'idea era quella non solo di vendere i prodotti ma di produrre addirittura in loco quindi quello che è stato fatto è stato mantenere tutta la struttura esistente ed inserire invece queste scatole dentro la scatola che diventavano un laboratorio di produzione e che poi, se vedete, si espandono anche grazie all'esterno quindi ogni laboratorio di produzione che in qualche modo autoreferenziale ha una sua forma specifica in base a quelle che sono le attrezzature necessarie e si inserisce invece all'interno del grande contenitore della storia in generale quindi abbiamo visto che quello che è stato molto interessante per noi è il fatto che pur trattando un tema apparentemente semplice come quello del mercato nel momento in cui siamo andati a declinarlo su scale completamente diverse quindi dalla piccola piazza urbana fino al grande spazio aperto e suburbano declinandolo su approcci estremamente diversi quindi dalla estrema temporalità del furgone fino al piano urbanistico le soluzioni che ne sono diverse sono fornite su una specie di spettro di tutto quello che il mercato in realtà può essere anche se devo dire che anche se chiaramente da un punto di vista economico o di marketing le soluzioni probabilmente non sarebbero tutte vincenti però è interessante vedere come tutte le soluzioni danno il raggiunto allo spazio in cui si vanno a collocare quindi un po' la riflessione che possiamo fare da questo esperimento è il fatto che il cibo e i punti vendita non sono solo funzionari a chi vende ma anche le città e quindi è una potenzialità che andrebbe esplorata è una cosa che faremo sicuramente questi lavori hanno il vostro lavoro nel urban center nel mese scorso è un comune molto interessato perché come saprete sta facendo una vera operazione di branding di city branding Bologna City of Food e quindi hanno già percepito questa potenzialità e ci investiranno nel futuro quindi questo è un po' quello che vi lascio grazie ci sono cose che voglio dire si è pagato il cibo si accelga il cibo grazie a tre e mezzo a tre e mezzo a tre e mezzo ad altri amici e ad altre persone che hanno accettato l'invito come Giammanco Giovannelli che è il presidente di Federal Merck di Abruzzo ed è il presidente della prima DMC Adriatica appunto dal nome Adriatica che sarebbe una nuova forma una nuova agenzia che si è istituita sull'Adriatico che riguarda proprio la promozione del territorio per i turistici sostanzialmente poi ci spiegherà bene che abbiamo citato per capire quali sono quali possono essere, quali sono, quali tengono gli operatori gli elementi importanti che possono mettere in relazione la qualità del cibo, la qualità del territorio e ovviamente l'offerta turistica che loro sono esperti ci sarà poi un chef Massimiliano Capretta un chef emergente sempre della costa Adriatica che è stato tra i primi penso che sia lui è stato tra i primi ad avviare un discorso un discorso della biocucina in particolare della biocucina mediterranea è stato uno tra i primi lo spazio primo a promuovere la certificazione bio dei ristoranti quindi la carta sia delle materie prime e soprattutto piattiche fagionali all'interno del ristorante Gourmet poi oltre a queste persone ci saranno di nuovo per parlare di una serie di ricercatori tra cui il professor Mastrini il professor Massimo Perriciori e ci sarà l'affidetto Pettone che sta arrivando che in particolar modo mostrerà una ricerca che abbiamo svolto sia nelle marmi che sulle strade del vino quindi per la strutturazione dei due territori e la chiarificazione del senso di queste strade del vino che altrimenti vengono spesso evocate ma non sono mai di fatto strutturati quindi iniziamo con Gigi Coloccia l'intervento riguarda in particolare il patrimonio il senso lato il senso lato di un particolar modo delle... di Massimiliano Carretta quindi diciamo e in particolare una ricerca che sta portando avanti sui nuovi destini per i consorzi agrari che adesso spiegherà bene quali riflessi potrà portare allora intanto buonasera io cercherò a questo intervento di focalizzare la televisione su questo tema del patrimonio del patrimonio materiale scusate c'è anche Giulia Mezzietti sempre sull'intervento e c'è il mio intervento è incentrato su questo concetto che è appunto il concetto di patrimonio nello specifico il mio interesse è rivolto al patrimonio agricolo patrimonio agricolo che appunto riguarda evidentemente i suoli riguarda i manufatti che sono stati costruiti nel tempo all'interno di tutti i territori che abitiamo, che viviamo e che hanno in qualche modo segnato la geografia antropica di questi territori per parlare di questo tema nello specifico entrò nel mezzo di una ricerca che ho appena iniziato sul tema dei consorzi agrari che hanno all'interno dei territori italiani hanno segnato molto per più di un secolo il destino della trasformazione e dell'ottimizzazione della produzione agricola del territorio consorzi che come vi accenderò tra poco sono poi una condizione di grande disfacimento molti sono falliti però all'interno di questi fenomeni appunto economici del fallimento poi permanono sul territorio dei manufatti che sono in qualche modo chiamati a capire quale può essere il loro possibile il loro possibile destino il loro possibile riutilizzo per affrontare questa tematica c'è un quadro di questioni che è importante delineare perché occuparsi di un patrimonio e capire qual è il destino di questo patrimonio significa in qualche modo capire il mondo come sta andato cioè quali sono le questioni che guardano la nostra società e quali sono le questioni che interessano in particolare a stermomeno della ridottura ecco per delineare questo quadro generale ci sono alcune questioni che per noi archivetti sono importanti una di queste questioni è sicuramente la geografia dei contesti nei quali noi siamo chiamati poi ad operare abbiamo lavorato in questa scuola all'interno di una rete nazionale sulla ricerca recycle noi ci siamo occupati di eccessi di volumetrie inutilizzate sui territori io in particolare mi sono occupato al tema delle aree improduttive dei capannoni che hanno in qualche modo invaso i territori adriatici e in particolare i territori vallivi adriatici e lavorando su questa demanda in qualche modo ho tirato fuori per differenza un altro problema cioè quello che si dice poi in queste immagini che intorno a dei territori per certi versi anche un po' devastati da questo aperrasio di capannoli che oggi sono un po' come dei reperti abbandonati appunto senza uso, senza destino ci sono delle immagini che sono assolutamente evanescenti ci sono delle condizioni agricole assolutamente permanenti che hanno per certi versi accolto questa invasione delle isole produttive che sono dei territori che hanno in certi versi conservato la loro qualità una qualità che è evidente dal punto di vista dell'architettura è una qualità anche espressa attraverso dei geometri espressa attraverso i tracciati dei campi attraverso la dimensione culturale che produce evidentemente una qualità nel paesaggio ecco quello che accade in queste immagini abbastanza evanescenti è che c'è una condizione di forte interazione tra territori improduttivi appunto capannoli abbandonati e invece territori agricoli che hanno per certi versi dimostrato di resistere alla trasformazione operata dal processo di industrializzazione di frutto degli ambiti valibri beh quello che si assiste appunto guardando i nostri territori è una metamorfosi della crisi c'è questo processo di impoverimento dei territori che è avvenuto per effetto della disoluzione delle aree industriali produttive ha invece in parallelo attivato un processo virtuoso di un rilancio di una vitalità tutta legata alla produzione agricola quindi l'agricoltura sta per certi versi un po' impiantandosi non avendo lasciato avendo resistito negli anni appunto a permanere in questi contesti l'agricoltura diventa una possibile nuova strada questo è un quadro appunto il quadro geografico c'è evidentemente anche un quadro politico che bisogna capire per interrogarsi sui destini di questo patrimonio beh quello che noi rileviamo a livello appunto di politiche europee che intorno al tema dell'agricoltura si sta investendo moltissimo ecco questi sei punti sono appunto interessanti perché possono entrare in gioco all'interno di una possibile definizione dei programmi di trasformazione di questo patrimonio sono sei punti che vengono valutati come punti prioritari all'interno di un'approvazione quindi finanziamento di progetti presentati alla comunità europea trasferimento della conoscenza innovazione e reddività delle aziende organizzazione della filiera valorizzazione degli ecosistemi con il uso efficiente delle risorse inclusione sociale di questa questione un po' stamattina si è già parlato e sono delle questioni come si vede assolutamente interdisciplinari da una questione di relazioni di nuove comunità di società che cambia ci sono aspetti legati a filiere produttive ci sono aspetti legati agli ecosistemi ecco sono appunto una serie di questioni che si intrecciano le politiche europee sono poi recepite a livello regionale e la regione Bruzzo e la regione Marche hanno attivato nel 2014-2020 un programma di sviluppo rurale quindi questo è un quadro importante di riferimento per capire come sta evolvendo questa ricerca un altro quadro importante da prendere in considerazione rispetto alle trasformazioni di questi territori è quella che riguarda puramente l'economia da questo dato che vedete è un dato di Rodiretti un'impresa tripla su tre che è nata negli ultimi dieci anni e i titolari di queste imprese hanno meno di 35 anni e questo è uno spattato interessante perché dimostra che questa vitalità, questo rilancio del settore agricolo è un rilancio tutto affidato alle nuove generazioni e non è un caso che perché un studioso interessante creato economiche negli anni passati si era occupato di un fenomeno che riguardava la costa romagnola la costa periodica e il turismo di massa in questo libro recente della smart city e la smart lander pone ribalta la questione e in qualche modo prova a estendere questo concetto smart che è un concetto oggi molto abusato nel linguaggio della comunicazione ad estendere la dimensione del territorio ecco quello che succede che all'interno di questi territori proprio perfetto di questi fenomeni che si registrano di economie nuove di imprenditorie e giovanili quello che sta accadendo è che c'è un fenomeno che è quello dei ritornanti così li chiamano con noi cioè sono abitanti originari di territori che sono stati poi abbandonati da questi giovani che hanno studiato fuori che hanno anche fatto le prime esperienze lavorative all'estero che decidono però di ritornare all'interno di questi territori e decidono come dire di investire e uno di questi campi di investimento è sicuramente quello della agricoltura a questo punto ecco la questione del patrimonio che è fatto di beni immobili di suoli e di attrezzature abbandonate o dismesse va inevitabilmente collocato all'interno di questo quadro generale perché è all'interno di questo quadro che riusciamo a capire quali possono essere i possibili destini quando parliamo del patrimonio come dicevo riguarda il problema dei suoli riguarda il problema di attrezzature quando parliamo del patrimonio significa evidentemente per noi architetti cominciare intanto a fare una propria ricognizione capire di cosa parliamo ecco una prima ricognizione riguarda i suoli i suoli di cui mi sto occupando negli ultimi anni anche attraverso sperimentazioni didattiche ricerche sono proprio dei suoli periurbani o proprio dei suoli fortemente relazionati alla all'urbanizzazione qui siamo molto in sicuro e vedete appunto come alcuni contesti urbani hanno a margine un po' a corona della parte inseditiva ancora una grande presenza una grande persistenza di campi leggere questi territori significa per gli architetti anche cercare di interpretare tracce topografici presenti in questi contesti capire qual è la geometria costruttiva e costitutiva di questi territori e come queste geometrie possono in qualche modo costituire un palinsesto possibile per un processo di trasformazione ma occuparsi di questi territori significa anche riflettere sugli oggetti sui manufatti nello specifico sto cercando di fare un lavoro sul tema dei consorzi agrari i consorzi agrari all'interno del territorio sono espressi da manufatti non sempre di grande qualità di grande valore ma è interessante ripetere il fenomeno nell'attualità che questo tema del consorzio è un tema che è sottoposto ancora una volta con un processo di abbandono a volte con un processo di disfunzione quindi di demolizione ma registriamo all'interno di questi territori anche la costruzione di nuovi manufatti di nuove attrezzature consorzi agrari fare un censimento di questo materiale è inevitabile stamattina appunto si ragionava abbiamo fatto un lavoro sulle aree industriali capannoni abbandonati e dismessi è interessante capire un po' quando parliamo di consorzi agrari quali sono le entità dove sono organizzati quali sono le loro potenzialità dal punto di vista architettonico costruttivo sono alcune immagini che restituiscono come dire il quadro di un patrimonio anche piuttosto articolato e abbastanza ampio c'è un capitolo di questo lavoro di ricerca che sto portando avanti che in qualche modo richiede per certi versi un supporto della storia ragionare su questa realtà consortile all'interno del territorio italiano significa prendere in esame una stagione abbastanza interessante per certi versi che è una stagione che ha fortemente lavorato ha investito molto su questo rapporto di organizzazione e consortia del territorio la costruzione dei consorsi risale alla fine dell'ottocento però un impulso enorme all'interno della trasformazione dei nostri territori ha venuto l'evento fascista grandi opere di politica di dissodamento di terreni di costruzione non fatti di architetture che non erano appunto le sedi dei consorsi ma erano anche silos erano fabbriche dei concimi erano appunto un patrimonio molto ampio di opere architetture che è stato appunto realizzato e ha lasciato tracce evidente nei nostri territori in questo vendegno ed è interessante che la realtà dei consorsi si associava originalmente a quella che si chiamava cattedra ambulante di agricoltura ecco questo è un concetto di grande interesse perché l'esperienza del consorzio è un'esperienza che si associa direttamente alla esigenza della formazione della formazione continua e quindi queste carte delle ambulanti erano appunto dei docenti a volte docenti di agraria che si muovevano sul territorio e che istruivano i contadini a cercare di coltivare al meglio i loro terreni il consorzio è una organizzazione di agricoltore è una società cooperativa che aveva una serie di ruoli di significati ma praticamente integra una struttura di sostegno di supporto all'agricoltura ma anche di sostegno economico di vantaggio nel pressito nella vendita dei prodotti nel 1892 si costituisce a Piacenza la federazione italiana dei consorsi agrari e nel 38 quindi siamo nel pieno del ventennio fascista la realtà la realtà consortile si riorganizza in consorsi agrari provinciali questa è un po' una storia molto concentrata di questa vicenda ma quello che è interessante in questa stagione in questi vent'anni che la realtà dei consorsi è una realtà vincolata attraverso degli organi di stampa riviste attraverso propaganda evidentemente siamo appunto nella cultura di grande appunto espressione antipatica di questo potere di questa politica imperialista difficilmente di quegli anni ma appunto erano gli organi di stampa che vedete appunto alcune delle stagioni operazione rurale all'amico del ricottore che diventavano degli organi di informazione di divulgazione della conoscenza di istruzione di base di formazione questo aspetto avevo un grande interesse perché per certi versi questo aspetto ha lasciato delle braccia all'interno poi della cultura agricola una cultura agricola che appunto come dicevo in questi anni è in totale rilancio ed è una cultura che si si impianta anche un po' in contrapposizione all'industrializzazione ma una cultura agricola che è fondata appunto anche sull'istruzione sulla formazione di base su dei terreni che vengono messi a disposizione i giovani per imparare a coltivare la terra ma una cultura agricola che è passata attraverso anche un forte impulso innovativo e appunto in questi titoli di questi frammenti di giornali di articoli presi da queste riviste selezione dei semi macchine agricole concimi ecco questi aspetti sono il segnale di una intenzione di far evolvere attraverso l'industrializzazione agricola un settore appunto produttivo su cui in due anni si decideva di investire quindi questo lavoro è un lavoro di forte slanzo che si affidava a concimi di natura appunto chimica a macchine agricole che hanno in qualche modo trasformato la produzione di questi prodotti beh questi argomenti sono argomenti che è interessante oggi valutare perché quello che sta accadendo all'interno del rilancio di questa agricoltura è perfettamente il contrario cioè quello che sta accadendo oggi che si cerca di cancellare tutto la tradizione appunto chimica della fertilizzazione dei terreni si cerca addirittura di eliminare i marginali agricoli e quindi c'è un impulso che in quegli anni ha scatenato l'economia ma per certi versi è un impulso che in quegli anni è stato un po' l'inizio della fine perché quello che è avuto nel dopoguerra che tutto l'abbandono dell'agricoltura dell'industriazione è stato un po' il senso ultimo di questo progresso che ha poi totalmente impoverito i terreni e i terreni sono stati un po' abbandonati beh questo è il patrimonio come dicevo patrimonio molto variegato che esiste nel territorio stabilimenti di concini di persposcati che erano appunto come vedete realizzati perfettamente sulla costa apriatica oppure silos che servivano appunto per la raccolta del grano di questo patrimonio abbiamo cominciato un po' ad occuparsene della parola delle prime mappe delle mappe diciamo di interpretazione di un fenomeno già in una fase come dire di evoluzione e di dissoluzione analizzando questo fenomeno in un'ultima quindi dal 97 ad oggi si legge perfettamente una perdita di polverizzazione di queste strutture sul territorio fino ad arrivare in una condizione del 2009 con l'espannimento dei consorzi agrari soprattutto quelli del Piceno che la provincia di Ascoli Fermo Pesaro e Cesaro e Ascoli Pesino entrano a far parte come vedete di una rete di consorzi agriatici che appare in qualche modo in parte a rilevare quindi ad acquistare questo patrimonio in parte a affittare ma gran parte di questo patrimonio oggi invece è in liquidazione quello che succede appunto sul territorio che molti di questi edifici sono totalmente in vendita beh ragionare su questo tema e immaginare una possibile trasformazione e riutilizzo di questo patrimonio significa però capire come sta andando qual è la direzione su cui sta andando l'agricoltura e ci sono tre parole su cui vorrei un po' soffermarvi uno intanto a questo concetto di biodiversità a gennaio del 2015 è stata parlata questa legge del 1994 ed è una legge che sottolinea proprio intanto il ruolo primario degli agricoltori all'interno di questo concetto della biodiversità si sottolinea molto la bellezza dei paesaggi e quindi una bellezza che viene espressa e resiguita attraverso la dimensione agricola e si associa tutto questo alla dimensione del prodotto ecco è interessante come questa legge incentrata su questo concetto di biodiversità di varietà appunto delle entità biologiche presenti all'interno del territorio e poi mette in campo il paesaggio mette in campo il turismo mette in campo in prima linea gli agricoltori che diventano appunto coloro che hanno come una responsabilità notevole su questo fenomeno un secondo concetto interessante che è evitabile prendere in esame nel momento in cui si ragiona sul destino nuovo di questi capalmoni è il concetto di Policultura e quindi questo è un po' un aspetto di grande innovazione rispetto alla tradizione di quel ventennio da cui erano partito cioè la dimensione monoculturale l'industrializzazione agricola è oggi una condizione totalmente imperdita è in difficoltà quindi c'è una sezione al contrario di un'adroindustria che viene sostituita da un'agricoltura contraddita che è fondata sulla dimensione policulturale del territorio quindi non più monoculture estensive ma si ragiona invece sulla possibilità di riconoscere una varietà all'interno di questi territori una varietà di specie che a volte negli anni sono andate anche in estinzione una raccolta dei semi e una declinazione delle varietà delle specie che portano evidentemente ad una ulteriore ricchezza di questa di questa tematica il terzo concetto interessante riguarda la qualità la qualità diventa in questo meccanismo evidentemente di riconversione un punto di forza la varietà del cibo è quella che si associa a concetti biologico ecologico sostenibile certificazioni di provenienza ma anche si chiede corte per un controllo del corpo alimentare una qualità che viene poi certificata e quindi prodotti dopo prodotti GP diventano come dire marchi come si vede appunto anche da questi acronimi dove il marchio si associa alla geografia alla regione al territorio quindi il prodotto diventa assolutamente connesso con la dimensione territoriale con il luogo di produzione ma c'è un aspetto legato a questo oggetto di qualità che del cibo che non è semplicemente poi espressione di un bene prima necessità alimentarsi semplicemente ma diventa anche piacere e quindi piacere significa mettere in campo abilità culturali dove questi cibi ben presentati ben cucinati diventano poi prodotti prodotti di qualità all'interno dei prodotti beh si potrebbe delineare una sorta di bioregione medio-driattica questo può essere il contesto nel quale poi questa vicenda di riconversione del patrimonio fondata sulla valorizzazione delle risorse locali sulla biodiversità sulla poli-culturalità ecco questo può diventare il buono scenario ed è all'interno di questo scenario che le strategie che abbiamo cercato di mettere in campo in questi anni provando già a lavorare su queste tematiche sono strategie che si fondano su una necessità di costruire delle riconfigurazioni di questi territori territori che richiedono un ridisegno è un ridisegno che si appoggia spesso a quelle tracce topografiche che possono diventare il motore di una riconfigurazione di questi edifici quello che accade lavorando su questo patrimonio che quella dimensione oggettuale delle cose che ha caratterizzato molta edilizia costruita nel secolo scorso possa essere un po' messa in crisi e si va in qualche modo a ragionare sulla possibilità che il territorio e il manufatto architettonico possano trovare dei nuovi messi delle nuove relazioni rapporti tra spazio interno spazio esterno porosità appunto di questi edifici capacità di costruire messi e relazioni tra geometrie territoriali e costruzione e riconfigurazione degli spazi quindi questa può essere una strada dove le geometrie di costruzione del territorio diventano per certi diversi delle geometrie capaci di soppertire la banalità di alcuni manufatti il rapporto tra la campagna la tessitura agricola e il manufatto diventano espressione di architetture assolutamente più complesse e più articolate che offrono degli spunti di interesse queste riconfigurazioni delle entità patrimoniale possono costituire anche diciamo delle opportunità per generare degli spazi architettonici capaci di essere come degli attrattori policoltuali cioè intorno a questi oggetti quindi le varietà appunto delle produzioni locali possono essere attratte e attirate da questi manufatti e quindi le architetture possono diventare come dei catalizzatori capaci di mettere a sistema e valorizzare le risorse produttive e culturali dei vari territori sono strategie che naturalmente vanno a riconfigurare questo tema della filiera corta e quando parliamo di filiera corta corta e trasferendo questo concetto all'interno dell'architettura significa immaginare che all'interno di uno spazio più circostritto che prevede un disegno e un'organizzazione spaziale il rapporto tra materia prima produzione conservazione consumo possa qualche modo entrare in gioco e ridefinire lo spazio architettonico per chiudere questo mio intervento volevo richiamare due artisti due opere diciamo che tra l'altro sono opere distanti da loro di circa 50 anni Wesselman è un grande artista della cultura pop ed è un artista che mi interessa mostrarvi anche con una chiave assolutamente un po' estrema di interpretazione siamo dentro la cultura mercificante del pop come sapete che è legata molto alla veicolazione commerciale dei prodotti però all'interno di queste composizioni di queste nature morte una cosa interessante è che c'è uno strano rapporto e di grande interesse per noi rispetto a quello che finora ho cercato di sostenere di ristabilire un rapporto tra spazi diciamo del consumo e spazi della produzione per dentro questa costruzione di queste nature morte c'è un primo piano che è evidentemente affidato al cibo che è accolto in uno spazio di condivialità un spazio ma lo sfondo di queste rappresentazioni è un tastello territoriale come se ci fosse un'esigenza assolutamente insolita all'interno della cultura pop di ritrovare un legame un legame con un territorio e per chiudere un altro artista pericano che ci porta qui a ragionare su queste tematiche questo è un artista che lavora anche in un modo insolito attraverso un festival di tessuti riciclati e ancora una volta è interessante come il senso dell'arte è tutto incentrato alla volontà di ripristinare un disegno in cui manufatti e suoli costruzioni e disegni appunto del paesaggio ricolo entrano a far parte di un'unica grande costruzione grazie grazie Gigi e appunto come si diceva che l'apporto tra produzione di alimenti e architettura è molto più stretto di quello che potrebbe genericamente generalmente ritenuto e e lo è ancora di più oggi credo proprio a partire da queste considerazioni tu l'hai evidenziato più volte e lo è ancora di più oggi proprio in relazione a all'importanza che la qualità del territorio la qualità delle produzioni alimentari e anche l'offerta se vogliamo di beni e servizi non solo agli abitanti ma ai turisti sta rivestendo nella contemporaneità e per questo vi invito Gianmarco Giovannelli che come vi dicevo è il presidente degli federalberghi della regione del presidente della dmc adriatica che in qualche modo io farei delle domande no? perché poi questi incontri servono a noi architetti servono anche per capire un po' il pozzo della situazione rispetto a come si muovono le dinamiche ma anche quali sono le dinamiche che poi devono insieme i territori e in questo caso attività settori con i tipi più importanti come quello del turismo sono tutte in relazione al fatto che da un po' di tempo portiamo a questa idea che oggi la città nel termine del turismo il turismo si infiltra profondamente in tutti gli strati delle attività umane delle comunità quella primaria appunto con la punizione non solo la punizione dei paesaggi ma anche il consumo dei beni prodotti nei territori si infiltra all'interno degli insediamenti storici riqualifica e recupera edifici dismessi no? per esempio tutta l'operazione di Italy va in questo senso cioè unisce il cibo con il turismo ma soprattutto riciclando non fatti dismessi quindi il turismo è sicuramente anche a livello internazionale il motore che sembra muovere maggiormente o comunque integrare le economie locale quindi non più turismo di massa legato legato a delle mete prefissate ma soprattutto un turismo che si integra molto con i luoghi ecco dal vostro punto di vista dal punto di vista degli operatori turistici qual è il rapporto l'importanza di questo discorso sulle catene sulle biniere alimentari nel settore del turismo bene prima di tutto grazie non so se è necessario sentire è sufficiente perché non è passato un po' ma poi in realtà stiamo cercando di portare avanti un principio che l'Italia ha iniziato un certo tipo di interesse soprattutto per abbinare a un sistema economico attivamente la cooperazione dell'indotto e gli attori principali che detengono poi come dire gli estimi dei successi dell'economia locale in questo caso dobbiamo dire dobbiamo premettere assolutamente che nel mondo le motivazioni principali che spostano gli uomini e le donne a girare e a circuitarsi sono due cultura e della gastronomia sono due elementi fondamentali i quali coinvolgono attivamente la programmazione dei territori e soprattutto una attenta diciamo analisi e sintetica evidenza strutturale e infrastrutturale che oggi si esprime con questa auspicata rigenerazione globale sulla quale anche i sistemi economici e turistici inneggiano e cercano di coinvolgere veramente l'enogastronomia e ovviamente tutto quello che gira intorno al discorso cinico e anche quella che gira intorno alla filiera corta della produzione agricola oggi diventa un core business per i territori italiani soprattutto perché c'è la consapevolezza di portare al centro dell'attenzione di Emilia e della comunicazione il co-marketing il turismo esperienziale che è un club di prodotto che parte soprattutto e fondamentalmente da una identificazione strutturale che comunque rappresenta la storia di un processo che può essere ecco l'apintura del rurale dalla struttura da recuperare alla esatta riservazione delle caratteristiche arbitrettoniche e interne da un processo di cristallizzazione di quelle atmosfere che comunque riguarda un'esperienza anche durante il soggiorno ma dicevo che noi stiamo proponendo stiamo ricevendo sollecitazioni proprio per il turismo esperienziale addirittura agricolo tant'è che stiamo ospitando e ci stiamo preparando ad accogliere dei gruppi nord europei che verranno qui per fare vendegna e raccogliere l'uricolo proprio perché diventa il turismo esperienziale un processo di coinvolgimento che ci conferisce ulteriormente anche quella auspicata opportunità di restagionalizzata la restagionalizzazione è un abusato di tante realtà soprattutto perché abbiamo i tanti di totale assenza di promozione a livello nazionale supera che è stata fuori economia turistica e che rappresenta oggi gli alpini italiani abbiamo addirittura ci siamo presi anche l'onere di cancellare il ministero del turismo se pensate che ancora oggi il NIVAT non riesce a fare concorsi perché non ci sono fondi da destinare ai eventuali funzionari intelligenti che vorrebbero invece fare un'indagine è un audit territoriale molto interessante quindi mi fa capire a livello organizzativo che non possiamo puntare su una collaborazione che dovrebbe essere istituzionalizzata data la centralità e l'importanza che l'Italia ha nel mondo per quanto riguarda il turismo ma soprattutto la cultura in questo caso anche la cultura dell'architettura e tutto quello che riguarda il coinvolgimento di questo contesto all'interno del sistema economico e quello turistico e quindi abbiamo deciso proprio l'ambulso di leggerare o meglio di proponere una legge che è diventata legge semplice determina un'opportunità importante perché tra l'altro è un percorso di legge a livello nazionale abbiamo creato le reti di impresa delle reti di impresa istituzionalizzate costituendo delle società ad hoc dove pubblico e privato programma il territorio prima di tutto identificano quelli che sono gli elementi da evidenziare da perfezionare da potenziale in ottica di accoglienza da una parte quindi territorialmente preparata e nello sviluppo di opportunità che gli operatori in rete possono avere riguardo a televisione di finanziamento europeo e italiane sull'innovazione sulla comunicazione e quindi su anche lo sviluppo di nuovi treni di prodotto come in questo caso il turismo esperienziale l'aria aperta abbiamo un interesse crescente dedicato proprio addirittura al turismo attivo nei processi di ricerca archeologica al di là di quelli che sono i treni generali che creano i flussi quindi la costa e la montagna che sono i principali stagionali ripeto il la più grande percentuale di flusso viene scaturito dalla cultura e dalla gastronomia ed è proprio intorno a questo principio che stiamo cercando di promuovere con questa presentazione che tra l'altro abbiamo fatto adesso a livello ministeriale abbiamo trattato il case history di MC in questo caso Adriatica cercando di capire se eh il Ministero del Periculturale e del Turismo fosse interessato proprio a ricevere questa animazione che stiamo facendo cercando di coinvolgere con il coordinamento nazionale tutte le regioni italiane abbiamo il coordinatore nazionale di San Ruzzo Reggio la ritorno io sono un gruppo del regione di Italia 35.000 aziende cerchiamo di capire se attraverso dei principi importanti di programmazione territoriale queste nuove iniziative che prevedono l'intervento dei professionisti soprattutto per la salvaguardia la tutela la valutazione e lo sviluppo dei territori esistenti e sulla rigenerazione in cui noi crediamo moltissimo perché in realtà ci sono tante strutture che potrebbero essere inserite in circuiti turistici affettativi che oggi potrebbero essere importantissimi proprio per intercettare una domanda che nel passato questo forse non abbiamo voluto considerare più di tanto Ascoli ad esempio è un esempio che da tanto Ascoli qualche anno fa non aveva una dignità turistica tale che potesse essere paragonata a quella che è la cultura e il contributo culturale che questa città conferisce al panorama delle città artistiche italiane ecco ci sono state delle scelte delle strategie condivise anche con la piattaforma degli operatori che qui operano delle macchie soprattutto nel piceno dove Abruzzo comunque riveste un ruolo se di confine ma non indifferente per una sollecitazione storica proiettare beh Ascoli oggi ha una crescita esponenziale di domanda ma anche di ricettività e quindi di flussi turistici che la pone al centro di una riflessione ulteriore come vuole un contributo culturale del genere verso non solo la diciamo la domanda culturale tuturla vado da Ascoli faccio un'escursione mi fermo a pranzo e torno a destinazione dobbiamo cercare ecco di cristallizzare una domanda che vuole comunque invece stanziare con delle alternative che non siano esclusivamente legate ai club classici estivi o invernali ed è un'iniziativa interessante che si sta cercando anche di portare avanti una nuova vicina terra proprio perché questa questo diciamo territorio di confine ha prodotto nel passato comunque delle sinergie molto interessanti soprattutto dal punto di vista di ciclicazione di gestione logistica di alcune promozioni e soprattutto anche la facilità di poter raggiungere un breve spazio più opportunità possibile rispetto a quello che magari può venire in altre regioni dove la distanza della costa all'interno è molto più evidente noi chiediamo all'università ovviamente a un'ora di ringraziare il professor Nel Montis che noi stimiamo da anni soprattutto per quello che è l'assistenza e il controllo e l'autorevolezza riguardo alla programmazione dei territori a un'eventuale consulenza riguardo professionale riguardo quelle che sono le priorità dei nostri territori ma chiediamo di poter sancire dei rapporti pluriannari affinché anche i corsisti siano capaci di avere la certezza che l'economia turistica oggi coinvolge attivamente questo comparto fondamentale che riguarda la concentrazione e lo sviluppo strutturale e architettonico del nostro patrimonio perché l'Italia ha avuto questo grande momento di difficoltà eppure ha mantenuto una pil terrorismo per l'interno una pil che ha avuto una conservazione di posizioni non indifferenti seppur riscivolata proprio perché l'atmosfera delle nostre borgate dei nostri piccoli centri culturali ma seppur anche di alcune singole strutture che comunque in tante realtà non è facile avere o vivere beh questo ha creato l'interesse di approfondire alcuni percorsi e soprattutto ha dato la possibilità anche a livello europeo dedicato a delle misure non indifferenti soprattutto laddove oggi potrebbero esserci delle opportunità concursuali indette da enti locali per addirittura creare processi di riqualificazione urbana ma anche di decoro architettonico che diventa un elemento non indifferente per la scelta della domanda turistica verso un determinato territorio territorio quindi noi siamo a disposizione in Abruzzo che hanno rinvolto tutte le facoltà l'università di Perame e parte interante della dinamica chiaramente le 13 costituite in Abruzzo inizialmente sono sembrate troppe probabilmente era quella voglia frenetica di dichiarare la partecipazione ad una destinazione dalla Rocca Calascio di Gilgren che tra l'altro sta inaugurando una grandissima iniziativa equamente affascinante a Matera che sta aprendo un bellissimo ordine diffuso di sexanzio a Matera tra poche settimane proprio per cercare di capire che il recupero è l'inserimento di un circuito è un processo fondamentale soprattutto nella decisione di un territorio premettendo che il territorio deve essere mantenuto programmato e assolutamente salvaguardato dal punto di vista ambientale e anche come dire indici di abilità e di come posso dire di sostenibilità cioè è assolutamente impossibile pensare che dei flussi turistici non riescano ad essere accolti nella fluidità di un impianto urbanistico dedicato o pensato per l'acquaglienza turistica piuttosto che pensare ad un'infrastruttura messa lì senza immaginare come arrivarci questo ad esempio è un problema che in Matera sta vivendo che il mio collega di quella peggiore adesso vive il paradosso di avere tutti i come dire i flettori mondiali verso Matera ma arrivare a Matera è un disastro ed è il paradosso italiano quando noi pensiamo di pensare al privato senza immaginare dove 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 il castorano quindi quando volete a disposizione se l'università esprime un desiderio di convenzionare i rapporti che possano essere poi studiati e rapportati come voi ritenete più opportuno noi siamo a disposizione perché comunque questa rete di impresa seguirà la linea della macro-regione mediodiatica e dovrà essere assolutamente legata a quella a quel perimetro geografico proprio per mettere in rete delle realtà come questa che oggi sul turismo riveste un ruolo centrale di accoglienza e soprattutto di sviluppo grazie 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 anche perché ovviamente abbiamo organizzato questa giornata di studi proprio per capire quali sono le forze in campo per poter poi partecipare a competere a livello europeo su progetti programmi di acquisizione di risorse quindi sappiamo che è necessario fare delle portate dove sono a cui partecipano non soltanto le università quindi non dobbiamo parlarci solo tra di noi ma dobbiamo invece imparare anche ad interagire con oltre che con gli enti locali anche con le agenzie e gli imprenditori illuminati che in qualche modo scommettano con noi sulle possibilità e potenzione di sviluppo di questa parte dell'Italia fra l'altro parlando di macro regione adriani che abbiamo qui con noi dei rappresentanti dell'università croata dovevano essere qui presenti poi purtroppo non sono dovuti venire ma comunque partecipano di questa ricerca anche degli amici che sono titolari di un'agenzia per lo sviluppo delle isole croate delle isole del vero centrale della croazia centrale quindi potrebbe essere molto interessante riprendere questo discorso sia a più livelli il turismo la protezione alimentare e la manutenzione e la trasformazione dei territori per questo il prossimo intervento vorrà partire da chi in realtà trasforma concretamente i paesaggi e invito la dottoressa Paola Cocci Grifoni a intervenire perché in rappresentanza non soltanto che della sua attività delle cantine Cocci Grifoni ma anche del consorzio per la tutela dei vinificeri perché anche in questo caso un altro tassello molto importante e poi lo vedremo tra l'altro in una ricerca che abbiamo condotto delle trasformazioni che hanno coinvolto la Regione Marca ma in centro l'Adriatico è proprio legato questo tassello è costituito dalla grande profonda trasformazione dei passaggi operata proprio dalla viticoltura delle Marche o comunque l'Adriatico Centrale era una volta il granaio d'Italia il granaio di Venezia perché apparteneva alla pubblica capite che oggi invece credo 80% del territorio macchigiano ha coltivato a vigneti quindi capite che profonda trasformazione si è verificata anche soltanto nella percezione di questa arte se vogliamo ecco la dottoressa cocilicone è sicuramente una depositaria quindi ci illustrerà quali sono anche le esigenze che il suo mondo in qualche modo chiede di risolvere scompondere i giorni grazie io ringrazio il professore di questo spirito da parte del consorzio e ringrazio il consorzio per aver richiamato per testimonianza naturalmente il professore mi fa piacere che faccia parte di quella area vitale ecco perché si comunica parte da delle scelte molto forti che sono scelte di vita e quindi hanno determinato e hanno potuto poi accedere alla conservazione del patrimonio al titolo e diciamo paisaggistico del nostro entro network quindi diciamo nell'aspetto collinare di cui io sono cresciuta e la famiglia è cresciuta quindi quando il professore mi ha chiesto che titolo vuole dare script food e lo spazio quindi no non potevo altro questo nome il vino al vino pertiene un mondo tridimensionale quindi ovviamente abbiamo tante cose da dire che non è facile parlare in 10 milioni o 13 milioni a disposizione e io sono appunto ho fatto solo studi in tecnologia proprio prima che sono diventata un professore diciamo di agraria veramente orgogliosa e piena che aveva studiato ad Ascol qui c'erano adesso gli istituti tecnologali dove veramente ci sono fermati i grandi e importanti erologi e quindi è uno degli istituti più prestigiosi nella formazione la qualificazione di personale atto alla lavorazione alla custodia alla realizzazione del vino nasce proprio da questa città e quindi questi possono essere le fiori poi ho presentito gli istituti di tecnologia ad Ancona perché qui agraria si è spensata l'architettura e quindi parliamo degli anni 90 e quindi proprio subito una cartonica di piacenza nel frattempo nel frattempo sempre comunque fatto il tempo io non faccio dei beni da l'età di 18 anni perché avevo a disposizione un periodo di tironcino per poter poi prendere pratica nella diciamo nella realtà nel processo di trasformazione ecco questo è uno scatto io farò vedere delle foto un po' che rappresenta la nostra realtà aziendale la nostra realtà aziendale è una gestione familiare nel cuore delle colline del Piceno nei comuni di riparanzone ed offrida appunto nella bolliccia di Ascoli Piceno noi siamo nei nostri territori sono assoggettati a tre denominazioni origini controllate la più storica di Rosso Piceno e per la decisione del condizionale di Ascoli Piceno cioè Rosso Piceno superiore e comprendono 13 comuni quindi è un areale molto più ristretto invece il Rosso Piceno è un areale molto più diciamo più eterogeneo perché comprende il fiume Trotto che divide le margine dall'appuso fino a Semiglia quindi ha un'espressione elevata di eterogeneità produttiva poi la seconda denominazione origine controllata è stabilita nel 1955 che fu Panerio è un'espressione per la stessa per la stessa ok la seconda denominazione che è un palermo fu seguita nel 1975 mentre il Rosso Piceno nel 1968 quindi siamo alle porte di grandi festeggiamenti anche con il Consorzio di poter festeggiare i 50 anni quindi al Piceno abbiamo questo grande appuntamento per i prossimi due anni e in ultimo la Doppio Fida la Doppio Fida si è istituita sulla ufficializzazione della diciamo delle vinificazioni in purezza del modo vitigno pecorino e pastorina io sono molto orgogliosa di essere qui contenta di essere qui perché sono una testimone unica ovviamente da dove nasce il pecorino se il pecorino si è diffuso molto nell'Abruzzo si è istituita una Doppio G nasce dalla mia comunità avevo 18 anni faceva un pecorino e il papà andò a prendere questo materiale del comune di Alquata sopra la strada della salaria del comune di Alquata appunto nella precisamente nella frazione pescara del comune di Alquata accompagnato dalla Camera di Commercio di Ascoli di Ceno e ricordavo prima che il preside di Matteo gli annunciò ai nostri banchi di scuola che papà era andato a prendere questo materiale è stato portato nella nostra azienda a Offida e da lì si è moltiplicato tutto il pecorino e lì si è nella nostra area della nostra azienda il vigneto madre il vigneto madre è la mamma dove si è moltiplicato tutto il materiale papà ha a prendere questo materiale piccolo sul piede franco cosa significa sul piede franco? che praticamente alla fine degli anni dell'Ottocento c'è stato il flagello della filostra discorse tutti i vigneti europei del vecchio morlo emologico e i vigneti della parte diciamo del nuovo mondo che era quello americano la scienza si vise insieme e trovò un innesto un innesto che era vite diciamo vite europea con vite americane in questo caso il pecorino che è stato recuperato era sul piede franco non aveva ancora subito alcun tipo di diciamo di unnesco perché? perché il pecorino non coltivato nelle nostre giorni di tipo il collinare che è una fascia coltivare tra i 200 150 300 metri sopra il livello del mare non veniva coltivato non fu attaccato da questa apide da questa bestia ecco e quindi stando a 777 metri sopra il livello del mare come l'esempio che è acquata questa bestiolina non c'è arrivata e quindi lui è rimasto integro guardate caso tutti gli autortori che si sono che sono superstiti e che caratterizzano e che distinguono i made in Italy e sono infiniti non si sa quattro ce ne sono quindi danno una certa criticizzazione che porta quindi a una distinzione a una vera diciamo territorialità parietale ma che contraddistigua i made in Italy a livello proprio architettonico c'è nel senso una cosa tutta nostra ok allora quindi torniamo a noi volevo far vedere questo è il patranzone e noi siamo nel comune del patranzone il patranzone è 490 metri sopra il livello del mare mentre noi ci troviamo a 230 la nostra azienda la nostra azienda adesso è condotta femminile vi farò presentare le mie donne mia sorella mia sorella ma principalmente una mamma che è rimasta papà lo abbiamo perso sei anni fa e quindi noi nel 2012 abbiamo fatto una grande inaugurazione ma perché abbiamo deciso di continuare noi abbiamo renevitato questo patrimonio morale la faccia quindi non ce la siamo sentite di andare ognuno per conto proprio voglio dire tanto non ci mancava niente e ognuno non fa sola cosa e invece mia sorella si occupa di tutto il patranzone e di tutta la parte ecologica produttiva quindi io ho fatto per 20 anni il tirocinio una tirocinante proprio aiutare 18 e quindi questa questa cosa è venuta diciamo ho ereditato questa un percorso di sfide che intravesero soprattutto i miei dimitori negli anni 60 quando dicevano che tutti si spopolavano papà e mamma si sposavano e loro scelte c'era la più grande sfida quella di rimanere in campagna mia mamma era anche un insegnante prima si prendeva la panetta per il mio mare e non c'era nessuno che andava a scuola ecco e non c'era la macchina che era sposata e quindi decise di rimanere con papà che aveva sempre fatto l'agricoltura l'agricoltura allora significava l'agricoltura promiscua si faceva cancioni uova latte vino cereali pane ma papà io dopo mi guardavo a vendere le uova sdeccato poi passò da mia madre aveva fatto bene insomma fatto bene insomma era questa la realtà familiare che cosa è stato in particolare che loro oltre ad aver fatto questa sfida di rimanere in campagna perché tutti quanti andavano verso i centri in panni perché? perché esisteva la patrica non dava reddito dicevo prima al professore si facciamo rotazioni culturali del grado ma il grado va come 40 anni fa non c'è reti di limiti reti di limità allora è vero che ci sono i fondi comunitari che danno i giovani al di sotto dei 35 anni ai 35 anni poi dopo ti devi anche sostentare che io che ho 10 anni in più tipo così non nascondo nell'età beh siamo considerati vecchi ma prima scomigli fino a 30 anni non si ha questi occhi noi abbiamo questi PSR che sono agevolazioni importanti ma devi essere supportato da una certa organizzazione perché fare campagna pari a agricoltura è una scelta corte ed è quando fa più più soldi lo spendi un po' dopo quello ha detto un bravo quel lato ce lo vuole lo spazio che sempre manca e ci vuole sempre qualcosa e quindi è un investimento sempre continuo quindi oltre alla sfida di avere i PSR rimasti in campagna fu quella di avere ripreso la specializzazione culturale se si faceva prima agricoltura promiscua e se aveva giocchi questo le persche la punta che non esisteva il concetto del vino fatto da una specializzazione culturale si faceva vino ma si beva vino cisterna papà ebbe modo di scrivere il suo cognome nel 1968 dicevo che il mio cognome un brand il famoso brand no? e lui presi questo un grifone questo marco questo stemma che stava avanti così doveva andare indietro costruendolo dal fatto di questa formula a due cittifoni era così quindi e quindi cominciò proprio per imbottigliare il rosso viceno superiore nel 1970 dell'anni 20 69 perché il 68 quando fu istituito perché arrivò coltato alla nagape dietro a tutto questo c'è grande impudenzia c'è una grande impudenzia e quindi noi riuscimmo a fare il primo il bottiglamento nel 1969 con qualche uva allora era più Sangiovese meno Montepulciano oggi i più grandi uve a banca nera sono Montepulciano e Sangiovese abbiamo esteso questa piattaforma andelografica a favore di questi due nobili soprattutto il Montepulciano nobile di figlio diciamo per far vedere questa geometria delle nostre campagne sono spettacolari io ci sono cresciuta ci cresco ci vivo tutti i giorni per me io sono privilegiata di vivere a porta da un giardino i nostri miei sono dei giardini guardate questo è Ritochino papà è l'insegnamento negli anni 60 di impostare il famoso Ritochino cioè che gli impianti sono in maniera albastizzare non sono anti-corrosione anti diciamo svoltamento e l'operatore quando lavora lavora sempre in piano quindi non tutti sono facimenti meccanizzati questo vorrei vedere questo bellissimo questo qui questo è il prossimo il Colle dove c'è tutto Montepulciano sistema di irrigazione un'altra delle grandi sfide di papà trovare acqua mi impazzino negli anni 90 c'era una grande siccità trovando una porta preatica nella nostra azienda cercò di coinvolgere anche gli imprenditori vicino tutti i buoni abbiamo pesci qui anche i ranocchi se vedono più a vedere un ranocchio che non si trova chi è che ha visto più un ranocchio? nessuno non si vedono qui i ranocchi ci siamo allontanati da questo io che ci vivo lo vivo per me è scontato è importante quindi per saporare queste cose come quando io dico bevete un ranocchio quello è per saporare anche il rumore sentire la percezione del rumore ma del rumore della natura non il rumore dello smog di tutto ma di tutto ma di tutto non capisci queste cose sono inquinamente appusti io poi ti dico che ritornano le rumini in azienda ritornano le rumini in azienda la parata cintana ritornano le rumini l'ultima settimana di marzo e la seconda di settembre parola tutte affilate insieme rovinate via finitamente noi le aspettiamo tutti un cibo e io sboccono un po' in cantina o beh però ci stiamo magari ha detto obiezione se le rumini sono una gioia fanno fino a tre migliate questo per aspetto salutare psicologico fa bene le persone fa stare bene ed entrare in un contesto produttivo quindi noi è importante anche la localizzazione di fare per esempio il vino in un contesto paesaggistico campano puoi fare vino vicino a un'industria perché il vino è una spugna assapora tutti gli odori esterni se c'è un cammino che latte che fai un travaso tra una vasca all'altra quello sa di fumo bisogna stare attenti a questo quindi non possiamo noi portare molte volte si pretende dalle aziende agricole telematizzazione tutto ha portato in mano che si fosse l'industria si però oggi è arrivato un temporale quindi il medioevo brutale non funzionava la luce non funzionava niente siamo stati fino alle 10 le 11 l'elettricista a ripristinare la corrente tempestando in ambienti così va incontro a questo abbiamo fatto dei corsi sulla telematizzazione dei registri del privatorio rispettorato da persone trovate trifuturac ma se va via la luce ci vuole l'autorizzazione la certificazione da quelli dell'elett perché va via la luce si figura il traccio per la certificazione cioè poi di paradossi ecco queste sono le colline dell'azienda San Passo uno dei tre corpi noi abbiamo 100 erper quasi 100 erper di cui 41 al momento specializzato abbiamo molto abbiamo 15 erper di acere agricole perché abbiamo appestato da poco un'azienda affinata a un corpo che abbiamo è l'azienda Tarà i corpi sono tenute legge a essere nuovissimo adesso ci abbiamo messo la cenea il cenea di dare importanza alla rotazione è importante donare dare opportunità ai terreni di potersi nutrire aree a aree prendere rifare una flora batterica dare giuridità agli strati geofilologici sottostanti e invece io vengo da una cultura dove noi ci siamo dovuti difendere per scelta da questi impianti intensivi si facevano un metro come le palla piccole 3.000 5.000 piante per metro mamma mia 7.000 invece sistema di impianto di un metro sulla fila 3.000 2.700 2.000 piante per hectare è un modo di equilibrio si rispetta la pianta si rispetta l'apparato in bogeo quindi il discorso di equilibrio ok questo è l'invenzione in fondo sotto il viso che vediamo prima questo è l'invenzione di una delle vigne scritte nell'elenco regionale storiche perché questo è il conti bruciato da cui noi otteniamo questo 50% con del bruciato e 30% e sta proprio di fronte alla vostra cartina cuore proprio lì e l'attrazione ecco questo è l'invenzione perché abbiamo potuto cominciare a comunicare i nostri attrezzamenti soprattutto per tutti gli aeronauti le famiglie le persone che devono visitare fare a ritrae tuttanto la natura noi facciamo cantine aperte da 24 anni siamo passati io ricordo 24 anni fa 20 persone in cantina siamo arrivati oltre mille persone il movimento turismo del vino ha fatto grande movimento adesso qui a Diofida c'è la Mangialoggia un altro movimento che sta prendendo molto piede questi sono fenomeni importanti dove diamo tempo spazio all'ascolto l'ascolto di gente che ha bisogno di questo e che il vino è sempre il protagonista un prodotto che da anni ha fatto non è un prodotto però non è plastica ecco questo è un prodotto è fatto da una filiera soprattutto nella tridimensionalità si compone di custodi del paesaggio bellezza paesaggistica conservazione tutela e cura del paesaggio il secondo aspetto filiera la filiera si compone di tutte le componenti le trasformazioni quindi tutte le novità operative a partire dal prodotto uva che è frutto della cura del vigneto con i giardini fino alla trasformazione per il nostro e il vino e il vino poi lo si confezione e quindi la destinazione a consumo sia per il mercato quotidiano quello domestico che è l'amolo e quello internazionale con tutte le esigenze e le regole che sono alleste oltre il controllo di qualità papà e mamma davanti al pecorino la vigneto madre proprio e appunto se oggi io lo definisco il vino pecorino il vino rosso vestito di bianco perché con questa sua grande longevità ecco qui nasce proprio da qui papà invece si è andato a prendere questa linea nel 1983 prima vinificazione in purezza nel pecorino nel piccolo nelle macchie in Italia in Europa nel mondo e tutto il fatto di minacciato il mondo con il podere con il vecchio e oggi quindi lo facciamo da allora questa produzione adesso c'è mamma quindi oltre mia sorella e mia madre che abbiamo definita la castata perché lei capa tutto e ha queste levità diciamo morale del marito quindi lei si occupa della campagna e di tutto ecco questa è una pausa dello scorso anno io mia sorella e mia madre abbiamo costeggiato i nostri 45 anni nello scorso anno per verità anche se la nostra storia inizia nel 1150 e l'avamo testato il sermento da quando si fa uno e sono parata cinque anni e abbiamo presentato un nuovo vino un pecorino presentato uno in particolare come domande del pecorino con lieviti ecotubici quindi la tutela e la salvaguarda del paesaggio porta anche a selezionare i lieviti che sono i protagonisti del processo di trasformazione del mosto il vino che sono i lieviti che sono i diffugi che si trovano nell'aria sono quelli che si caratterizzano e che determinano una certa tipicizzazione varietale e vengono selezionati ma non da una vista in un'ottica ma dalla diciamo da una qualità che vanno a trovare un lievito che sia proprio in quell'ambiente non lo vanno a cercare a Bordeaux scelta che si vengono in un'ottica quindi questo crea una stile italiana ma soprattutto una stile aziendale e soprattutto una tipicizzazione varietale che non da ombologazione ma distingue quel determinato prodotto le tre sfide il borso diciano superiore 1969-70 che è stato il primo vino contigliato dalla nostra famiglia nel 1970 seconda sfida con l'evecchio pecorino di cui vi parlavo 1990 e abbiamo ottenuto la DOC-G o fila pecorino la prima volta o fila DOC-pecorino occupata nel 2001 poi diventata DOC-G nel 2012 con il contrassevo di Stato ok fa la passilina sfumante è l'altra terza sfida da aver sfumantizzato la passilina questa è la ristrutturazione della nostra abitazione quindi costruire sul costituto abbiamo recuperato tutto ciò che parteneva alle nostre donne da 102 pagamenti al piano di sopra dove vive mia madre nostra madre e quindi dando i valori di qualità di una casa che è da lì la mia di 30 questa è la ventina ristrutturata la vecchia stanza colore rosso i materiali del legno e dello specchio del vetro che sono i materiali che era causati nel mondo del vino il legno la bottaia che andremo a vedere il vetro che è la bottiglia abbiamo dei botti in cemento armato sono stati identificati con le resili possibili che non sono alimentari il colore rosso il rosso è l'accoglienza il primo rosso il rosso è stato quello che ha permesso di iniziare la nostra storia negli anni 70 questo è un drone il giorno prima di cantine aperte quindi il 23 di maggio come potete ben vedere la casa l'abitazione la cantina con i tre colore l'acciaio l'arancione e il rosso il verde e il fotovoltaico abbiamo cercato di poter dare un'incontra proprio il sostegno il fotovoltaico ci dà puntissimo certo non copre tutte le nostre esigenze nella manutenzione della filiera però vedete quanto il paesaggio è così con un modo caratterizzato da boschi da olivo da una geometria e soprattutto da possibilità di non causare smontamenti questa è un altro foto del drone che abbiamo fatto anche la piscina il recupero è stato fatto da vostro collega l'acitetto Sandro Mariani che ci segue da non so se frequenta quest'anno la velocità lui ci segue con qualità parsimonia avere pazienza con le donne è facile ecco la filiera il vino che nasce da Cuba le mani sempre l'opera delle mani ecco sì la tecnologia però ci vuole tanto lavoro tanta dedizione per raccontare un draffolo per venire su un draffolo ecco questa è la raccolta manuale di tutta una varietà la filiera la trasformazione quindi l'arrivo dell'uva dell'azienda e quindi tutto il percorso di una filiera dalla vinificazione il rosso il bianco la trasformazione del rosso del vino l'acciaio quindi contenitori serpatoi una cantina che ha una storia di 73 anni in particolare ha con sé diversi materiali emologici come serpatoi dall'acciaio al cemento armato elettrificato con le restri possibiche perché in anni 70 se facevano il cemento armato e più la bottaglia è questo quando io ripartisco la direzione dietro le quinte ecco questo l'acido non ci è piaciuto fare questa foto del cesto delle bottiglie queste sono bottiglie confezionate lasciate i cesti il cesto che richiama questa baffida pecorino 2015 che abbiamo ribottigliato da pochissimo e sta qui un anno un anno tra un anno ne ha messo in commercio questo vino che sta ribottigliato di un omaggio e questa è la mia cartigrafia naturalmente la potete vedere e richiama appunto l'acido la sfera ciò che riscontro il cesto no di una queste le bottiglie nonno quindi nel 1950 le bottiglie le bottiglie sono state fatte perché la cantina da suo tempo è stata costruita un po' per volta non è una cantina che è stata costruita di sana pianta come avvengono certe progettualità ricerche ma fa per volta questa è la bottiglia ecco non viene costruito lo sofficiale o superiore quindi il velo il materiale non tanto il velo ecco il controllo di un taglio mi occupo di questo e di legislazione oltre la direzione questa è la cantina più è l'ingresso dove è stato ristrutturato in cantina aperta nel 2006 ogni cantina aperta è stato sempre inaugurato qualcosa questa qui nel 2006 la stanza dove è avvenita a bifida nel 1975 è un po' qui dentro o benima questa è la terrazza che è stata ristrutturata lo scorso anno in occasione di cantina aperta nel 2015 questa è cantina aperta nel 2016 io l'abbiamo fatto abbiamo aggiunto oltre mille persone in due giorni quindi c'è attività artistica creativa urinaria il contatto diverso la visita l'intina accogliere avere fatto la dimora e comunicare dove nasce il vino questa è la terrazza quindi la visibilità del nostro paesaggio e quindi noi ovviamente lo diamo riscontato però c'è gente che si rinfranca in tutto questo ecco qui la nostra terrazza questa è stata ristrutturata nella città della casa con la città di fiori di piscina e poi la compilialità almeno è una bevata idroalcolica ha azioni terapeutiche salutistiche se bevuto sempre con un assaggio diciamo con un moderato consumo consapevole questo non sia un caso però comunque appunto gli effetti benefici diciamo rispettati quindi è anche espressione di sorriso compilialità e quindi questo permette l'aggregazione sociale un modo per creare l'incontro e quindi questo è un aspetto complicativo mia sorella e con i nostri amici diciamo del nord e o Roma che hanno investito da loro hanno comprato una casa una giornata che non si può dire questa cantina aperta nel 2016 e appunto mi piace chiudere con un sorriso perché fino con questa espressione con legalità e il mio amico che è matta che è entrata tantissimo che è presente sono tutte le donne e mi piace tutela con questo pozzo che quando sorridiamo il voto saluciante comuniciamo la parte dei milioni di noi e rivediamo salute perché come ci ha risciato il grande ciamiciante un giorno senza un sorriso un giorno perso il tau dell'aggressione di Mauro Mario Mariani che appunto so che è la inserita grazie grazie allora grazie Paola il tuo intervento in qualche modo è fondamentale perché capire poi noi svolgiamo delle ricerche sul territorio quindi molto spesso osserviamo percepiamo questo passaggio lo interpretiamo al nostro modo ma poi avere un costante chi di vero con chi poi nei fatti non trasforma che per noi è importante soprattutto è stato importante vedere queste sono oltre che ovviamente tutti i processi di trasformazione di produzione che poi fate vedere come poi l'attività non è soltanto un'attività di produzione ma sempre più si va implementando con un'attività di carattere ricreativo di servizi di spazi di accoglienza e questa è un'occasione appunto all'interno di questa scuola noi abbiamo lavorato molto su questo tema nel corso di alcuni anni abbiamo avuto anche una collaborazione con il comune di controguerra con il quale abbiamo fatto una ricerca sulla strada del vino del controguerra d'offe quindi l'infrastrutturazione delle strade del vino questa questa diciamo questa vuol dire definizione mai ben mai ben compresa mai ben percepita no? perché esistono le strade del vino sono individuate dal punto di vista amministrativo ma poi in realtà nella concretezza delle infrastrutture dello spazio non esistono di fatto e quindi la scommessa è stata quella un po' di capire di un luogo quali erano queste strade come si collocavano nel panorama nazionale io faccio un po' un po' un po' un po' della situazione fino a quando la nostra azienda sulla strada del vino lo soficano superiore c'era una cartellonistica non posso fare ricordo perché sono state rivolse dall'amministrazione commerciale del 2009 che tra le non sono state più messe è stata rivolta nel 1967 con inaugurazione delle cantine che erano sulla strada del vino che parte da San Penevetto del Toro a qualità a Cicena non si sa adesso c'è per questo l'altro supera che è possibile è evidente che il nostro interesse è rivolto alla inconsortulazione del territorio a capire quali spazi poi sono necessari per rendere per rappresentare questa dimensione del territorio e quindi se Emanuele Velicone è pronto con le immagini rapidamente Emanuele perché si è andati un po' lunghi quindi magari parfontaci più la fan della ricerca che esporre sui progetti in Sì come riguarda il professore abbiamo condotto l'ambito delle cerchie identiche come la problematica del vino in particolare del strage del vino del medio teatrico una ricerca che è partita dal 2007 con una desilaura che è venerente alle qualificazioni di tutto il percorso che diceva l'Ottio e poi si è anche devoluta negli ultimi anni con una strada del Pino in Italia ha questa prima mappa sugli interaari per il percorso italiano sono 107 si ramificano su tutte le regioni in qualche modo che le regioni come potete immaginare la Toscana e il Veneto anche la Prusa e le maschere in particolare hanno una caratterizzazione delle strade del Pino così come la diffusione delle attività quindi 8500 attività di piccole in Italia ci sono una decisione che in qualche modo ha un ricaccio spaziale al livello dei nostri territori in specie si vede molto poco ma da ricermate quindi la prima parte della ricerca l'hanno fatto le cantine precedenti regione quali erano stati le attività di prodotto edilizio di trasformazione del processo edilizio che l'attività di cantina aveva portato tra i manfatti occupato e la stessa cosa avevamo provato che di applusso il tempo di capire qual era una relazione tra la natura e le cretage tra la posizione ambientale e la storiografia invece più antropica che la attivazione del vino le strade del vino come dicevo nelle macche sono 6 5 di cui ci siamo occupati una maggior attenzione era l'intinerario del rosse vicino superiore un intinerario molto particolare perché il fatto evitava o comunque si addendrava all'interno del territorio del viceno evitando la sede principale della vallata evitando la sede del vino è una strada di contigamento di contigamento alternativa spesso si collega la strada del vino a un'ottimità ciclistica che può essere sia di tipo escursionistico e di tipo dimensionale per cui si costruiva questo anello che di parte appunto scartando evitando la vallata riusciva ad vivitarsi nei territori e scoprire tutta una serie di qualità ambientali culturali storiche architettoniche che sono proprie dei questo senso di nuova trasformazione che il turismo vuole adoperare turismo per inserire l'opera la strada del vino a cruz siamo occupati come dicevo principalmente di contro le lotte e anche queste si ramificano che il territorio del processo spesso con il territorio costieri che sono un po' per fattori rispetto a corsi turistici le mappe che ci stiamo facendo vedere sono mappe che abbiamo costruito stendendo studi di ricerca perché sostanzialmente ci sono mappe che non esistono mappe virtuali virtuali perché esistono soltanto interi che non sono stati inseriti nella programmazione di identificazione né dal punto di vista delle istruzioni territoriali istruzioni nazionali però il mondo del turismo online che ha una sua velocità anche una sua velocità di capire i territori riferire i territori ha in qualche modo immaginato quelli che devono essere alcuni itinerari più o meno elaborati a seconda di racconnessione tra il paesaggio è il tema del vino quindi dicevo il percorso del vino è sostanzialmente un percorso che mi insieme una serie di strade come vanno dai grandi di terra i grandi di paesaggio rurale le risorse delle produzione turistiche ma anche gli spazi della produzione oggi gli spazi di produzione vinicola sono molto poco attrezzati alla ricettività turistica sia intendendoli come ricettività restaurativa sia soprattutto ricettività alberi e ristorante le strade progetti abbiamo in qualche modo cercato di capire quale potesse essere un'infrastrutturazione in questi luoghi fare in modo che si potessero avere una dotazione di servizi alle cantine un potesse permanere il turista all'interno del circuito di Vittimundo nel mondo questa cosa si fa si fa degli esempi che abbiamo cercato in qualche modo di trattare con opere di affidature contemporaniche maestri di 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 l'inforza cercano di dare un'impronta al territorio attraverso il progetto dell'archivio c'è una proposta per l'inforza di franzone legata all'ocupro di un complesso rurale non più occupato che è stato trasformato in una logica di impianto di una nuova struttura di finicola e servizi conversi pura quindi servizi sia di stampo di accoglienza e sia di permanenza appunto su una disciplina invece il studio del percorso di processi di seconda guerra si era fatto un ragionamento più legato a una logica di itinerario quindi di capire quali sono essere i percorsi poi un po' strutturare il itinerario con dei piccoli con piccole situazioni servizi che erano puntuali e legate alla utilità operativa di voce la giornale con un esito con attestità di laurea si era cercando di costruire un centro che era legato alla cultura del vino in terapia e anche vendita di rete eccetera in qualche modo potresti ricostruire poi forse appunto per costruire la città muraria esistente e più visibile del comune di contro guerra appunto con questa ultima immagine è un po' evocativa del fatto che la stratificazione del paesaggio che oggi per corso del vino va a occupare costruisce la stratificazione possono costruire più grandi e sono questi percorsi verso cui si può accedere un accesso facilitato a tutta una serie di condizioni di tipo turistico grazie diciamo che poi alcune cose iniziano a tornare anche per quanto riguarda le risposte che vengono elaborate tra le questioni che poi il territorio pone nel senso l'avere focalizzato alcune esigenze alcune richieste avere immaginato alcune richieste da parte degli operatori è stato importante perché in qualche modo ha costituito un primo passo verso la dotazione di infrastrutture e spazi a servizio dell'elonauta come dicevi prima l'intervento successivo è quello di Massimiliano Cabretta Massimiliano Cabretta è uno chef uno chef che in qualche modo è un po' atipico diciamo nel panorama degli chef nazionale anche se ormai è emergente a livello nazionale perché sta avendo sempre il maggiore successo anche da parte dei media perché molto spesso trattiamo che il lavoro sotto non paga c'è bisogno più di immagine mentre invece Massimiliano Massimo per gli amici ha lavorato molto ha lavorato molto ha fatto la gavetta e si è affermato per alcuni concetti che tempo dietro ha voluto affermare lui stesso e che oggi invece sembrano rappresentare la norma per una gran parte degli chef nazionali e internazionali io ti invito Massimo a parlarci è chiaro ma io posso parlare molto meglio attraverso quello che faccio però secondo me è molto importante la tua esperienza perché in realtà tu sei quello che valorizza dei prodotti che teoricamente dovrebbero essere giocuoni ma tu mi hai spiegato che in realtà molto conta la materia prima e quindi in che modo tu selezioni la materia prima quali sono i meccanismi che hai messo in atto in questi anni per far sì che il prodotto finale potesse saltarsi se vogliamo attraverso la materia prima di qualità e quindi l'importanza di una produzione agricola di qualità come dice il professore mi sento molto più a più armo a cucinare che a parlare questo è un dato di fatto allora è vero che ultimamente siamo più in poca perché un'intervista fatta qualche mese fa ho appunto dichiarato che sono fortunato in quanto non ho seguito una nota ma è il mondo che ha girato verso me e questa è stata una fortuna in quanto io nasco come cucina nasco con un'idea bio bio sostenibile di forte stagionalità e nasco con una probiotica quindi un'esperienza faccio un poco di radunce sono l'acqua non lo so perché lo scelto sono l'acqua e quindi dicevo come diceva il professore siamo visto che oggi tutti parlano di bio ormai siamo tutti vegetariani crudisti per moda l'acqua lo era vent'anni fa e quindi quando c'è stata 10-15 anni fa la scoperta della molecolare dove io ho deciso di intraprendere per vedere per conoscenza quindi andando a Barcellona della scuola di Ferraria andando a Udile in Roma frequentando grandi chef che anche tuttora se ne parla finché tra il servito striscia la notizia non ha messo in chiaro cos'era questa cucina molecolare io sono andato a vedere per curiosità perché il mondo della ristorazione i grandi chef erano quelli io ho sempre messo l'angoletto in vita parte non andavo fuori non veniva il pergente vado a vedere cos'era vado faccio questi corsi vedo che cosa sono queste materie prime che mi hanno utilizzate e decido che non mi appartengono era più forte di me io non riuscivo a mangiarle io e quindi non riuscivo a servirle e ho detto non me ne frega assolutamente nulla preferisco rimanere non in un prato però non scendo al tuo promesso fortunatamente oggi dicevo i bio i lieviti sono autotono si ricerca il lievito autotono nelle cose e l'anca penso che sia autotona quindi penso che oggi mi sia dovuto vent'anni fa quando io parlavo di bio la gente mi rispondeva nei commensali mi risposeva l'intelletto ma io non lo tu ma io non lo tu come diceva la dottoressa Grifoni i lieviti autotoni io all'anca nel mio percorso 17 anni fa 18 anni fa ebbi la sensibilità di dare ai vini un cerchio nero che sulla mia carta oggi al sole è presente e questo cerchietto nero selezionava da me per sola vini con particolare attenzione della cultura biologica cosa facevo? io sensibilmente ho deciso che alcune aziende davano l'esercizio risalto rispetto ad altre per questa semplicità che era quella di la lavorazione che veniva fatta nei campi io ho la carta di vini in 500 etichette sono anche sommelier professionista AIS da vent'anni oltre a essere chef e barman quindi di ebbi la sensibilità di fare questa cosa e me li sceglievo io quindi in abruzzo per esempio scelsi Valentini Pepe o chiusa grande o altri pionieri del biologico come anche nelle marche c'era degli angeli o altri altri anziani e quindi che dire questa grande sensibilità del bio oggi ha fatto sì che si parla dell'arca e si vengo chiamato a non so non è biero in giudia per i giovani scelte emergenti o televisioni o cose la e quindi il lavoro dell'arca il lavoro dell'arca vent'anni fa era fare cucinare il miglio quando ho servito il miglio mi dicevano che ero pazzo perché davo da mangiare il cibo dei canadini ma io chiedo a voi se vent'anni fa mangiavate miglio però sono pochissime le persone che mangiavano miglio oppure si era le zuppe le zuppe di farro e io ho fatto un grandissimo lavoro sulle culture contadine con Lupegliani e con Giulio Fiore dove posso fare i nuovi sferimenti con Giulio Fiore e quindi come so lui era il primo scopitore del miglio e io facevo l'arancino di miglio facevo la zuppa di miglio insomma hamburger di miglio oggi come si sa come oggi Giulio Fiore adesso sta continuando la chinoa e anche lui precede le mode e quindi anche lì insomma la valorizzazione dei territori mi ricordiamo un po' al vostro discorso la valorizzazione dei territori con appunto andando ad aiutare una cosa fatta spontaneamente andando ad aiutare le culture contadine quindi io cercavo di portare questo Giulio Fiore che poi non ha avuto bisogno di neri grazie a Dio però ho cercato sempre di appoggiare e di regolare questi questi contadini contadini che un altro lavoro grande fatto sempre 18 anni fa c'era la Villa Rosa esiste una famiglia una grande famiglia contadina cosa che non se ne trovano più oggi dove da nonno a questi nonno casatevi 25-30 persone e facevano coltivazione contadina così io ho fatto di tutto portandoli con me in tv sui giornali sulle guide portando sempre il loro nome e aiutandoli ad aprire questo negozietto l'ho fatto inserire su Campagna Amica l'ho fatto inserire sulle guide su Food oggi grazie a Dio non hanno più bisogno di me perché quando vai a fare la spesa da loro c'è la fila però 15-20 anni fa basta chiedere l'allore insomma il lavoro enorme che abbiamo fatto nel mio ristorante nel nostro ristorante per promuovere la stagionalità per promuovere la verdura raccolta e consumata poi magari non entro nei dettagli del perché per promuovere e valorizzare chi mette tempo in campagna e dargli il giusto prezzo perché io una volta che andavo a fare la spesa da loro loro mi diseglamentavano perché vendire la roba al mercato ti davano 40 centesimi al chilo io gli dicevo no tu devi vendere un euro e vendita un euro la devi far pagare dobbiamo trasmettere e far capire che il tuo prodotto che è cotto stamattina cotto e consumato non è uguale a quello che viene stoccato nelle camere a gas o lavato e conservato dentro delle busche non uso già pronto all'uso e quindi a un prezzo davvero un prezzo più alto e così un importante che mi produce qualità ed è stato il mio martello quotidiano tutti i giorni andavo lì gli chiedevo cosa c'era cosa era prodotto andavo dentro i campi andavo a visitare le piante andavo a toccare e le roncini che usavano ero veramente un caccacavolo per non dire quando mi vede ero pesante della situazione oggi però penso che se vi parlate di me possono dire qualcosa perché veramente c'è una fila per comprare altra esperienza sempre per tornare a livello pesaggistico perché è inutile che mi metto a dire le mincette se vi interessa poi vi fate qualche domanda e vi spiego qual è la mia filosofia di cucina altro lavoro fatto allora questo azienda questa famiglia oggi non ha più bisogno di me e ci siamo trovati ad Alba Triana nel centro di Alba a 100 metri dal mio pistorante un terreno in conto di 25-30 anni un gruppo di persone disagiate questo ci ricorderiamo a quello che dicevate prima riguardo ai ritorni nei campi al via delle macchine e quant'altro queste gruppo di persone disagiate si sono messi insieme e mi hanno chiamato Massimo perché dici che facciamo io gli ho detto sì facciamo questa produzione andiamo datevi da fare io sono pronto a consumare tutto quello che producete ma cosa ti serve? ti serve quello che ti avete coltivato oggi io non ne devo ordinare voi mi dovete portare ogni giorno quello che avete racconto ma il prezzo è più alto il prezzo è più basso quanto costa il mercato? ne avrebbe in giro ne do 1,30 1,40 non è vi voglio dare di più l'importante è che mi dà un prodotto l'importante è l'insalata che ha le compagnie dentro perché troppo è così insomma come è insalata buona bisogna avere la mia macchina dentro è partito questo progetto due o tre anni fa oggi questo gruppo di persone disagiate fa fatturato si sono collegati con altri produttori questo terreno incolto completamente io non danno assolutamente questo tipo di trattamento rinforzano il terreno cambiando semplicemente le coltivazioni allora metto il capolfiore finisce il capolfiore metto la verza finisce la verza metto la fava e via e così via quindi il terreno si autosostenta scusate il mio indagliare ma è stato un po' il mio indagliare si autosostenta hanno fatto un gruppo rete con altri produttori quindi non so ad esempio mi servono i figli perché siamo nella stagione dei figli loro sono da poco mi coltivano hanno trovato altre aziende piccole che hanno i nomi di fighi e quindi riescono a portarmi i figli ma mi credisco che fanno di più di quello che si rende oggi nei supermercati però il mio prodotto è unico oggi ancora noi serviamo proprio di sera le venture di campo raccolte sempatiche 8-9 euro al chilo mi vanno il contadino che viva le campi e mi accoglie l'erbe quindi penso che siano delle cose delle picche particolari quindi ecco la cosa positiva che posso dire è il prodotto urbano quindi tornare in questi terreni dismessi all'interno di questi paesi che invece magari lì continuamente ad Alba c'è stata una vendita di terreni e costruzioni di palazzi mega a 40 metri quadri copai io le chiamo copai invece questo piadero siamo riusciti a salvarlo e creando lavoro per delle persone disagiate che magari non avevano più nulla non avevano da fare e oggi invece stanno creando un business stanno comprando un furgone e consegnano a tanti altri ristoranti hanno fatto anche una baracchetta e vendono anche alle persone che ce l'hanno e quando a me mi chiedono dove io mi riformisco l'altro giorno a Roma dei miei colleghi mi facevano male ma poi sono i suoi fornitori sciati e gli ho detto ah i miei fornitori sono un gruppo di persone disagiate no no ma i suoi fornitori sì quelli sono i miei fornitori l'agnello è un contadino che mi dà l'agnello di città la carne la carne è un contadino di città nuova che mi dà la carne biocertificata noi facciamo un biologico da 20 anni e siamo i primi mi rilascio non so dimmi Cristofo che domande non so che dire ti racconto allora per esempio ci siamo ci siamo certificati abbiamo chiesto a GCPB non so se conoscete questo ente nazionale in Polonia che fa certificare questa è sempre storia arca storia che parte dai nostri pensieri come dicevo il simboletto nero il simboletto il cerchietto nero dei bibliologici oggi si parla di Dico Bio 17 anni fa credetemi non se ne parlava pronto allora abbiamo chiesto a GCPB questo ente nazionale che certifica il Bio di fare una certificazione per i ristoranti non è fattibile non è stata fattibile per anni oggi si è arrivato ad avere un certificato che si chiama Conoscito Pasco questo certificato ha due certificazioni da una a tre foglie certifica il massimo conteggio da una a tre foglie per tutto quello che è la certificazione Bio noi abbiamo tre foglie quindi che vuol dire che compriamo tutto quello che troviamo sul mercato che abbia la certificazione Bio ora Bio io dico subito che esiste Bio e non Bio ma chi ce lo garantisce però io dico sempre che nel peggior dei casi meglio un Bio che almeno non siamo sicuri che ci faccia male bene che una cosa convenzionale che siamo quasi sicuri che ci faccia male quindi sicuramente prevedigo il Bio e rispondo sempre che per me il Bio io lo certifico da solo quando prendo la mia materia prima che la porto in cucina per l'auto di bene lavorare io mi autocertifico se quel prodotto per me è qui o no parto dalle uova che se io compro uova convenzionali da uova certificate Bio per me c'è una grandissima differenza del tuorto dell'albume della consistenza dell'odore e del risultato che ottengo quando faccio una pasta con un dessert dalle farine o dai cereali o da queste altre cose quindi l'arca si è certificata Bio quindi compriamo tutto quello che troviamo sul mercato biologico punto primo il chilometro zero dove lo trovo il chilometro zero compro da qualsiasi parte l'importante è che abbia una foglia verde al seguito l'altra parte della certificazione di un ristorante Bio che è da 1 a 3 galletti perché il ristorante Bio come lo certifica è una cosa difficilissima da 1 a 3 galletti certificiamo la materia prima quindi tutto quello che è del Bio noi abbiamo certificato tutte le provenienze allora se io uso carne di mazzo è o Bio con foglia verde o è dichiarato quindi come diceva prima il signore il dottore non so il titolo è quello che è l'IGP l'IGT o la DOC o la DOC quindi noi compriamo o il mazzo bio certificato che troviamo solo l'inverno e l'estate l'O e l'estate usiamo carne l'IGP o le famose 5N quindi usiamo carne e il pianino certificato e ogni produttore che ci vende questa materia prima ci facciamo dare dei certificati tutti questi certificati vengono legati in questo attestato di certificazioni di ristorazione che ancora non possiamo chiamare Bio che però si chiama conoscito passo altra cosa che non è certificabile biologica è il pesce quindi nel nostro ristorante usiamo solo FAO 37 che ogni volta che lo dico cosa cos'è FAO 37 è il Mediterraneo quindi tutte le zone del mondo di pesca sono diversificate in zone FAO la FAO 37 è il Mediterraneo quindi l'H cosa usa usa solo pesce il ristorante è un'altra realtà per cui noi gestiamo due attività per quello che riguarda l'arco usiamo solo FAO 37 quando non usiamo il FAO 37 usiamo solo pesce certificato quindi se poi venite a marca non usate degli salmone però è un salmone bio certificato e vi garantisco che io che apro il pesce quando noi entriamo tiriamo fuori le viscere che è una cosa che si faceva in attività che si è sempre fatto per vedere un prodotto di qualità animale che si è di partenza indica o terrestre le viscere è quello che ci dicono tutti se io prendo una spigola di allenamento rispetto a una spigola di allenamento bio o a una spigola rastrana io ho tre interiore tre consistenze di tagli tre offazioni completamente diverse sono delle cose completamente diverse anche sul salmone che fortunatamente oggi si fa sempre più in formazione visto il baiale ad antibiotico punta pazza tutte le varie cose che succedono sul salmone non nasce nulla ma tanto si la potrebbe quindi se si mangi un salmone anche se si mangi un salmone bio se si mangi un ostico si mangi un ostico di appio o se trovi una cosa che fuori fa il 37 in questo periodo lo sto servendo perché il nostro vicino Monti ha preso una partita di black gold mi chiama dice ma se lo sai c'è un black gold mi dai il certificato il black gold certifica la pesca da trago in zone di mare non trattate eccetera eccetera ok io posso inserire nel mio menu un black gold che è straordinario con le qualità di vedesce con le qualità di 3 però è grande nella parte di diventare della dieta e questo è dire le esperienze quindi non so il contadino il pastore a Torentino c'è un ragazzo il santo che ha iniziato con 100 pecore e oggi ne ha 700 e siamo andati sul bucritis sui lievi sulle muffe e gli ho fatto convinto a produrre il cui mi è iniziato nel passato perché mi voleva vendere le caciotte e la ricotta che dà verso i mercati io ho provato il prodotto ho parlato con questo ragazzo è un ragazzo squisito sardo che crede in quello che fa e gli ho iniziato a dire ma perché invece di fare un prodotto per me facciamo un prodotto di fare un formaggio ricreiamo una gruffitis dell'aria facciamo una stanza mettiamo insomma delle muffe e oggi sono passati due anni ha portato il suo formaggio una delostazione dell'uomo a farlo ma dell'uomo a Roma ha portato un formaggio fuoriconcorso e ha preso il punteggio più alto su 1500 formaggi abbiamo fatto un grid di pecora fatto questo si chiama Alessandro D'Aidone di Tolentino vi dico anche il nome così vedi che vanno certificati quello che dico ha preso il massimo punteggio come fuoriconcorso quindi il massimo praticamente lo avremo oggi mi fa tutti gli esperimenti io mi chiedo consigli stiamo lavorando io a lavorare su di lui io gli do la mia consulenza gli do di presto il mio fatto la mia analisi organolettica per quello che mi compende del suo prodotto la cosa che mi fa molto piacere è che riusciamo a ottenere questi risultati insomma come su questo formaggio che mi fa ricomorso per i venti tutti in giro un altro lavoro per l'esperienza sempre sui produttori locali l'ho fatto in un'azienda fracassa a San De Giro non so se la conoscete anche lì Enrico che faceva questa elettricina dello stomaco che mi ricordo quello che facevo io con mio nonno però l'unico problema è che lui usava maiale convenzionali in giro per l'Italia senza dichiarare produzione quello che trovava trovata riusciva a fare un ottimo prodotto anche parlo con Enrico c'era qui è molto così molto becce anziano con i figli abbiamo iniziato a parlare con Luigi tu Luigi va bene tutto buono il salame ok iniziamo a levare più frati iniziamo a levare il pepe allora metto il pepe di salame che è un pepe da 70 euro un pepe selezionato potrei parlare mezz'ora sul pepe anche cambiato il pepe è iniziato a lavorare questo pepe che costa 70 euro al chilo contro le 7 euro commerciali e oggi se voi mangiate un salame di fracassa dentro troverete un pepe di sarama che è merito mio come oggi se lui ha 70 quasi 80 levaventi di maiali che è riuscito a fare abbiamo preso questi perreni e hanno buttato giù insomma abbiamo fatto un lavoro enorme oggi sta ricreando è ricreato un barco a già 80 pezzi e sta iniziando a fare un salame dove io gli ho consigliato 26 euro al chilo il prezzo di mercato e sta facendo un salame autotono a Sant'Egide aveva imparato cose impensabili dove io avevo una razza e variati che stavo selezionando anche lì adesso sta entrando università a canale e tutto ma da però diciamo che questa è la mia esperienza questo è la mia si mette a capretta e questo è perché oggi mi sono definito perché io cucina mediterranea perché io oggi ritrovo e riscordo tanta ipofisia di questo mondo cosa che non ho mai voluto credere il video ipofisia sono due cose che io non riuscivo a capire sono due termini che non riuscivo non so che cosa volevano dire come parla da me spese bio cucina mediterranea perché bio non perché voglio essere ideologico perché bio deve dare anche saggionalità deve dare anche sostenibilità io non posso sempre parlare di diete mediterranee quando poi mi consiglio di mangiare il pomodoro a dicembre la zucchina e andare a dei ristoranti e mangiare le medigliane viste nei mesi invernali quando non sono ortaggi che prendono sacro di di è molto importante consumare il prodotto stagionale perché consumare il prodotto su provenienza da azienda agricola io sono stato il primo a iscrivermi a campagna amica a sostenere ho sostenuto tutto quello che si può e si poteva sostenere in questa direzione e quindi bio cucina mediterranea appunto perché da me mangerebbe solo un prodotto stagionale non faccio il tecnologico che fanno in università però è molto importante che quando si va nei ristoranti più cultura facciamo in questa direzione più aiutiamo il lavoro contadino più aiutiamo i terreni più aiutiamo la sostenibilità io ho fatto una prima piscina al sale e questa piscina al sale nasce da un'idea di un prodotto io sanifico la cucina con dei prodotti naturali è un prodotto di sodio ricavato dall'ascissione del moleco del sale con l'elettro e dell'elettro pisi noi sanificiamo spruzziamo sanificiamo e torniamo quando li piniamo quindi questo e ci abbiamo fatto da questa idea nasce la prima piscina fatta con questa nuova tecnica che ancora non funziona bene però poi vi inviteremo a quella funzione del termine e questo penso non so essere stato inutile è quello che è il vostro progetto grazie 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 soprattutto perché poi la quotidianità di un lavoro molte volte permette di cogliere poi tutta una serie di implicazioni anche determinate definizioni dovrebbero sottentere che invece molto spesso sono date da scontate non so non so non so capire bene che cosa c'è dietro un termine che cosa c'è dietro un modo quindi l'educazione alimentare significa anche capire l'importanza di tutto ciò che è in ingressi anzi che un certo tipo di consumo poi determina anche al ritroso delle attività di produzione alimentare quindi un'educazione alimentare di questo tipo di fatto determina anche la ripresa del settore economico l'accorciamento di una filiera e quindi di fatto vorrei fare mio la dimensione che ho trovato di una Cigi della bioregione mediatriatica a questo punto un modello di bioregione mediatriatica ci stiamo perfezionando su questo fronte bene adesso ci dovrebbe essere scusate ci dovrebbe essere un collegamento con il rappresentante dell'Apre di questa agenzia per i finanziamenti per i programmi di ricerca europei a cui avevamo chiesto di intervenire non è potuto venire e facciamo questo collegamento via o skype oppure streaming streaming no skype no social network streaming stream poi ci troviamo di comunque anni perché hanno sempre inizio dai chi è il giulia stavano chiudere come siamo scoprì degli altari apri un po' il tatuato chi ci parla che chiedevano Sara Sara e di qua usate la ricerca di averito ad esempio adesso noi cambiamo il tema perché la curiosa è il contatto dell'agenzia apri che è l'agenzia per la produzione della ricerca in Europa è il contatto il rumore è l'agenzia che è l'agenzia un serato che è l'agenzia è l'agenzia dovrebbe portarci dei bagni europei dei bagni europei ecco ma un sms è un messaggio di a Skype che dice c'è stai per il telefono se lo vedete con l'evento di contatto in giù faccio con le camera razza ma voi a prima volta dei magazzini stanno chiamando sì sì aspettando ma sai c'è ma sai qui e il kam по manuale Grazie. Eccomi. Allora, abbiamo anticipato un po' all'intervento perché non facevamo troppo tardi e ti presento, Matteo Di Rosa appunto come dicevo prima è il finito ricettato nazionale dell'agenzia AVE, l'agenzia per la promozione e la ricerca in Europa e quindi ci parlerà di quelli che sono i programmi europei, Devine Horizon 2020, e di come si struttura una proposta, un progetto collegato ai dati. Ok, sì, condivido un schermo così potete vedere tutta la presentazione. Ok, mi confermate che la presentazione è... No, ma ti vediamo. La presentazione del PowerPoint non la vediamo, ti vediamo a te. Ah, ok, un attimo. Adesso? Sì, ok. Perfetto, ok. Non so se vedete me, intanto comunque in video continuo mi vedete come l'importante. Andiamo a presentazione. Faccio prima di tutto una serie a questo punto e mi presento brevemente, sono Matteo Di Rosa, sono punto di contatto nazionale per la quinta sfida sociale, quella relativa al clima e per la seguita sfida sociale, quella relativa alla field security e tutta la bioeconomia in senso più largo. Lavoro in anche l'agenzia per la produzione della ricerca europea e le nostre istituzioni di tutti i punti di contatto nazionale per quanto riguarda Horizon 2020. Ho un background scientifico e un master di comunicazione e finanziamento della scienza. Le slide poi verrà messi a vostra disposizione e tra proposto ho lasciato anche tutta una serie di contatti che potete utilizzare per mettervi in contatto con me in qualsiasi momento. Sono qui per presentarvi quello che è Horizon 2020, attualmente uno dei più importanti programmi alla ricerca di innovazione a livello europeo, se non a livello mondiale, è un programma che ha una soluzione finanziaria di circa 80 miliardi di euro, il coro sette nato che va dal 2014 al 2020. Considerate che attualmente già sono andate lì i primi tre anni di programmazione, a ottobre è il primo avverranno, tra ottobre e dicembre avverranno quelle che sono le coro del 2017 e attualmente siamo in pace, la commissione che va in fase di regolazione dell'atturazione dell'ultimo di che abbiamo di lavoro, quello che va a coprire quindi 2018, 2019 e 2020. Sono fondamentalmente le ultime opportunità poi in attesa del futuro, quindi di quello che dovrebbe essere un nuovo programma quadro e costruito in maniera molto particolare perché l'idea delle commissioni era di investire in scienze di innovazione per favorire la crescita economica rispetto poi alla crisi che stiamo vivendo in questi anni, puntando tutta la crescita e la crescita di costi di lavoro e quindi la maggior parte dei progetti che vengono finanziati in ambito di Horizon hanno poi questo specifico focus proprio nell'investimento nella crescita e nella creazione dei costi di lavoro attraverso la scienza e l'innovazione. Horizon 2020 si colloca all'interno di una panoramica molto più ampia, di una politica più che altro, più ampia che il framework di Horizon 2020 che ha l'obiettivo di creare le condizioni infavorevoli alla crescita link e il mondo. Horizon 2020 rispetto alla passata programmazione mette insieme ricerca di innovazione e basata su sfide sociali è un programma fondamentalmente significato rispetto al passato. L'idea di finanziare ed aiutare il ricercatore dal momento in cui l'idea si trasporta in un risultato completo per questo è messo sul mercato e caratterizzato per tutti i pilastri, eccellenza scientifica, stabilità e sfide sociali. In particolare per l'incontro di quest'oggi, questo è la slide di tutto il programma, Horizon 2020 esploso e in particolare ci interessa. Nel terzo pilastro, quello delle social challenges, il secondo tema, quello che era la food security e all'interno della food security ci sono varie dotazioni finanziarie di quasi 4 milioni di euro. In questo PM la Commission ha deciso di investire tantissimo, questo lo parlare anche nei prossimi anni, fino almeno 2020, sulla sicurezza alimentare, su quella che la politica luce, andare a dimostrare quali sono le opportunità di attraverla dal mare ma anche dalle acque interne, che ne ha anche dalle acque dolci. In particolare in qualità di questo PM è quello dell'investimento che è la rural arena science, cioè nel rinascimento rurale, andare a investire in aree che fondamentalmente erano una montagna dal business, perché in un contesto rurale, quindi spesso abbandonate, ma andare a investire in modo per creare nuovi modelli di business, nuovi modelli di crescita, nuovi modelli di adattamento sociale a quella che la produzione in quelle aree, quindi creare questo rinascimento. ed infine il quarto asset è l'investire nella paga economy, in particolare l'innovazione a paga base, per sviluppare pelli e servizi innovativi. Per quella aperte, nel 2017 ne sono abbastanza per quanto riguarda i topic che entrano all'interno della tematica degli SFS, cioè la Sustainable Food Security. Abbiamo ben sei topic che poi avremo realmente a metà ottobre, quindi con scadenza a febbraio del 2017, topic dedicati alla crescita blu e abbiamo circa 9-10 topic relativi alla rinascita urale che si vanno a collocare in settori poi differenti, cioè la rinascita urale, quindi si rinquina fondamentalmente, poi a 360 gradi a seconda dello scenario dove si va a collocare il progetto. E il 2018, in caso del Power Basics, però considerate che c'è poi un piano di lavoro, un'operabilità che può dare sfida sociale, che è quella delle parolesi di industry, e che copre poi tutta un'altra serie di progetti, come scadenza a settembre di quest'anno, e poi successivamente nel 2017. Ho ragazzo un vendimento in un programma, come vi ho detto, unico, semplificato, e in grado di iniziare diversi tipi di programmazione passate. C'è un forte collegamento tra ricerca e innovazione, un forte focus sulle sfide sociali, perché? Perché comunque la ricerca e innovazione è formata da fondi pubblici, quindi in parte la commissione è anche giustificata, perché è una mole così ampia di denaro pubblico di investire in ricerca e innovazione, e quindi questa ricerca e innovazione è finissima di andare a risolvere quali sono i problemi legati alla società. E c'è l'accesso semplificato per le imprese, per l'università e fondamentalmente anche per le industrie. Le caratteristiche rispetto al programma passate è quello di avere un unico tasso di finanziamento, fondamentalmente il 100% sui costi di renti, il finanziamento è dato in particolare a tutti i regalenti di non-profit come le università che vanno al 100%, e il 70% viene applicato soltanto alle industrie piccole e le imprese in certi schemi di finanziamento come per esempio l'innovation action, ovviamente ci siamo parlato di un 30% che avrebbe coperto con risorse più delle volte in-kind, quindi non in contributo in cash. I costi di renti invece si vede un importo fruffettario che appare al 25% dei costi di renti. La valutazione dei progetti viene fatta su altri criteri, quello che è l'accessione scientifica, l'impatto del progetto che spesso risulta preponderato in certi progetti che sono più vicini al mercato, e quella che è l'attuazione, che poi è un altro momento che è il management del progetto. Ci sono una serie di forme di investimento e di finanziamento nuove rispetto alla programmazione, gli appalti commerciali, i cittimi, i prestiti dedicati, ma anche gli strumenti di finanziamento di capitale o addirittura di beni e c'è la partecipazione internazionale molto più ampia e molto facilitata. Tuttavia andando, aspetto al passato, a proteggere maggiormente quelli che sono gli interessi europei, visto che nel passato molti progetti che erano finanziati con paesi diversi, poi vedevo un impatto con paesi diversi, come ci viene in piedi, dove il costo del lavoro era più basso e poi non si arriva poi un impatto europeo. Se volete, la maggior parte del finanziamento fosse europeo. Ci sono poi tutta una serie di regole semplicate, in alcune case nuove, come per esempio l'abolizione del tempo pieno al progetto. Ci sono di nuovi controlli rispetto al passato, ma fondamentalmente sono anche più mirati per prevenire quelli che sono, per esempio, le proprieveristiche. Comunque la Commissione può correre andando a dare un prefinanziamento anche di svariati, quindi io mi tieno, ad un coordinatore. e c'è un miglioramento delle misure sull'apprendimento intellettuale, perché come vi dicevo la Commissione intende a interessarsi maggiormente di quelli che impattano per i progetti, e quindi va in certi casi anche a tutelare autonomamente quello che è il risultato di un progetto. Come vi dicevo i progetti hanno diversi schemi di finanziamento, ci sono varie forme di cliente, abbiamo le research innovation action che per esempio finanziano al 100% attività molto più vicine alla ricerca, poi innovation action che invece finanzia dal 100% al 70% a seconda della natura giuridica del progetto fondamentalmente, e finanziare progetti che invece vengono definiti cost market, quindi che sono progetti molto più vicini al mercato, che hanno tecnicamente definito un TRL più alto e che quindi prevede per esempio una fase più di demonstration più spinta e una replicabilità del prodotto direttamente in un ambiente reale e non simulato. Abbiamo azioni di confinamento e supporto che invece prevede fondamentalmente lo scambio di buone frasi, creazioni di futuro per diffondere la conoscenza. SME è un strumento che è una novità per un finanziamento interamente implicato alle piccole e medie imprese, un po' trasversale su tutto caso che copre diverse tipologie di tematiche. Chi e come partecipare? Probabilmente può partecipare come nel passato qualsiasi legal entity che abbia però una natura giuridica che è collegata anche nel passato, non lo metto a niente. Quindi università, città e ricerca che sono basati in strade medico, in strade sociale. Può partecipare al GST, che è già l'eserciente, il 600 comuni di ricerca della Commissione europea. Possono partecipare alle organizzazioni internazionali di interesse europee. Possono partecipare anche i paesi terzi, in particolare quelli di Pedalista e CPC, che sono i paesi della populazione internazionale o che hanno degli accordi bilaterali con la Commissione, possono partecipare e ricevere il finanziamento. Paesi di interesse, quali quelli industrializzabili, o i paesi brit, che sono i paesi del sviluppo, invece possono partecipare, ma fondamentalmente il finanziamento se lo portano da casa, quindi non è una Commissione che finanzia la loro attività. Si può partecipare al progetto RISE in varie forme e come coordinatore, della propria idea progettuale o anche come partecipante, cioè essere parte di un team molto più ampio, perché comunque la maggior parte dei progetti RISE sono portati avanti da team internazionali come expertise complementari sempre a livello europeo e a livello internazionale che poi devono portare a compimento dell'attività del progetto, quindi sia coordinatore o fondamentalmente sia un tasnello di un gruppo più ampio. e si può partecipare anche come terze parti, terze parti non sono contraente per svolgere piccole attività all'interno del progetto, appunto, a fronte di un ricorso ecoconico. La proposta che viene sottilizzata attraverso il partissimo accordo all'incomissione, in cui viene valutato un valutatore molto fondamentalmente di due parti, una parte mista di varie informazioni generali, informazioni relative ai partecipanti e il budget, e una parte della tecnica scientifica che è divisa tra i paragrafi, quello relativo alle leggerezze scientifiche, quello relativo all'impatto e quello relativo all'implementazione. in particolare abbiamo anche una quarta parte e una parte B, quindi di solito viene imposta con un file separato che è il membro del consorzio, e quindi c'è la descrizione della parte del consorzio, ma anche la parte etica, è relativa alla sicurezza del progetto. Alcuni suggerimenti per chi si vuole avviare verso la strada del coordinamento, prima di tutto una lettura attenta dei topic, parola per parola, perché qualsiasi grafica di semplice topic, non è in esso lì per capo, non è che la mattina il capo di Tau, il budget Tau, il budget Tau, il S3, inseriamo questo topic all'interno del piano di Tau, ma nasce dalla concentrazione di vari stati, di varie realtà, di varie associazioni, quindi anche una singola fase all'interno di un topic può avere un peso specifico all'interno della proposta stessa, e quindi va letto tutto con attenzione, spesso parolini possono avere scenari totalmente uomini, e bisogna avere una grande corrispondenza tra quello che è il testo della proposta e il testo del topic, e il topic rappresenta quel babbo di gara fondamentalmente, c'è una concorrenza tra la proposta e le ore che si lo vedi, è immaginabile per esempio avere un progetto che è un obiettivo fondamentale, quello di avargare le discariche, quando vuole tutte le politiche europee vanno contro la chiusura delle discariche stesso, o comunque la riduzione di quello che è ben discarto, quindi bisogna conoscere bellissimo quello che sono le politiche europee, l'importanza della componente innovativa nel progetto, bisogna far capire anche come si va oltre lo stato e l'altro progetto stesso, è molto utile presentare progetti che magari sono innovativi per il livello italiano, ma sicuramente con innovativi per il livello europeo, quindi bisogna avere sempre una missione europea secondo mondiale, e bisogna avere una competenza nella proposta, questo è un piccolo problema che abbiamo negli anni, nella struttura siamo sempre particolarmente barocchi, quindi in questo bisogna essere molto concreti, e bisogna sempre utilizzare degli indicatori per la valutazione dell'impatto, per rendere conto la commissione come abbiamo dei criteri per andare a misurare quelle che sono le nostre performance. Il partenariato va costruito ad agonismo, cercando di evitare, di ritornare, che è la retorica degli amici e degli amici, ma cercando di capire effettivamente quelle che sono le attività e quelle che sono i rumori e le conoscenze necessarie per far svolgere quelle attività, perché quel partenariato non può essere infinito, dobbiamo avanzare a un numero massimo di partenari e distribuire le risorse in maniera, è uguale in base alle attività che bisogna svolgere, ma deve dare le doppi unghie, che proprio sono difficilmente giustificabili all'interno di un progetto. E ricordate che per me come dei partenari, per i progetti che sono definiti cross to market, come l'innovation action, in particolare un partenari industriale, perché spesso nel mondo accademico si ha difficoltà ad arrivare sul mercato, proprio per la configurazione del mondo accademico stesso, come un partenari industriale che molto più agile in quel settore, può sicuramente svolgere un ruolo fondamentale nel progetto. Evitando poi quello che è l'arcozzaio di vari pezzi, c'è il coordinatore che dovrebbe essere in grado di rileggere sempre più volte il testo della proposta, cercando di creare un filologico nei vari pezzi della proposta stessa, perché più delle volte si leggono proposte che sono state chiaramente scritte da mani differenti, e quelle mani differenti che appaiono nella proposta che ha un effetto non argomioso della proposta stessa. Per i valutori, per il testo semplice e lineare, evitare frasi ridottanti, evitare di inscrivere gli stessi mezzi in più da parte della proposta, e questo nasce soltanto se si ama e entra. E' una poerente pianificazione, dai deliverable e business plan, in termini intelligenti, ma comunque ha un significato di business plan, in termini intelligenti del progetto. Ricordate che il valutatore, non per forza di voi, è un esperto del settore scientifico in cui è venuta a sottolineare la proposta, quindi dovete essere chiari, perché la proposta potrebbe essere valutata per esempio da un economista, perché la proposta sia un impatto scientifico, ma anche un impatto economico notevole, quindi tra i tre valutatori, le versioni dei valutatori sono tre per proposta, un valutatore potrebbe essere uno scienziato di quel settore, un altro valutatore potrebbe essere uno economista, e un altro per esempio di etica, quindi dovete essere chiari e rendere apprezzabile anche la parte più tecnica ai non addetti ai lavoratori. e di solito le purezze che si vedono con le proposte sono, soprattutto per esempio, consorsi totalmente sbilanciati, che ha la proposizione del 50% del partenario italiano con le stesse competenze, o per esempio presentare delle proposte che non sono affatto innovativi, ma sono la scelta del finanziamento di attività di miglioraggio, per esempio nazionale, che non ricevono più finanziamenti nazionali e regionali, quindi si tendono alla strada dell'Europa per cercare di farsi finanziare quello che non è corretto, che praticamente niente di un'attività innovativa, ma semplicemente un'attività di monitoraggio. Un altro, per esempio, è la mancazza del piano di emergenza, quello che viene chiamato tecnicamente un'otticisi plan, che ha sicuramente una ricaduta forte nella valutazione dell'implementation, di un'attività innovativa, perché quando si scrive una proposta, è tutta l'incancione potenziale, e quindi quella potenziale potrebbero esserci delle problematiche che potrebbero non portare ad un aggiungimento di attività, ma ad un aggiungimento di risultati. In quel caso, bisogna avere il piano B, e questo va descritto anche in fase di proposta. Ricordate la questione del gender issues, non si tratta soltanto di inserire in termini una cosa quante maschiette e quante tecnologie non c'è più proposta, ma ad avere una missione di genere, anche sull'attività scientifica che si sta portando avanti. E attenzione alla lunghezza, allo stile dei caratteri, ma anche al modo di scrivere. Questo è, come avete detto, l'effetto Frankenstein che bisogna evitare per cercare di dare un'ogenità al progetto. Con questo, ho concluso, mi auguro di essere stato nei 15 minuti e non so se c'è la possibilità di fare domande, se avete domande da curvi. Sì, penso di fare domanda. Sì, buonasera. In senso? Buonasera, sì, sì. No, innanzitutto grazie per la disponibilità. Vorremmo solo chiedere, siccome appunto noi stiamo cercando di costituire una rete per partecipare ai bandi che c'è in qualche modo mostrato, soprattutto quelli che riguardano lo sviluppo blu e l'urban. l'urban è in assente. 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 Appena abbiamo qualcosa di più formalizzato, possiamo mostrarvelo per avere delle consigli? Assolutamente sì. Se appiegavete qualcosa di conto in termini, anche un abstract di progetto, una mezza paginetta, una paginetta, potremmo finalmente ripiarmela, anche mozzare che vi do una mano, anche identificare quelli che possono essere dei toghi per dove potreste applicare o come coordinatori o fondamentalmente come partner all'interno di un partneria proprio ampio, più complesso. Attenzione, soltanto per una cosa che mi ha parlato di reti, per quanto riguarda l'associazione temporale di preso, di scopo, questi non sono soggetti elegibili, a differenza dei parti nazionali all'interno del caso 2020, perché sebbene hanno una vero giuridico molto volatile, delle volte non hanno negato rappresentato e quindi la commissione non riprende la situazione come tale. Quindi valutare anche bene o quale fungine di capo dovete mettere per poter partecipare al caso. Da quello che ho capito, dottor, è un consorzio? Il consorzio sì, composto da varie parti, ma ovviamente il consorzio non deve essere italiano ma deve avere una carattura internazionale, quindi deve essere ben bilanciato anche geograficamente, quindi deve essere costruito in un certo modo tenendo conto delle competenze e delle necessità del progetto. Poi, nell'ambito di Horizon, in termini di consorzio non ha quel significato giuridico che sia incisprudenza, e parliamo di un consorzio che viene regolato con un contratto che non ha una natura legale, insomma. Certo, va bene. Qualcuno che vuole chiedere qualcosa? No. Bene, ringraziamo di nuovo per la disponibilità e speriamo di sentirci presto, non vi disturberemo. Non vi preoccupate, non vi preoccupate su questo. Grazie a voi, buonasera. 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 Mi sembra alcune cose le sapevamo, altre le leggiamo soffitte. Però ne sapremo, visto che ci dà la disponibilità a farci le lezioni del progetto. E' un'altra cosa importante perché sono loro poi che costituiscono l'agenzia che trasmette al territorio, al territorio italiano, tutte le informazioni relative ai progetti europei. Ed è quella ufficiale, in qualche modo, perché è l'agenzia ufficiale. Ma soprattutto da quelli che vanno in giro fanno altro. Bene. Allora, dopo questo intervento che era previsto in realtà successivamente, riprendiamo con Giulia Menzietti, con un intervento sul food day. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Io volevo portare del cibo, inserendolo in un contesto più ampio, che è quello dell'erica, rispetto al patrimonio. che è un concetto che si sente molto anche, appunto, in relazione alle goal europee. e che è una fase di lettura. C'è un processo di revisione anche di alcune coordinate che un po' guidano questi concetti di salvaguardia di tutela, è stato definito il concetto di identità culturale, delle politiche di conservazione, ma forse il passaggio più interessante in questo contesto è, nel 2003, l'apertura delle mani dell'UNESCO a quello che ha definito appunto il patrimonio culturale immateriale. E' quel patrimonio che, appunto intangibile, si provanda per via orale attraverso racconti e tradizioni, e sicuramente anche la cucina e il cibo entrando in questa categoria del patrimonio immateriale. Tra l'altro questo è un processo sul quale altri paesi fanno molto avanti l'America Latina e questo si sta muovendo. Cioè in Messico è riuscito a far entrare nella lista dei beni tutelati dell'UNESCO la propria cucina. In altre realtà invece il processo è in fieri. C'è una letteratura molto più specialistica della nostra per questo tema e sia nel contesto giuridico ma anche nel contesto dell'antropologia questo processo di patrimonializzazione del cibo identifica tre momenti, tre passaggi importanti. Il primo è quello che definiscono commodification che sostanzialmente è la monetizzazione di un patrimonio. Perché parlare di patrimonio significa anche entrare in un contesto giuridico in cui c'è anche un'affermazione di una proprietà. E' molto labile infatti il concetto di patrimonio è qualcosa che si tramanda e in qualche modo si possiede e il concetto di erita c'è che invece è un concetto indivisibile di bene e comune. E quindi insomma tutto questo processo di eritalizzazione che è stata gravata nel cibo implica un aspetto economico. Poi, dinamiche dello sguardo. Con dinamiche dello sguardo si intende un processo per cui considerare il cibo e i prodotti del territorio come un patrimonio altera la percezione del paesaggio. Si guarda diversamente il paesaggio considerando il cibo e i prodotti come un valore e viceversa c'è una percezione diversa del cibo a partire dal mondo del paesaggio. E tutto questo va a concluire in quello che è stato definito l'infrastrutturazione di materiale del territorio, ovvero un concetto che tende a ribadire la vicinanza tra il cibo come cultura e il paesaggio e il territorio che si appartiene. Infatti erubo una definizione di terroir, una definizione molto di moda in questo periodo che proviene dal mondo dell'emologia e per ora è stata definita come un'entità territoriale dove i valori patrimoniali che si identificano nella cultura, nell'economia, nelle dimensioni sociali derivano, hanno delle radici profonde nel territorio, nel clima, ovvero nelle modalità di produzione e anche di consumo del cibo. Allora, applicare il concetto di patrimonio come un bene da tutelare al cibo è un passaggio di chiusura di un fenomeno che è già in corso in atto da tempo e che in qualche modo prevede un'emancipazione del cibo fino a non tantissimo il cibo era un discorso legato soltanto a delle questioni, non so, alimentari, biologiche, di sussistenza e invece recentemente il cibo diventa un argomento volto. Soltanto l'anno scorso ci sono state tre mostre molto importanti dal Trinale di Milano al Maxi con Food, da tutti e al mondo, a Milano con l'Expo che in qualche modo hanno appunto consacrato l'entrata del cibo nel museo, quindi una cultura che possiamo definire alta. Il cibo entra prepotentemente nel mondo del social, non solo con i siti delle ricerche ma con i blog, con il tema del visual food, del food event, quindi diventa un motore anche sociale ma di creazione delle comuni. Il cibo entra prepotentemente nelle case attraverso la tv. Allora i personaggi dello spettacolo diventano cuochi ma soprattutto i cuochi diventano personaggi dello spettacolo pensate al Masterchef, pensate anche al discorso del talent, quindi c'è anche se vogliamo un accorto emotivo della cucina vista come sfida e questo è importante perché poi crea dei personaggi, di Cracco, dello chef che diventa un po' un'icona del design, del brand, diventa un'icona anche di una nuova idea di cucina che è assolutamente legata al mondo del design, della cartel, ha presentato questa collezione di accessori per la tavola e c'è Start, per l'occhiola e c'è Cracco. E questo è interessante perché poi appunto entra nel mondo delle case, di tools e delle case, quindi ci sono dei miei produttori assolutamente trasversali e quindi vedete che poi vincide nella visione dell'immaginario, quindi da Cracco, dalla cucina, iber, trispata, iber tecnologico, siamo accompagnati da sua orgia umana e da un contesto molto più... non la conosce, che non è un'acqua, ma c'è un'acqua, ma c'è un'acqua. Vabbè Riccate che sono Germano... C'è un cavolo, a loro c'è la mia zia. E la mia zia. E la mia zia. E la mia zia. E la mia zia è un cavolo, perché non è venuto un cavolo. Allora insomma cambia l'immaginario, cambia l'idea della cucina, in questo poi anche in modo riguardo a un ruolo fondamentale, il via del con restaurant o dello chef a domicilio, di nuovo cambiano l'immaginario dello spazio del consumo del cibo e in qualche modo ritornano nelle realfatture domestiche. Tutto questo appunto per raccontare un processo di emancipazione del cibo che entra nel discorso dell'Eritage, che poi sappiamo che Eritage significa anche una serie di operazioni che riguardano l'identificazione, la catalogazione ma anche la tutela, la promozione e tutte queste operazioni già esistono, pensiamo a questi presi di slow-up che sostanzialmente vanno appunto a presidiare, a identificare delle persone con delle produzioni di qualità che vanno in qualche modo tutelate. Oppure il lavoro di ricerca e l'educazione in questo momento vive una stagione felicissima, c'è una grande attenzione a tutto quello che è accademia, ambasciato del gusto, quindi delle specializzazioni molto, cioè abbastanza importanti. Poi notate che tutte queste realtà vengono poi individuate in queste cornici di limone storiche dove poi anche il pregio della limone in qualche modo diventa garanzia della formazione. Oppure la promozione, no? C'è qua diversi eventi di fiere o i cosiddetti food festival, il cibo di strada, cioè tutto un mondo che lavora a costruire questa nuova visione del cibo, questa nuova idea del cibo. Adesso per tornare al nostro mondo, al nostro ambito, quello che insomma ci si potrebbe chiedere è capire in che modo il progetto, il disegno è in grado di intercettare questo cambiamento del cibo, se riesce in qualche modo ad assorbirlo e a tradurlo alla società. Allora, facendosi queste domande ci sono varie risposte, nel senso a volte troviamo delle traduzioni molto letterali nel mondo del design. Per dire, il progetto della banca del seme, che è un'idea antichissima perché basta pensare ai granali... E' un'altra cosa? La banca del seme... La banca dei seme... Ma non lo scopriamo... No, no, non lo pensate... Questa è la traduzione, l'architettura del concetto di tutela, però appunto c'è l'identificazione in un oggetto architettonico che parla un linguaggio anche da questa architettura, c'è questo schermo che si fa un concetto di comunicazione, una forma molto pulita che qua dentro nasconde un mondo, c'è questo tunnel lungo un chilometro che è un tunnel che si trova a una temperatura costante, meno 14 gradi sotto zero e qui si conservano oltre 5 milioni di varietà di semi presi da tutto il pianeta che sono lì pronti a resistere per oltre un millennio, quindi a garantire anche la tutela di questo tipo di alimentazione di seme anche in caso di cataclismi apocalisti, non so. Oppure ci sono le milioni di progetti griffati di cantine che in qualche modo appunto trasportano in immagine il processo appunto di attenzione, di tutela l'idea del cibo, del paesaggio, in questo caso del piano del vino, fino ad arrivare a quello che poi è il monumento, l'omaggio, che cerca quest'idea del cibo come patrimonio, in questo caso non da tutelare ma in qualche modo da valorizzare, da promuovere, in questo caso poi il cibo diventa il modo di vivere, il modo di stare insieme, il modo di abitare e anche forse modo di nutrirsi. Poi ci sono delle traduzioni in cui l'identificazione dell'architettura forse è più sfuggente, nel senso che poi la rigatura di questo processo nello spazio intercetta traiettorie altre, comunque si traducono poi in trasformazioni nello spazio, in questo caso della città. E parlo del fenomeno Italy che è un'azienda in cui un imprenditore abbastanza intelligente capisce il potenziale del cibo come volante in trasformazione e lo appena anche una tematica sensibile nel nostro mondo che appena anche dell'uso di alcuni contenitori dismessi e quindi il cibo diventa il modo per riattivare il terminal Ossianza Roma che era un contenitore smesso, oppure l'ex teatro Smelardo a Milano in un momento in cui non era in uso, o ancora una struttura produttiva a Torino. Quindi in questo caso il progetto entra in un circuito, in un network dove gli attori sono ostetici e in qualche modo viene intercettato e disegnato dai movimenti e dalla potenzialità del cibo con dei risultati comunque tangibili. Oppure c'è una lettura un po' più effimera, più leggera che legge queste trasformazioni del cibo in un discorso puramente di estetica e di immagine che si può applicare al mondo del design o della comunicazione, anche in quale World Food, o all'impiego di materiali sostenibili o quantomeno che rimandano all'idea del ciclo, dell'ecofienti, oppure anche delle pareti verticali. Quindi questa è l'introiezione di un'immagine, di un modo di fare il progetto che in qualche modo diventa garanzia di una qualità o di un'idea di cibo. Fino ad arrivare a questi casi in cui sostanzialmente il progetto scompare in veste nel disegno degli orti, quindi in qualche modo si fa trascinare da quest'idea legata al mondo. Quindi questo diciamo che è l'inizio di una riflessione che sostanzialmente si chiede in che modo il disegno dello spazio, forse l'architettura, può veicolare la trasformazione del cibo che abbiamo visto prima alla società. Un'altra domanda è capire se il progetto apprezzato, ovvero se gli strumenti in qualche modo che ha possono rispondere a questo processo, se ci si trova costrette a proiettare linguaggi alti, strumenti alti che vengono dati in altri disciplinari. Cioè banalmente se la traduzione nel nostro mondo di quello che avviene nel mondo del cibo come cultura è nell'oggetto antitettonico o se probabilmente l'oggetto scomparirà e si investirà in un progetto di rete, di comunicazione o di altro. E in tutto questo è interessante capire se poi questa limite tra la dimensione materiale e il materiale del cibo e del patrimonio si riesce a sottiliare sempre più e se quindi questo concetto diffuso e com'era ci possa inglobare anche l'idea di spazio che il cibo stesso disegna. Grazie. 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 il titolo è rimasto uno stesso Food Machine, Architettura 5 e Spazio Domestico Gabriele adesso è il tuo momento grazie voglio dire che la giornata di oggi per me sarà molto interessante perché no no, molto interessante solo perché di architettura ne abbiamo vista poca e niente e questo e noi architetti che ovviamente quando progettiamo presupponiamo l'esigenza di architettura secondo me è una domanda importante la conclusione di Giulia secondo me è molto rilevante e ha molto a che fare con la mia presentazione che sostanzialmente parte da un'idea che noi parliamo di circo non soltanto come come materia come qualcosa diciamo che ha a che fare appunto non solo con il nutrimento ma in generale con l'alimentazione in senso stretto ma con una delle forme in cui l'uomo sostanzialmente riconosce una condizione di esistenza proprio in senso molto molto lato che ha a che fare ovviamente con lo spazio intendo come proprio spazio di produzione spazio di riproduzione dell'uomo stesso mangiare è l'essenza diciamo dell'abitare la casa diciamo nasce come sostanzialmente uno spazio per preparare il cibo e consumarlo fino a ai tempi moderni la casa è stata sostanzialmente una unica stanza in cui si trovava sempre si consumava e poi ovviamente si troviva ma prima all'interno di quello che poi nella memoria è rimasto l'idea di focolare che ovviamente ha diventato la cultura abitativa architettonica fino ad adesso spazialmente ecco questa idea lì di cibo come un'attività allo stesso tempo di produzione e consumo è secondo me il vero tema del cibo in termini architettonici ora questa cosa è interessante perché diciamo ha a che fare con la modernità ma ha a che fare con una modernità che inizia ad essere tale proprio all'inizio della modernità diciamo così come intesa dagli storici cioè del rinascimento è lì che si configura un'idea di cucina come una dimensione culturale come una dimensione produttiva che si doda di strumenti e spazi ben specifici appunto la cucina e i suoi strumenti ed è interessante notare l'incredibile vicinanza di immagini come questa qua ci sono molti libri del rinascimento che si occupano appunto della cucina in questa immagine con la classica delle immagini della cucina moderna prototico dell'idea di cucina così come ancora noi oggi la conosciamo cioè la famosa cucina di Francoforte progettata nel 1926 da Margaret Schutz Livos che è diciamo l'idea non soltanto di come si attrezza un spazio tecnico della casa ma di come si pensa l'idea di casa moderna in certo senso la cucina di Francoforte la possiamo immaginare come il prototico di quell'idea di esistenza minima di esistenza moderna che è codificata appunto alla fine degli anni degli anni 20 ora un aspetto secondo me interessante è che tutto questo non ha a che fare con qualcosa di cui l'uomo si serve l'idea di macchina come strumento diciamo per l'uomo ma al contrario è un'idea di stile di vita di dimensione macchinica tecnica che ha a che fare con il modo in cui l'uomo ha vita vive e mangia l'idea di un uomo come questo qua è una delle tante immagini di una cultura moderna questo Fritz Ganner al meglio diciamo si scrive una sorta di trattato con l'idea di un uomo come macchina come il palazzo dell'industria è interessante per far capire come tutto ciò che a noi oggi ancora appartiene come dire di standardizzazione di ergonomia ha a che fare proprio con la codificazione di quelle caratteristiche che hanno a che fare con lo spazio della cucina e del mangiare che poi si estende progressivamente agli altri spazi della casa ora dal mio punto di vista l'idea di spazio domestico oggi è interessante non tanto per ristorare i suoi dettagli c'è stata per esempio una mostra peraltro interessante proprio la DNA della rallela di cui parlava Giulia che si intitulava cucine e altri ultracorpi l'idea degli elettrodomestici nella cucina la cucina è sempre più stava storicamente in uno spazio non soltanto di standardizzazione ma anche di tecnologizzazione degli strumenti che diventano macchinari elettrici la domotica diciamo quella che noi oggi conosciamo come domotica e che ha invaso ogni spazio dell'affidato del domestico ma anche fuori dalla casa nasce appunto nella cucina però secondo me l'aspetto più interessante è l'idea che questa idea di standardizzazione è un concetto molto più astratto molto più esteso che dà lo spazio domestico negli stessi anni che viene progettato per le esigenze dello spazio domestico però viene pensato per le esigenze dello spazio produttivo to cure quindi la catena di montaggio idea di fabbrica che appunto conforme degli anni diciamo 20 in particolare assume quella codifica quella di produzione moderna di cui noi oggi siamo ovviamente la un anello conclusivo e cosa c'è diciamo di questa idea di produzione moderna c'è una storia di dialettica molto forte tra la macchina e l'uomo e chi utilizza la macchina stessa questa cosa è esattamente ciò che caratterizza l'idea moderna di cucinare ecco non dimentichiamo che noi tutto questo discorso abbiamo fatto sul cibo in realtà dovremmo trasferirlo e mi chiedevo forse la parola giusta non mi sono riuscita a trovarla ma qualcosa che ha a che fare con la cucina cioè il cooking non il food in senso stretto che ci interessa appunto le pratiche con cui il materiale alimentare diventa qualcosa che va oltre diciamo la nutrizione in senso stretto ed è questa cosa avviene esattamente nel dopoguerra a partire da un'idea nella già una rinnovata attenzione sulla cucina che prende tutte le caratteristiche dell'idea moderna appunto della cucina francoforte e diventa vero e proprio lifestyle ed è un lifestyle che mette al centro da una parte gli aspetti di standardizzazione degli spazi delle procedure ma allo stesso tempo anche mette al centro chi pratica queste procedure chi è l'attore appunto la massaia la donna in questo caso ma insomma diciamo chi utilizza queste cose è interessante questa idea di standardizzazione viene cavalcata non soltanto degli accidenti moderni quelli funzionalistici e positivi ma anche quelli dell'altra sponda è interessante ovviamente ce n'è una garellata di cucine standardizzate forse è interessante per me una ricerca che ho fatto è questa casa per i fabbricati di Spengler Diet che è non solo la casa della cucina che è applicata ma è tutta la casa concepita come una griglia estremamente regolare organica ma il cui centro il cui cuore è appunto il combinato del ovviamente del fare il camino storico tradizionalmente diciamo il cuore delle case ereniali dagli anni del secolo ma con l'annesso della cucina che è appunto questo spazio qui vedete molto ascratto molto permeabile molto trasparente diciamo stiamo arrivando un po' a ciò che diventa poi lo spazio della cucina e il senso dello spazio domestico per la cucina fatto sostanzialmente di due dimensioni una dimensione estremamente performativa ed è ciò che la cultura anche artistica riconosce alle case cioè il più valore dell'abitare sta in questa dimensione performativa diciamo questo è uno dei quadri che rappresenta in maniera più eclatante questa dimensione qui dove la parte della cucina nel cucinare è tutt'uno con il living room con la vitale in senso lato e all'altro canto l'idea che questa standardizzazione del sistema diciamo della cucina della trasformazione del cibo ha a che fare ovviamente con la standardizzazione della produzione del cibo stesso ovviamente se standard è il modo in cui lo cuciniamo per forza le cose standard deve essere anche che cosa lo cuciniamo e quindi il trionfo diciamo del cibo combinato in maniera tale per essere distribuito diffuso utilizzato e anche percepito come qualcosa di unificato ora tutto questo appartiene per me ecco è la premessa oggi noi stiamo probabilmente in una dimensione in cui tutto questo qua ha prodotto un effetto che va molto al di là dello spazio domestico ovviamente quando comincia questa storia comincia negli anni 80 quando una casa produttrice di cucina molto nota la comunità Ottl tedesca in carica Ottl Eichen un architetto tedesco della scuola di Ulmo una di quelle figure a cavallo tra architettura design e molte altre cose di inventare diciamo un nuovo concept per una cucina una cucina che lui scrive questo libro su come la cucina per cucinare una specie di banalità però ha a che fare con l'idea che quando secondo lui si cucina l'atto stesso del cucinare la performance del cucinare il lavoro della preparazione del cibo non deve essere nascosto contenuto all'interno di macchine esatte che però stanno dentro spazi definiti in realtà vanno esibiti come vere e proprie macchine che assumono un ruolo centrale all'interno della configurazione dello spazio cioè l'idea diciamo di work di stazione di lavoro di workstation presentata con un'idea diciamo di produzione quasi industriale che diventa il centro di un'idea nuova di spazio domestico in cui la cucina diventa il centro concettuale dello spazio stesso e tutto il resto living room in un certo senso il pranzo eccetera eccetera e le cose intorno in mani a poco vestiti questa idea in realtà la cultura del tonico l'aveva già anticipata profetizzata e anche l'aveva esplorato anche le conseguenze più di una decina di anni prima una decina di anni prima con le ricerche degli avaguardi in particolare le ricerche di alcuni aspetti del lavoro che ha il nostro ottimo si deve vicenda tutta orizzontale diffusa e generica hanno a che fare proprio con l'idea che lo spazio abitativo non possa essere altro proiettato diciamo un ideale futuro che però è l'esplosione del presente non è un'invenzione essere costituita da da nuclei compatti che sono ovviamente i servizi ma sono appunto anche la cucina tecnicamente efficienti posizionati in uno spazio totalmente neutro che consenta poi a chi le abita di una libertà di abitare e organizzare questi spazi tali da diciamo portare in un piatto di stadio primitivo al cui noi ci infondono tutti i servizi di cui abbiamo bisogno vengono erogati da quelle macchine all'interno di uno spazio neutro e quindi senza bisogno che tutto ciò che la struttura ha codificato per i quali i spazi intorno a determinare azioni vengano di nuovo realizzate è la è la prolezia diciamo di questa città generica continua in cui si fa tutto in un unico spazio compreso ovviamente preparare i cittadini siano essi all'averto o al più che è una decina messa di da parte e consumare quindi produzione e consumo sono sostanzialmente la stessa cosa è molto interessante perché quando stamattina sentivo volete la dottoressa Gocci Giponi per pomeriggio di presentare e parlare del quanto importante in una dimensione di promozione ma anche produzione di qualità non soltanto dell'aspetto tecnico produttivo ma tutto ciò che ha a che fare con la performance di chi viene e vive la dimensione della cantina ecco a mio avviso c'è un po' c'è questo discorso qua anche se ovviamente qui è presentato nella traversa di Lucruta quello che è tutto è la stessa cosa mentre noi magari con le fotografie dei monti pensiamo che appartengono ancora a un'epoca diciamo sostenibile in realtà ciò che è sostenibile qui è semplicemente l'idea che come diciamo quest'altra immagine un po' paradossale rappresenta che è vero che la performance è qualcosa che ha a che fare con un rapporto ritrovato umano sostenibile tra gli individui ma ciò che sostiene questa cosa è una griglia astrada che poi è la presentazione un po' delle condizioni di abitabilità che hanno a che fare proprio con la modernizzazione del sistema cioè dell'infrastruttura sostanzialmente del sistema ora qual è diciamo l'estensione la fine di questa dimensione dispersa dello spazio domestico è quello che oggi fa molto di moda il tempo che veniamo sul ciclo di strada street food in tutte le sue formi ma che in realtà poi data anche questo all'inizio dell'identità ed è una dimensione certamente che ha un suo valore anche architettonico perché consente di recuperare un interesse un valore anche una qualità di spazi che questa qualità l'hanno persa o che la devono rinventare per esempio il caso di questo spazio a Copenhagen dell'isola cosiddetta della carta perché era l'isola diciamo in cui erano collocate una serie di cattieri che è diventato oggi il centro dell'isola dello street food che colonizza tutto lo spazio in maniera molto informale tra l'altro grandi guadagnoli industriali ecco qua pieni di inquidi di attività legale alla produzione del cibo di ogni genere è uno dei tanti formi appunto di riciclo di qualificazione di reinvenzione dello spazio certamente il problema è che in questa reinvenzione dello spazio ci sono anche dei paradossi per cui tanto più il cibo vuole essere locale tanto più questa località però anche non a caso si 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 può vedere soltanto se include quel più di esotico che in questo caso vi fa trovare sia il cibo coreano che quello italiano poi è il paradosso un po' di Italy Italy vende dei prodotti italiani ma li vende in tutto il mondo quindi è esatto contrario diciamo dell'idea del chilometro zero ma anche del contagio tra un certo modo la saggionalità in questo senso è interessante che un altro aspetto che sta prendendo sempre più piedi questa diciamo le scoperte del cibo sia appunto la questione della distribuzione andando sicuramente viaggiando vi sarete accorti di quanta ricerca c'è intorno alle macchine che distribuiscono cibo non soltanto i caffè i cappuccini come c'è da noi oppure a Piazza del Popolo a Piazza Rico ma sempre più macchine che pretendo di vendere cibo di qualità cibo caldo per esempio questa qua è una macchina che vende riso questo vende latte uova fresca quest'altra vende distribuisce insalata fresca pizza calda pane caldo oppure addirittura questa qua interi pasti completi si arriva diciamo se fanno ricercazioni inter delle cose paradossali una macchina distribuisce dei granchi dei bibi perché non possono essere venduti cucinati se non venduti bibi ecco tutto questo è per dire che è un paradosso diciamo che ha a che fare con il fatto che tanto più il sistema si evolve e tanto più abbiamo interesse a vendere la qualità cioè il prodotto locale cibo come qualcosa che ha a che fare con la tradizione identitaria tanto più però questo sistema si evolve appunto tanto più ha bisogno di un supporto astratto generico globale se volete questo è un'immagine appunto uno spazio però diciamo il concetto è secondo me più rilevante è questa dimensione burogramica che c'è intorno allo suo punto cioè un cuoco che abbiamo sentito poco fa ci ha detto beh io il mio scopo è vendere un prodotto bio bio che cosa vuol dire due un galletto due galletti tre galletti cioè c'è una connessione generica che associa che uniforma no le pratiche di funzione del cibo quindi il cibo che le riduce a una generica critica che è quella dell'appartenenza a determinate codici no a determinate riconoscibilità quantitativa uguali per tutti quindi un cibo che ha tre galletti oppure che un vino che è DOC IGP è uguale ad un altro vino che è DOC IGP cioè questi vini qui appartengono diciamo a una generica condizione di qualità che vi inquadra dentro una dimensione di fluibilità ecco questa condizione qua è secondo me il tema architettonico è un tema architettonico molto più rilevante di quello che pensiamo perché dal lato c'è l'immagine di questo ad esempio distributore di cibo di qualità all'interno di un nazionale di un e quindi c'è il discorso che faceva Giulia prima l'idea che in fondo un cibo tradizionale venduto di un'anomia tradizionale porterà inevitabilmente ad una scomparsa dell'architettura intesa come meccanismo come dire evolutivo progressivo di modernizzazione l'architettura sarà un supporto neutro appunto che sta dietro e che presenta semplicemente il suo messaggio che è un po' la merce di usare dall'altro canto dall'altra parte però per fare questo probabilmente c'è bisogno di infrastruttura c'è bisogno di poter raggiungere dei luoghi c'è bisogno di poter inserire questi luoghi autentici e identitari all'interno di un contesto globale che è per certi versi l'opposto di questa condizione è un po' l'idea che ci siamo quello che il discorso che faceva il rappresentante dei degli esperti locali oggi dobbiamo poter raggiungere alcuni dove raggiungere un luogo realizzare quindi non so l'aeroporto l'infrastruttura e allo strade ma questa cosa qui ovviamente significa negare quella condizione specifica isolata non generica che appartiene appunto a quelli identitari ecco questo da questo punto di vista qual è il senso di questa ricerca di questo è solo una scelta di grande di questa è l'idea che in fondo i luoghi del cibo e intendo i luoghi diciamo del cibo non soltanto quelli domestici ma quelli che vanno fuori dalla dimensione domestica sono un tema di ricerca secondo me molto ancora tutto da esplorare e non è un caso che insieme alla riscoperta dei cibi delle diciamo delle varie tipologie di cibo ci sia oggi un'esplosione di neologismi rispetto ai luoghi in cui questi cibi mettono venduti no abbiamo iniziato con le birrerie il pub le palinoteche e poi siamo andati avanti con 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 esatto con una serie di nomi a volte anche un po' bizzarri per associare associare al consumo di determinati cibi spesso anche di qualità dei luoghi o delle tipologie diciamo di distribuzione del cibo alternative tutti questi nomi stanno secondo me dentro questa griglia qua in toro che è una griglia che li accomuna tutti perché in fondo questa dimensione domestica oramai si è proiettata fuori dalle case oggi la FAO ci dice che due miliardi e mezzo di persone ogni giorno mangiano non in casa ma mangiano all'aperto mangiano fuori mangiano in mezzo alla strada ovviamente in tutte le condizioni possibili di immaginare ecco quindi questo cibo che era consumato ovviamente in luoghi non semplicemente in mezzo alla strada ma in luoghi ben specifici quindi non c'è soltanto il ristorante la frizzeria l'oteca il pub la pagnotega c'è una varietà di configurazioni che secondo me noi come architetti possiamo studiare esplorare e in un certo modo contribuire a far evolvere grazie last fatto no non triste no dovrebbe dovrebbe un po' di modo di dire questo discorso con l'intervento di Massimo e chiudere con l'intervento che dal titolo micro food and sitting quindi in qualche modo forse una posizione del discorso oppure una dialettica allora l'intervento di gli ultimi due interventi quello di Giulia e quello di Gabriele non è stato organizzato non c'è niente di coordinato questo è il bello di questo con me l'intervento l'ultimo intervento di Gabriele apre il campo ad una riflessione che vorrei brevemente fare sottoditolo comunque chiaro appunti di ricerca appunti per una ricerca cioè una ricerca che in qualche modo si sta costruendo e si sta cercando di costruire le proprie tesi sono molto contento di questo convegno mi scuso particolar solo al che stamattina mi è impegnato nella presentazione di maio del laboratorio però se questa è la premessa credo che sia una ricerca assolutamente da fare da portare avanti e da far crescere che è molto interessante molto stimolante poi consentitemi è una ricerca divertente fatta tra persone insomma che in qualche modo in maniera anche non convenzionale insomma apprezzi apprezzano il lavoro uno dell'altro la faccio con i minuti ok allora reagiamo un po' a quello che diceva Gabriele e parte anche Giulia assistiamo insomma a fronte di quello che è stato il grande fenomeno ottocentesco della concentrazione della distribuzione del cibo e parte anche del consumo del cibo è stata la grande stagione dei mercati oggi assistiamo a un fenomeno che si affianca che io defino definito non io insomma c'è una parola oggi molto nuova una forma di diffusione una diffusione che è capillare puntuale sporadica pulviscolare in alcuni casi che si realizza attraverso dispositivi architettonici piccoli mobili flessibili adattabili dove vendita e consumo coesistono quindi in qualche modo siamo di fronte a una nuova una nuova frontiera che come diceva Gabriele certifica il fatto che sempre più persone vivono e gran parte della loro giornata fuori di casa e quindi moltissime di quelle che erano le attività che prima si facevano in tempi dedicati da una diversa organizzazione della giornata del tempo della giornata oggi vengono in qualche modo svolte secondo un tempo che ha cambiato le sue caratteristiche e questo intervento cioè la ricerca che io vorrei non la proposta di ricerca che io faccio oggi metterlo per acento questa questione del tempo intesa di una accezione di temporalità un brevissimo omaggio a quella che è stata una grandissima stagione certificata insomma da questo bellissimo libro di bianne panam l'architettore delle quattro ecologie usate da los angeles dove a un certo punto a proposito della seconda ecologia panam a proposito dei sistemi di diffusione di distribuzione di consumo del cibo introduce questa categoria del fantastico cioè di questo modo assolutamente anti-architettorico o se volete fortemente architettorico che avrebbe fatto impazzire e fece poi impazzire l'architettori nel suo celebre libro imparare da Las Vegas di queste architetture che in qualche modo sono autoreferenziali cioè architetture che in maniera fantastica evidenziano il prodotto che vengono quindi il distributore di hamburghi prende la forma dell'hamburghi il distributore dell'industria prende la forma dell'industria eccetera eccetera per dire cosa per dire che c'è stata una scagione in alcuni paesi tra cui l'America sostanzialmente ma ho scoperto questa ricerca che sto facendo in maniera non sospetta in tempo in tempo non sospetta in maniera non sospetta anche in Danmark in Svezia cioè quindi nell'Augido Nord Europa questa stessa ricerca veniva negli anni 40 quando chioschi e pub erano improntati proprio ad una sorta di analogia quasi a dire una sorta di imitazione tra contenitore e prodotto venduto oggi assistiamo quindi a questa forma di diffusione dicevo quindi si resta fuori di casa si mangia fuori di casa si fa la spesa mentre si torna a casa per mezzo di mezzo si mangia mentre si visita un museo il turismo ha incentivato il turismo delle città storie delle nostre città ma in generale tutte le grandi città insomma il merito di turismo ha incentivato questa forma di consumo del cibo qui siamo a Londra questa è una foto che ho fatto l'anno scorso un edificio che era stato appena demolito in attesa della sua ricostruzione e quindi poi ci sarebbe un altro ragionamento da fare in relazione a quelli che sono i tempi dell'architettura i tempi della trasformazione urbana i tempi delle dinamiche urbane e i tempi dell'urbanistica questo è un quadro tra pochi secondi in attesa di una ricostruzione di questo edificio questo spazio è stato destinato è stato occupato da una comunità che nell'attuale formato è un istorato e c'è da bello molto frequentato molto amato molto apprezzato dai benunisti ma anche da molti turisti questo è il famoso la fueling station che è sempre a Londra che è una sorta di distributore di benzina al centro in coscevia tra una subestrada di strada secondaria di un parco e era stata realizzata con un istitutore di benzina poi non è entrata in funzione ed è stata riciclata in un ristorante che ha cominciato vendendo cibi a prezzi molto popolari ed è diventato invece una sorta di luogo di culto di moltissimi giorni mesi quello di cui non mi occuperò invece di street food cioè di tutta quella possiamo dire tutto quell'insieme di iniziative spontanee che avvengono attraverso l'utilizzo di piccoli track tra le nostre parti soprattutto in Italia e sud Italia ancora di più attraverso l'ape la piaccia una specie di elemento di progetto qui vedete alcune evoluzioni di questo street food che in qualche modo si diventa più fascinato come vedete in basso a sinistra Maurice Ducassa che a Parigi ha forzatamente costretto dai suoi lavoranti dai suoi giovani masticieri aperto al centro del boulevard d'Italienne questo centro dove c'è scritto si fanno sciucaldi al momento lo sciucaldi Ducassa che è il più famoso sciucolo quindi anche in caso si è impiegato a questa logica per andare in conto a questa nuova potenza qui invece vedete alcune cose che mi vado nella mia Napoli questa iniziativa di appetitivo questo è una sorta di traccio itinerante quindi è una evoluzione dello street food cioè si organizzano si prenota questo tipo di traccio che raggiunge il più l'angolo di città di città che può essere di agaraccio piuttosto che positivo piuttosto che una stradina del centro storico questo qui si dispiega e tira fuori tutto quello all'occorrente che potesse vivere una pericola la stessa cosa avviene con prodotti che arrivano direttamente da aziende che producono mozzarella nella zona di Salernitano che arrivano nel centro della città e vengono prodotti tipici che spesso arrivano direttamente o che dall'azienda produttrice che sono stati prodotti proprio in poca di vengono prodotti al momento per esempio alcune ricotte alcune mozzarella vengono prodotte al momento con i sistemi identici a quelli che vengono utilizzati in azienda e questo chiaramente ha anche un carattere non solo di chiarezza trasparenza che è uno dei caratteri dominanti ma anche un aspetto di carattere comunicativo di da scarico di riavvicinamento dei clienti a quelli che sono le tecniche tradizionali di produzione di un prodotto che molto spesso troviamo sulla nostra età senza conoscerne la provenienza questa è un'immagine che mi ha molto colpito è un catalogo di cento piccoli track destinati a cento diverse potenziali forme di vendita di cibo quindi come se ogni cibo come se ogni categoria mercologica di cibo potesse avere un suo track un suo elemento dedicato io credo che siamo di fronte ad una forma almeno così mi piace leggerla ad una forma di città informale del consumo cioè una città che si è costruita che si costruisce quotidianamente da sola senza regole senza progetti senza programmi e che si approvia degli spazi della città in relazione a quelli che sono i gusti del momento quelli che sono le mode del momento quelli che sono le tendenze del momento infatti voi molto spesso trovate nelle grandi città ma anche nelle piccole e medie città un fenomeno che si sta sempre più diffondendo trovate delle settimane in cui trovate il vostro venditore di non so di pizze fritte a Napoli adesso c'è questa è ritornata di modo alla pizza fritta dopo anni di oscurantismo dovuto al predominio della pizza tradizionale margherita adesso invece a Napoli è tornata di modo alla pizza fritta e quindi trovate file interminabili in alcuni angoli improvvisamente girate un angolo e trovate una fila lunghissima di decine e decine di persone che attendono in maniera non ordinata per avere la propria per avere la propria di circoli di botta oppure scherzo mi piace mi piace molto questa definizione che ha dato di questo tipo di città di questi nuovi nuovi della città il famoso antropologo Marco Gemma la vita alla carte dove appunto c'è questo gioco di parole tra menu e bill in questa città che descriviamo che proviamo a descrivere attraverso questi elementi questi piccoli dispositivi viene bene una definizione che ha dato altro pronomi che sostiene un libro recentemente uscito che gli stili di vita e di consumo rappresentano la vera chiave di accesso per poter decodificare la variabilità degli assetti della città quindi in qualche modo stiamo riconoscendo al consumo di cibo soprattutto al consumo di cibo di cui sto parlando cioè di questo cibo diffuso capillare sporadico puntuale una chiave importantissima per capire in che modo sta cambiando quali sono le dinamiche evolutive della nostra città al di fuori al di là di quelle che sono le dinamiche urbane che vengono innescate da programmi progetti e piani di altro tipo appunto quelli che fanno riferimento ai tempi lunghi e oserei dire lenti oramai superati dell'urbanistica la città si costruisce sempre di più intorno degli eventi Ascoli negli ultimi vent'anni che la frequentiamo l'abbiamo vista trasformarsi oggi per esempio c'è da poco c'è stato il festival del fritto che è per due settimane invaso la piazza Ringo oppure altri festival le altre feste legate a prodotti tipici locali a Napoli da molti anni si svolge ormai il pizza festival che è un evento planetario se volete prenotarlo vi conviene prenotarlo perché sono già per il 2016 per il settembre 2016 sono già tutte e terminati i bietti l'ingresso al pizza village per dirvi il 40% diceva un amico che lavora nell'organizzazione il 40% di questi banchetti sono comprati in giancone per dire come fenomeni locati assumono un carattere planetario ma vedendo a quello che ci interessa insomma da affrontare questa ricerca e parte da questa provocazione che fa Peter Cook famoso miembro degli Archigram che conoscete tutti quanti che nel suo libro Workbook Architect Design Through Seven Motives a un certo punto nell'ultimo motivo nell'ultima ragione posta alla base di questa ricerca architettonica introduce questa domanda Henry from Sinnes possiamo imparare qualcosa dalla stupidità possiamo imparare dai chioschi lui ne fa una questione di carattere proprio etico e scrive un nel giugno del 2006 scrive un piccolissimo saggio su Ascitetto Arremin che si chiama saggio sulla iconografia dei chioschi per la vendita di cibo pubblicato un saggio brevissimo veramente sono pochissime rie ma fulminante che è stata per me una decina di anni fa uno dei motivi che mi ha dato la forza per poter lo stimolo per poter avviare questa ricerca sulla microarchitettura urbana questo è uno dei tanti chioschi che insieme al club studio che è il suo nuovo studio con i giovani architetti visionari almeno quanto lui condivide da umani vent'anni e è un chiosco fatto a Taiwan questo invece adesso una piccolissima carattata di che cosa può significare imparare provare a imparare da questa architettura dei chioschi questi sono due architetti teonesi che hanno vinto un importantissimo ricordo internazionale bandito per l'Aiba a Londra nel 2003 per la ricostruzione di questo geopata chiosco che era un famosissimo chiosco di vendita sotto uno dei conti benonati famosi di Londra per la vendita di cibo che negli anni 40 era destinato agli operatori portuali qui forse conoscete questo progetto famosissimo dei cortecini di spuma autori tra l'altro dei parassai famosissimo parassita sul tetto dell'edificio del porto di Rotterdam questo è un chiosco per pesce fritto per la degustazione del pesce fritto realizzato nel parco di questo nome pronunciabile a Rotterdam questo invece è la pezza che ne sto a parlare il White Luzin lo conoscete tutti l'avete visto l'avete mirato anche al Mazzi forse meno conosciuto questo Fanny Cycle che invece è un'evoluzione in quei tratti che abbiamo visto in chiave secondo quella della tradizione giapponese dove vedete la parte posteriore si modella a secondo del tipo di cibo del tipo di bevanda che deve essere distribuito infine questo piccolo bar food and drink realizzato a Porto questo è un concorso indetto da un'Università di Porto e a Tidoro per i giovani studenti laureati ed è stato realizzato con i comuni dell'università questo per dire anche un'altra cosa questa la progettazione di questi piccoli i piccolissimi oggetti che oggi costellano le nostre città è abbannaggio di giovani e giovanissimi architetti quindi un altro molto piacere se fossero stati anche molti più studenti ma ne riparleremo sicuramente questa è una pratica che gli studenti e i giovani architetti possono percorrere e poi rappresentare un primo ingresso nel mondo della professione nel mondo di un mestiere progettare una microarchitettura è un'attività estremamente complessa che in qualche modo simula alla piccola scala tutta la difficoltà la complessità la processualità che esiste alla grande scala solo che ha un vantaggio che essendo un prodotto che è al cavallo tra architettura e design può essere controllato in tutti i suoi tempi in tutti i suoi aspetti in maniera anche abbastanza elementare e soprattutto può essere controllato un processo di riproduzione dal momento che la progettazione è una progettazione che viene definita design to build cioè una progettazione fatta per prevedere tutte quelle che sono i problemi che le fasi costruttive possono correre perché non esiste il cantiere il cantiere non è più un building point un building site ma il cantiere diventa un assembly point per cui la ragione l'essenza di questi oggetti che oggi sono così corteggiati dai nostri giovani architetti sta proprio in questo cioè la possibilità di controllare tutti gli aspetti confrontandosi con temi apparentemente semplici ma che proiettano immediatamente il loro lavoro nella dimensione urbana quindi anziché lavorare sulla istituzione della casa della nonna della zia o del vecchio casolare eccetera ma benissimo queste sono occasioni molto spesso autofinanziate autocommesse cioè sono cose che si fanno per un amico che magari ha avuto una piccola licenza per realizzare temporaneamente in quel posto la vendita di trippa piuttosto che di mozzarella piuttosto che di vendita città quindi la microarchitettura è qualcosa che oggi si disegna lo spazio di un banco lo spazio della città soffertendo quelli che sono i termini da sempre conflittuali dell'architettura processo verso forma c'è una predominanza dell'aspetto processuale su quello dell'aspetto formale cioè in qualche modo si potrebbe dire che la processualità diventa una pratica costruttiva che viene sostenuta dall'emergenza e dalla necessità di costruire in quel momento in quel luogo in quella dimensione una piccolissima chiosa su una sperimentazione didattica che abbiamo fatto l'anno scorso a Civitanova Marche in un luogo che mi vedeva a fianco a Marco a Gigi che è un altro collega di questa scuola dove abbiamo provato a lavorare su questa città degli eventi cioè a trasformare Civitanova in una città temporanea una città che potesse essere costruita temporaneamente sulla base di quella che era la mappatura la partitura urbana degli eventi che durante tutto l'anno si svuotano in quella città è una città una città particolare una città per eccellenza degli eventi è una città da sempre sempre fiere importanti la fiera del calzatogliera negli anni 60 che era una delle più importanti d'Italia ma oggi a questa attività mercatale a questa attività fiera sia affiancare è un'attività festivaliera abbiamo provato a ragionare su e questo è in qualche modo il contributo che vorremmo dare alla ricerca alla realizzazione di microarchitetture che risolvessero con tattiche diverse il tema della occupazione temporale dello spazio quindi lavorando su due registi da un lato cercando di mettere a sistema le microarchitetture lavorando sul concetto di griglia intendendo che la griglia per inteso la griglia così come la intende Colas o come la intende Shumi mi riferisco alla grande stagione del concorso per il patto della millennia dove il tema della griglia dopo gli anni bui e dopo un'eclisse che c'era stata tra gli anni 70 attornò la riparta ma voglio ricordare negli anni 60 il grande Candidis aveva scritto un articolo da solo insieme a Dalis Consvidsson sulla Matt Green che in qualche modo rappresenta il pronomo e l'elemento generatore di queste ricerche che noi stiamo cercando di portare avanti cioè una griglia che potesse generare governare e gestire tutte le relazioni alla scala dell'insediamento alla scala dell'architettura e alla scala della costruzione e queste sono alcune sperimentazioni fatte dove vedete c'è sempre la realizzazione di una piccola infrastruttura su cui poi vengono poggiate piccolissime architetture chiudo con questa immagine invece che è molto interessante al di là della qualità del disegno la qualità della resa la ragazza che ha progettato questo piccolo intervento secondo me aveva colto molto dei presupposti del workshop è un mercato del pesce realizzato nel parcheggio proprio davanti di capannoni del corto di un mare molto vicino a dove lavorava Marco con il suo hub dei flussi dove sostanzialmente c'è un grande parcheggio l'idea era di costruire un mercato mobile che si aprisse il giorno e entrasse direttamente in contatto con un capannone nella distante poche decine di metri dove si svolgeva l'asta e dove si svolge tutte le mattine l'asta del pesce il pesce veniva rifornito in queste cabine che potevano scorrere sotto i binari e quindi creavano questa sorta di mobilità forzata appunto di reggimentata e creavano configurazioni diverse a secondo le ore del giorno a secondo i musici che se ne facevano a secondo i giorni della settimana per cui la mattina ci poteva essere il mercato del pesce a ora in grado ci poteva essere una zona dove si poteva consumare il pesce cucinato da alcuni piccoli ristoratori della zona che già fanno tutto questo offrono questo inizio infine la sera ritornavano si richiudeva e lasciava spazio a quello che era uno dei parcheggi strategici di tutto il centro storico di Cina chiudo dicendo che la microarchitettura in qualche modo a scala urbana mette d'accordo tre scale del progetto l'architettura l'industria design e il paesaggio che anche se disciplinarmente lontane nel caso della microarchitettura urbana tendono a confondere in quanto possono operare con secondo metodologie diverse che eliminano completamente il concetto di scalare e questa è una cosa molto importante oggi cioè noi architetti siamo stati abituati a lavorare per scale dal più grande al più piccolo molto spesso il più piccolo veniva espulso dall'architettura diceva per questo fanno i designer in realtà questo non è vero perché questa la microarchitettura è un'occasione di architettura molto importante perché con la microarchitettura si disegna il paesaggio futuro delle nostre città grazie grazie a tutti applausi bene abbiamo terminato ragazzi possiamo da un lato liberare gli studenti se ci sono no? no non so sono liberati dall'altro visto che abbiamo già parlato con il rappresentante dell'APRE per fare l'ultima parte come quella più organizzativa c'è qualcuno che può intervenire in merito a tutte le cose che abbiamo ascoltato e che ci siamo retti per esempio uno a caso Luca un po' persone di tenso Caterina che no pregato per capire cosa è allora io mi direi che in un attimo qui così cerchiamo di organizzarci per le prossime ecco un po' grande aspettiamo un attimo che arriva piccolo per le prossime etappe anche in merito a quello che abbiamo visto e soprattutto in merito alle attività che dovremmo occupare successivamente perché è ovvio che la ricerca è talmente ampia no? apre talmente tante strade che ce ne sono una speculazione complessiva no? posso diciamo tutte queste serie di queste declinazioni possono essere chiaramente comprese no? nello spazio che va dalla produzione al consumo del cibo attraverso la distribuzione alla cucina e del genere poi però abbiamo anche la necessità di focalizzare alcune questioni che ragioni invece degli horizon no? dei programmi horizon per cui dobbiamo agire credo su due livelli paralleli no? non sovrapposto non necessariamente sovrapposto da un lato ognuno di noi è chiaramente libero di portare avanti la sua ricerca è chiaro proprio e siamo mazzi a vincere anche poi di e scuri no? no no Grazie.